Fight Club di Chuck Polnick, letto dall'avido alchimista, musiche di Zero Copyright Free Music. Se vi piace quest'opera e il modo in cui la leggo potete aiutarmi ai link in descrizione, tramite una donazione Paypal o sostenendomi con la mia wishlist di Amazon, o perché no, commissionandomi un lavoro su commissione. Grazie, buon ascolto. Tyler mi trova a un posto da cameriere. Dopodiché c'è Tyler che mi caccia una pistola in bocca e mi dice che il primo passo per la vita eterna è che devi morire. Per molto tempo però io e Tyler siamo stati culo e camicia. La gente sempre a chiedermi se sapevo o no di Tyler Durden. Con la canna della pistola schiacciata in fondo alla gola, Tyler dice non moriremo sul serio. Con la lingua sento i fori del silenziatore che abbiamo praticato nella canna della pistola. Il grosso del rumore di uno sparo è quello del gas in espansione, poi c'è il piccolo bang ultrasonico che fa il proiettile per la grande velocità a cui viaggia. Per costruire un silenziatore basta aprire fori nella canna della pistola. Un sacco di fori. Così il gas può uscire e il proiettile viene rallentato al di sotto della velocità del suono. Sbaglia a fare i fori e la pistola ti esplode in mano. Questa non è una morte vera, dice Tyler. Saremo leggenda. Non invecchieremo. Con la lingua mi sposto la canna nella guancia e gli dico, Tyler, tu stai pensando ai vampiri. Il palazzo in cima al quale siamo adesso tra dieci minuti non ci sarà più. Prendi fumante acido nitrico concentrato al 98% e lo aggiungi a un quantitativo triplo di acido solforico. Questo lo fai nel ghiaccio. Poi ci aggiungi glicerina goccia a goccia con un contagocce. Ottieni nitroglicerina. Io lo so perché lo sa Tyler. Mescoli segatura alla nitro e ottieni un bel esplosivo plastico. Molta gente ci mescola cotone e ci aggiunge sali inglesi come solfato. Funziona anche così. Certa gente mette la paraffina nella nitro. Con me la paraffina non ha mai e poi mai funzionato. Dunque, Tyler e io siamo sul Parker Morris Building. Io con la pistola ficcata in bocca. E sentiamo uno scroscio di vetri. Guardiamo giù. È una giornata nuvolosa. Anche quassù. Questo è l'edificio più alto del mondo e quassù il vento è sempre freddo. C'è un silenzio così grande quassù che la sensazione che hai è di essere una di quelle scimmie spaziali. Fai quel po' di lavoro per cui sei addestrato. Tiri una leva, schiacci un bottone, non ci capisci niente e a un certo punto muori e basta. Dal centonovantunesimo piano guardi giù dal tetto e la strada che c'è sotto è una rugosa moquette di gente, tutti in piedi a guardar su. Il vetro rotto è quello di una finestra subito sotto di noi. Una finestra esplode nel lato del edificio e salta fuori uno schedario grosso come un frigorifero nero. Subito sotto di noi un classificatore a sei cassetti precipita per la facciata dritta del palazzo e precipita ruotando piano piano e precipita rimpicciolendo e precipita scomparendo nella folla sembrata. Chissà dove nei centonovantun piani sotto di noi le scimmie spaziali del comitato scherzi del progetto caos stanno dando fuori di matto e distruggono ogni straccio di storia. Il vecchio detto secondo il quale si uccide sempre chi si ama, beh, guarda, funziona in tutti e due i sensi. Con una pistola in bocca e la della pistola tra i denti puoi solo parlare a vocali. Siamo entrati nei nostri ultimi dieci minuti. Parte un'altra finestra e c'è una sventagliata di vetri, stile stormo di piccioni scintillanti. Poi, centimetro per centimetro dal fianco del palazzo, sbuca una scrivania di legno scuro spinta dal comitato scherzi finché si inclina e scivola e si capovolge in un magico oggetto volante perso nella folla. Fra nove minuti il Parker Morris Building non ci sarà più. Se hai abbastanza gelatina esplosiva e la spalmi ben bene sui pilastri delle fondamenta di una costruzione, puoi tirar giù qualsiasi palazzo al mondo. Devi comprimerla bene e compattarla con sacchetti di sabbia perché la deflagrazione vada contro il pilastro e non tutto attorno nel vuoto della rimessa sotterranea. Questa roba pratica non la trovi nei libri di storia. I tre modi per fabbricare napalm. 1. Mescoli in parti uguali benzina e concentrato di succo d'arancia surgelato. 2. Mescoli in parti uguali benzina e diet cola. 3. Sciogli nella benzina ghiaia da lettiera per gatti fino a ottenere un composto denso. Chiedetemi come fabbricare gas nervino. Tutte quelle pazzesche autobombe. 9 minuti. Il Parker Morris Building andrà giù. Tutti i suoi 191 piani ad agio come un albero che cade nella foresta. Legna. Puoi buttare giù quello che vuoi. Fa effetto pensare che il posto dove siamo sarà solo un punto nel cielo. Io e Tyler sul cidio del tetto. Io con la pistola in bocca mi domando quant'è pulita questa pistola. Ci dimentichiamo completamente tutta quanta questa pensata dell'omicidio suicidio di Tyler mentre guardiamo un altro schedario scivolare dal lato del palazzo e i cassetti che si aprono nel vuoto. Risme di carta bianca prese dalla corrente ascensionale e portate via nel vento. 8 minuti. Poi il fumo. Fumo che comincia dalle finestre sfondate. La squadra demolizioni farà partire la carica primaria fra 8 minuti circa. La carica primaria farà saltare la carica di base, i pilastri delle fondamenta si sgretoleranno e le sequenze fotografiche del Parker Morris Building finiranno in tutti i libri di storia. La serie fotografica di 5 immagini intervallate. Ecco qui il palazzo in piedi. Seconda foto. Il palazzo ha un angolo di 80 gradi. Poi 70 gradi. Il palazzo ha un angolo di 45 gradi nella quarta foto dove lo scheletro comincia a mollare e la torre si inarca leggermente. Nell'ultima foto la torre con tutti i suoi 191 piani piomberà sul museo nazionale che è il vero bersaglio di Tyler. Questo è il nostro mondo adesso. Il nostro mondo. Dice Tyler. E quella gente antica è morta. Se sapessi come va a finire questa storia sarei più che felice di essere già morto e in paradiso. 7 minuti. In cima al Parker Morris Building con la pistola di Tyler in bocca. Mentre scrivanie, schedari e computer piovono come meteore sulla folla intorno al edificio e colonne di fumo si alzano dalle finestre sfondate e tre strade più in là, la squadra di demolizione sta cronometrando tutto questo. Lo so. La pistola, l'anarchia, l'esplosione. In realtà è tutto come dire Marla Singer. 6 minuti. Qui c'è in ballo una sorta di triangolo. Io voglio Tyler, Tyler vuole Marla. Marla vuole me. Io non voglio Marla e Tyler non mi vuole per le palle. Non più almeno. Qui non si tratta di amore come in tenerci. Qui si tratta di proprietà come in possedere. Senza Marla Tyler non avrebbe niente. 5 minuti. Forse diventeremo leggenda, forse no. No, dico io. Ma aspetta. Che cosa sarebbe Gesù se nessuno avesse scritto i Vangeli? 4 minuti. Sposto con la lingua la canna nella guancia e gli dico. Se hai voglia di essere una leggenda, Tyler, ci penso io a farti diventare una leggenda. Io c'ero dal principio. Senza la pistola di Tyler in bocca. Ricordo tutto. 3 minuti. Grazie a tutti. Capitolo 2 Le grosse braccia di Bob erano chiuse a tenermi dentro e io ero spremuto nel buio fra le nuove tette sudate di Bob. Giganteschi ciondoli, grandi come immagineremmo quelle di Dio. In giro per lo scantinato della chiesa, pieno di uomini, ci incontriamo ogni sera. Questo è Art, questo è Paul, questo è Bob. Le spalle larghe di Bob mi fanno pensare all'orizzonte. I folti capelli biondi di Bob erano quelli che ti ritrovi quando il gel si fa chiamare schiuma modellante, così folti e biondi, e la scriminatura così dritta. Con le braccia che mi avvolgono, la mano di Bob mi accarezza la testa contro le nuove tette che gli sono sbocciate sul torace. Ma no, tra tutto bene, dice Bob. Piangi, piangi. Dalle ginocchia alla fronte, sento le reazioni chimiche che dentro Bob bruciano alimenti e ossigeno. Forse l'hanno tirato via tutto in tempo, dice Bob. Forse è solo un seminoma. Con un seminoma si ha una probabilità di sopravvivenza che è quasi del 100%. Le spalle di Bob si risucchiarono in una lunga boccata, poi mollano, mollano, mollano in singulti. Si risucchiano, mollano, mollano, mollano. Sono due anni che vengo qui tutte le settimane e tutte le settimane Bob mi avviluppa nelle sue braccia e io piango. Piangi, dice Bob e inala, si inghiozza. Coraggio, piangi. Il faccione bagnato mi si siede sulla testa e io mi ci perdo dentro. È adesso che mi metto a piangere. Piangere è facile nel buio soffocante, chiuso dentro qualcun altro. Quando vedi che tutto quello che riuscirai mai a combinare finirà in spazzatura. Tutto quello di cui potrai mai andare fiero finirà buttato via. E io sono perso dentro. È quanto di più vicino sono arrivato a dormire in quasi una settimana. È così che ho conosciuto Marla Singer. Bob piange perché sei mesi fa gli hanno tirato via i testicoli. E poi terapia di reintegrazione ormonale. Bob ha le tette perché il suo tasso di testosterone è troppo alto. Alzi troppo il livello di testosterone e il tuo corpo aumenta gli estrogeni per ritrovare un equilibrio. Questo è il momento in cui piango io perché, ora come ora, la tua vita si riduce a nulla. E nemmeno nulla. All'oblio. Troppi estrogeni e ti vengono zinne da femmina. Facile piangere quando ti rendi conto che tutte le persone che ami o ti respingono o vanno all'altro mondo. Dato un lasso di tempo abbastanza lungo, per tutti la percentuale di sopravvivenza principita a zero. Bob mi vuole bene perché crede che anche a me abbiano tolto i testicoli. Intorno a noi, nello scantinato della Trinity Episcopal, con i divani a scacchi da quattro soldi, ci saranno una ventina di uomini e una sola donna. Tutti avvinghiati a due a due. Quasi tutti in lacrime. Certe coppie sono curve in avanti, le teste schiacciate orecchio a orecchio come fanno i lottatori. Ingrippati. L'uomo in compagnia dell'unica donna le pianta i gomiti sulle spalle. Un gomito per parte ai lati della testa. La testa di lei tra le mani di lui e la faccia di lui che piange contro il collo di lei. Il volto della donna si storce da una parte. Lo sbircio da sotto l'ascella di Big Bob. Per tutta la vita, piange Bob. Perché sto a sbattermi? Non lo so. L'unica donna qui presente al restare uomini insieme. Il gruppo di sostegno dei malati di cancro testicolare. Questa donna soccombe al peso di uno sconosciuto e i suoi occhi si incrociano con i miei. Imbrogliona. 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 Capelli corti, nero opaco, occhi grandi come quelli dei cartoni animati giapponesi. Magra come una garza. Lattiginosa nel suo vestito con un motivo di rose scure come di tappezzeria. Questa donna era anche nel mio gruppo di sostegno ai tubercolotici di venerdì sera. Era alla mia tavola rotonda sul melanoma del mercoledì sera. Lunedì sera era al mio gruppo di leucemici dei ferni credenti. La scriminatura al centro dei capelli è una folgore sorta di cute bianca. A vedere questi gruppi di sostegno hanno tutti nomi approssimativi e incoraggianti. Il mio gruppo della sera del giovedì sui parassiti del sangue si chiamava Liberi e Puliti. Il gruppo a cui partecipo sui parassiti del cervello si chiama Aldi Sopra e Oltre. E la domenica pomeriggio, a restare uomini insieme nello scantinato della Trinity Episcopal, questa donna è di nuovo qui. Peggio ancora, non riesco a piangere con lei che guarda. Questa dovrebbe essere la mia parte preferita, abbracciato a piangere senza speranza con Big Bob. Lavoriamo tutti sodo tutto il tempo. Questo è l'unico posto in cui riesco veramente a lasciarmi andare. Questa è la mia vacanza. Sono stato al mio primo gruppo di sostegno due anni fa, dopo che ero tornato dal mio medico per l'insonnia. Tre settimane senza dormire. Tre settimane senza sonno e tutto diventa un'esperienza extracorporea. Il mio dottore ha detto, l'insonnia è solo il sintomo di qualcosa di più importante. Scopri che cos'è che non funziona davvero. Ascolta il tuo corpo. Io volevo solo dormire. Volevo piccole capsuline blu di Amital Sodium, quelle da 200 milligrammi. Volevo quei piccoli proiettili rossi e brù di Tuinal, seco, al color rosso rossetto. Il mio dottore mi ha detto di masticare radici di valeriana e fare più moto. Prima o poi mi sarei addormentato, diceva. Dal modo da vecchio frutto ammaccato in cui mi era cascata la faccia, mi avresti dato per morto. Il mio dottore ha detto che se volevo vedere dolore vero, dovevo fare un salto alla First Eucharist il martedì sera. Dare un'occhiata ai parassiti cerebrali. Dare un'occhiata alle malattie degenerative delle ossa, alle disfunzioni organiche del cervello. Dare un'occhiata a come tirano avanti i malati di cancro. Allora ci sono andato. Al primo gruppo dove sono andato ci sono state tutte le presentazioni. Questa è Alice, questa è Brenda, questo è Dover. Tutti sorridono con quell'invisibile pistola puntata alla testa. Io non do mai il mio vero nome ai gruppi di sostegno. Questo scheletrino di donna che si chiama Chloe è quella con il fondo dei calzoni che le pende mogio e vuoto. Chloe mi dice che la cosa peggiore dei suoi parassiti cerebrali è che nessuno vuole fare sesso con lei. Era così vicina alla morte che la sua assicurazione le aveva saldato la polizza sulla vita con 75 mila dollari e tutto quello che voleva era una sbattuta per l'ultima volta. Niente effusioni. Solo sesso. Che cosa dice un uomo? Che cosa si può dire? Cioè tutta questa agonia era cominciata con Chloe un po' stanca e adesso Chloe era troppo annoiata per sottoporsi alla terapia. Film pornografici. Aveva film pornografici a casa. Durante la rivoluzione francese mi ha raccontato Chloe le donne chiuse in prigione, le duchesse, le baronesse, marchese, quello che erano. Si scopavano qualsiasi uomo montasse loro addosso. Chloe mi alitava sul collo. Montami sopra. Sgancia, come dire. Scopare fa passare il tempo. La petit mort la chiamavano i francesi. Chloe aveva film pornografici se ero interessato. Amil nitrito, dubrificanti. Di norma avrei avuto un'erezione ma la nostra Chloe è uno scheletro immerso in cera gialla. Con Chloe conciata così io non sono niente. Meno di niente. Eppure Chloe mi spinge spalla contro spalla quando ci sediamo in circolo sul tappeto. Chiudiamo gli occhi. Toccava a Chloe condurci in meditazione guidata e lei ci ha trasportati nel giardino della serenità. Chloe ci ha guidati su per la china al palazzo delle sette porte. Dentro il palazzo c'erano le sette porte. La porta verde, la porta gialla, la porta arancione e Chloe ci ha guidati all'apertura di ciascuna. La porta blu, la porta rossa, la porta bianca. A trovare che cosa c'era dentro. Con gli occhi chiusi abbiamo immaginato il nostro dolore come una sfera di luce bianca risanatrice che ci avvolgeva i piedi e saliva alle ginocchia. Alla vita, al petto. L'aprirsi dei nostri chakra. Il chakra del cuore, il chakra della testa. Chloe ci ha guidati in grotte dove abbiamo incontrato l'animale della nostra forza. Il mio era un pinguino. C'era ghiaccio a coprire il fondo della grotta e il pinguino ha detto, scivola. Senza alcuno sforzo abbiamo scivolato per il tunnel, le gallerie e poi è stato il momento di abbracciarsi. Apri gli occhi. Questo era il contatto fisico-terapeutico, ha detto lei. Tutti dovevamo sceglierci un partner. Chloe mi si è buttata intorno alla testa a piangere. Aveva lingerie senza spalline a casa e piangeva. Chloe aveva unguenti e manette e piangeva mentre io guardavo la lancetta dei secondi del mio orologio compiere undici giri. Così io non ho pianto al mio primo gruppo di sostegno due anni fa. Non ho pianto nemmeno al mio secondo o al mio terzo gruppo di sostegno. Non ho pianto al gruppo dei parassiti del sangue o dei tumori viscerali o della demenza organica cerebrale. È così che va via l'insonnia. Tutto è così lontano. Una copia di una copia di una copia. L'insonnia ti distanzia da ogni cosa. Tu non puoi toccare niente e niente può toccare te. Poi c'è stato Bob. La prima volta che sono andato da quelli del cancro testicolare, Bob l'alcio è buono, Bob il mollaccione mi si è sciolto addosso in lacrime al restare uomini insieme. Quando è stato il momento di abbracciarsi, l'alcio è buono ha attraversato la stanza da una parte all'altra. Con le braccia lungo i fianchi, le spalle arrotondate, la sua bazza da alce contro il petto, gli occhi già strizzati di lacrime. Strisciando i piedi a passi invisibili con le ginocchia unite, Bob è scivolato per lo scantinato ed è venuto a hissarsi su di me. Bob mi si è sfrittellato addosso. Le grosse braccia di Bob mi hanno cinto. Big Bob era un dopato, mi ha detto. Giorni e giorni a impasticarsi di Dianabol e poi quell'osteroide da cavalli, il Wistrol. Una palestra sua. Big Bob era padrone di una palestra. Era stato sposato tre volte. Aveva fatto promozioni di vendite e magari lo avevo visto in tv. O no? Il programma su come aumentare il volume del proprio torace era praticamente un'invenzione sua. Gli sconosciuti con questo tipo di sincerità mi disossano, se mi intendete. Bob non mi intendeva. Forse gli era sceso solo uno dei due suoi huevos e sapeva che questo era un fattore di rischio. Bob mi ha raccontato della terapia ormonale post-operatoria. Un sacco di bodybuilder che esagerano con il testosterone si fanno crescere quelle che chiamano zinne. Ho dovuto chiedergli che cosa voleva dire con huevos. Huevos? Ha detto Bob. Gonadi, marroni, gioielli, attributi, palle. In Messico, dove vai a comprare gli steroidi, le chiamano uova. Divorzio, divorzio, divorzio. Ha detto Bob e mi ha mostrato la foto che teneva nel portafogli dove c'era lui enorme e a prima vista nudo in posa a qualche concorso. È un modo stupido di vivere. Ha detto Bob. Ma quando sei pompato e rasato sulla pedana con lo strato di grasso corporeo ridotto a 2% e i diuretici che al tocco ti fanno sentire freddo e duro come granito, sei accecato dalle luci e assordato dal sottofondo musicale finché i giudici ordinano. Estendi il braccio sinistro, fletti il bicipite e resta così. È meglio della vita vera. Sulla corsia di sorpasso, ha detto Bob, perso il cancro. Poi la bancarotta. Aveva due figli grandi che non rispondevano alle sue chiamate. Secondo il dottore, la cura per le zine era di tagliare solo i pettorali e drenare tutti gli eventuali liquidi. Questo è quanto ricordo, perché poi Bob mi si è chiuso tutto attorno con le braccia e la sua testa mi si è ripiegata sopra a coprirmi. Poi mi sono perso dentro l'oblio, buio e silenzioso e assoluto e quando finalmente mi sono allontanato dal suo petto molle, la sua maglietta era una maschera bagnata dall'espressione che assumo quando piango. Questo è stato due anni fa, la mia prima sera con i restare uomini insieme. A quasi tutte le riunioni dopo quella, Big Bob mi ha fatto piangere. Non sono mai tornato dal medico, non ho mai masticato radice di valeriana una sola volta. Questa era libertà. Perdere ogni speranza era la libertà. Se non dicevo niente, la gente del gruppo presumeva il peggio. Piangevano più forte, piangevo più forte anch'io. Alzi lo sguardo alle stelle e via. Tornando a casa a piedi dopo un gruppo di sostegno mi sentivo più vivo che mai. Io non ero l'ospite di cancro o parassiti del sangue. Io ero il piccolo centro caldo intorno al quale si aggrappolava la vita del mondo. Dormivo. Così bene non dormono nemmeno i neonati. Tutte le sere morivo e tutte le sere nascevo. Risorto. Fino a questa sera. Due anni di successi fino a questa sera. Perché non posso piangere con questa donna che mi guarda. Perché non posso toccare il fondo? Non posso essere redento. Mi morsi con l'interno della boccata al punto che la mia lingua crede di avere una tappezzeria ruvida. Sono quattro giorni che non dormo. Con lei che mi guarda. Io sono un bugiardo. Lei è un'imbrogliona. La bugiarda è lei. Alle presentazioni questa sera ci siamo presentati. Io sono Bob, io sono Paul, io sono Terry, io sono David. Io non do mai il mio vero nome. E questo è cancro. Giusto? Ha chiesto. Poi ha detto Beh, ciao. Io sono Marla Singer. Nessuno ha mai detto a Marla che tipo di cancro. Poi ci siamo dati tutti da fare a coccolare il nostro bimbo interiore. L'uomo piange ancora sul suo collo. Io guardo Marla tra l'una e l'altra tetta tremolante di Bob. Per Marla io sono un impostore. Dalla seconda volta che l'ho vista non dormo più. Comunque il primo imbroglione sono stato io. A meno che tutta questa gente non faccia finta. Con le loro lesioni, le loro tossi e i loro tumori. Persino a Big Bob. L'alce buono, il mollaccione. Guarda quei capelli scolpiti che ha. Ora Marla alza gli occhi. In questo preciso momento la menzogna di Marla riflette la mia menzogna. E io non vedo altro che menzogne. Nel mezzo di tutta la loro verità. Tutti che si stringono e arricchiscono a condividere la loro paura peggiore. Chi la morte gli stia piombando addosso e che abbiano una canna di pistola premuta contro il collo. Beh, Marla alza gli occhi al soffitto. E io sono qui, sepolto sotto un tappeto singhiozzante. E tutta un tratto persino la morte e l'agonia scendono al rango di contorno senza importanza. Bob, dico, mi schiacci. Cerco di bisbigliare e poi non lo faccio. Bob, cerco di tenere la voce bassa ma sto gridando. Bob, devo andare al cesso. Allontanato dal suo petto molle, la sua maglietta era una maschera bagnata dall'espressione che assumo quando piango. C'è uno specchio appeso sopra il lavabo in bagno. Se lo schema regge, vedrò Marla Singer all'alti sopra e oltre, il gruppo delle disfunzioni cerebrali. Marla sarà lì. Certo che Marla sarà là. E quello che farò io sarà sedermi accanto a lei. E dopo le presentazioni e la meditazione guidata, le sette porte del palazzo, la sfera di luce bianca guaritrice, dopo che avremo aperto i nostri chakra, quando sarà il momento di abbracciarsi, afferrerò quella troietta. E le sue braccia strette strette contro i suoi fianchi e le mie labbra schiacciate contro il suo orecchio, dirò Marla, impostora che non sei altro, vattene. Questa è la sola cosa autentica della mia vita e tu la stai mandando in malora. Turista che non sei altro. La prossima volta che ci vediamo le dirò Marla, non riesco a dormire con te qui. Ne ho bisogno. Vattene. Capitolo 3 Mi svegli all'Air Harbor International. A ogni decollo e atterraggio, quando l'aereo si inclinava troppo, speravo nello schianto. Quel momento guarisce la mia insonnia con l'anarcolessia. Quando potremmo morire impotenti come tabacco umano impacchettato nella fusoliera. E' così che ho conosciuto Tyler Durden. Ti svegli all'Ohar. Ti svegli alla guardia. Ti svegli all'Hogan. Tyler lavorava come proiezionista part-time. Per via della sua natura, Tyler poteva fare solo mestieri notturni. Se un proiezionista si ammalava, il sindacato chiamava Tyler. Certa gente è notambula, altra gente è diurna. Io potrei solo lavorare di giorno. Ti svegli al DALS. Le assicurazioni pagano un'indennità tripla se muori durante un viaggio d'affari. Speravo nell'effetto vortice. Speravo nei pellicani risucchiati nelle turbine e serraggi difettosi a ghiaccio sulle ali. Al decoll, con l'aereo lanciato sulla pista e gli elettoni all'insù, con gli schienari nella posizione di massima verticalità, i vassoi richiusi e tutto il bagaglio personale nei comparti superiori, all'avvicinarsi della fine della pista, nel momento di assoluto divieto di fumare, speravo in uno schianto. Ti svegli a Love Field. In una cabina di proiezione, se il cinema era vecchio abbastanza, Tyler faceva il cambio. Dove c'è da fare il cambio in cabina ci sono due proiettori e uno è in funzione. Questo lo so perché lo sa Tyler. Il secondo proiettore è pronto con la prossima pizza di film. Quasi tutti i film sono costituiti da 6 o 7 piccole bobine di pellicola da proiettare in un certo ordine. Nei cinema più nuovi, appiccicano insieme tutte le pellicole in un pizzone. Così non c'è da dover manovrare due proiettori e fare i cambi. Andare avanti e indietro. Pizza 1. Cambio. Pizza 2 sull'altro proiettore. Cambio. Pizza 3 sul primo proiettore. Cambio. Ti svegli al SeaTac. Studio le persone sulla tabella plastificata. Una donna galleggia nell'oceano con i capelli castani sparsi intorno alla testa e il cuscino del sedile stretto al petto. Gli occhi sono spalancati, ma non è né sorridente né crucciata. In un'altra immagine, delle persone calme come vacche hindù si allungano dai loro posti a prendere le maschere di ossigeno che sono balzate fuori dal soffitto. Deve essere un'emergenza! Abbiamo perso pressione! Ti svegli e sei al Willow Run. Cinema vecchio, cinema nuovo. Per trasportare un film al prossimo cinema, Tyler deve riportare la pellicola alle 6, 7 pizze originali. Le pizze piccole stanno in un paio di valigie esagonali di metallo. Ogni valigia ha la sua maniglia. Ne sollevi una e ti lussi una spalla, tanto pesano. Tyler fa il cameriere di banchetti. Serve ai tavoli di un albergo, giù in centro. E Tyler fa il proiezionista iscritto al sindacato di categoria. Non so quanto abbia lavorato Tyler in tutte quelle noti in cui io non riuscivo a dormire. Vecchi cinema con due proiettori. Lì il proiezionista deve essere sul posto di lavoro e cambiare proiettore nel momento preciso, cosicché il pubblico non si accorge dell'interruzione quando una pizza finisce e l'altra comincia. Bisogna stare attenti ai puntini bianchi che ci sono in cima, nell'angolo destro dello schermo. È il segnale. Ci fai caso e vedrai due punti in fondo alla pizza. Bruciature di sigarette, le chiamano nel giro. Il primo punto bianco è l'avvertimento dei due minuti. Metti in funzione il secondo proiettore perché raggiunga la velocità. Il secondo punto bianco è l'avvertimento dei cinque secondi. Emozione. Sei lì tra i due proiettori e la cabina suda, surriscaldata dalle lampade all'oxeno, che se le guardi dritto sei cieco. Passa il primo punto sullo schermo. L'audio di un film esce da un grande autoparlante che c'è dietro. La cabina di proiezione è insonorizzata perché dentro la cabina c'è il fracasso delle ruote dentate che trascinano la pellicola avanti dall'obiettivo sei piedi al secondo. Dieci fotogrammi a piede. Sessanta fotogrammi che scattano ogni secondo. Peggio di una mitraglia. I due proiettori sono in funzione. Tu sei in mezzo, pronto a intervenire su entrambe le leve dell'otturatore. I proiettori veramente antichi hanno un allarme montato sul mozzo del rullo di alimentazione. Anche dopo che il film viene passato in televisione, ci sono ancora i puntini di avvertimento. Persino nei film che fanno in aereo. Quando la maggior parte della pellicola è finita sul rullo di recupero, questo rullo si muove più lentamente e il rullo di alimentazione deve girare più veloce. Alla fine di una pizza, il rullo di alimentazione gira così veloce che fa partire l'allarme che ti avverte che è in ritardo il movimento del cambio. Il buio è torrido per via delle lampade dentro ai proiettori e suona l'allarme. Stai lì tra i due proiettori con le leve pronte e sorvegli l'angolo dello schermo. Passa al secondo punto, continui fino a cinque, chiudi l'otturatore, contemporaneamente ne apri un altro. Cambio. Il film continua, nessuno in platea si accorge. L'allarme è sul rullo di alimentazione così il proiettore può schiacciare un pisolino. Un proiezionista fa molte cose che non dovrebbe. Non tutti i proiettori sono muniti di allarme. A casa, certe volte, ti svegli nel tuo letto buio con il terrore di esserti addormentato in cabina e di aver saltato un cambio. Il pubblico ti grida dietro. Il pubblico, la loro fantasia cinematografica è andata in fumo e il gestore chiamerà il sindacato. Ti svegno e crisi field. Il fascino del viaggio è dovunque vado. Vita minuscola. Vado all'albergo, saponetta minuscola, flaconcini minuscoli di shampoo, panettino di burro per una sola fetta, colluttorio minuscolo e spazzolino da denti monouso, ripiegato nella poltrona d'aereo di dimensioni standard. Sei un gigante. Il problema è che hai le spalle troppo larghe, le tue gambe da alice nel paese delle meraviglie sono tutta un tratto così lunghe che toccano i piedi della persona che hai davanti. Arriva il pranzo. Un kit fai da te in miniatura di pollo alla cordon bleu. Una sorta di collage da comporre per tenerti occupato. Il pilota ha acceso l'avviso delle cinture e i passeggeri sono invitati a non avvicinarsi alla cabina. Ti svegli al makes field. Certe volte, Tyler si sveglia nel buio sfrigolante del terrore di aver saltato un cambio di pizza, o che la pellicola si è spezzata, o che la pellicola è andata fuori posto nel proiettore di quel tanto, che i denti della ruota di trascinamento stanno punzonando una fila di forellini nella traccia del sonoro. Dopo che una pellicola è finita nei denti, attraverso la traccia del sonoro passa la luce della lampada, e invece del parlato ti spara nell'orecchia un rumore di palle di elicottero e ogni botta di luce attraverso un foro di dente. E cos'altro non dovrebbe fare un proiezionista? Tyler ricava diapositive dai fotogrammi migliori di un film. Il primo frontale, nudo a figura piena, che si ricordi era dell'attrice Angie Dickinson. Ora che una copia di questo film è passato dal cinema della West Coast ai cinema della East Coast, la scena di nudo non c'era più. Un proiezionista si era preso un fotogramma. Un altro proiezionista si era preso un fotogramma, tutti volevano farsi un dia di Angie Dickinson nuda. Poi nei cinema sono arrivati i porno, e alcuni di questi proiezionisti si sono fatti collezioni diventate mitiche. Ti svegli al Boeing Field. Ti svegli al Lux. Abbiamo un volo quasi vuoto questa sera, perciò sentiti libero di alzare i braccioli e allungarti. Ti allunghi, zigzag, ginocchia piegata, schiena piegata, uomiti piegati su tre o quattro posti. Punto l'orologio a due ore prima o tre ore dopo Pacific Mountain Central Oyster Time. Perdi un'ora, guadagni un'ora. Questa è la tua vita, va finendo un minuto alla volta. Ti svegli a Cleveland Hopkins. Ti svegli di nuovo al SeaTac. Sei un proiezionista e sei stanco e rabbioso. Ma più che altro sei stufo. Così cominci prendendo un fotogramma porno ricavato da qualche altro proiezionista, che hai trovato nascosto da qualche parte in cabina, e giunti questo fotogramma di un mezzo braccio di penne rosso o di una voragine di vulva bagnata in primo piano in qualche altro film. Questo è una di quelle avventure di animali dove il cane e il gatto vengono abbandonati da una famiglia che parte per un viaggio e devono ritornare a casa da soli. Nella terza pizza, subito dopo il cane e il gatto, che hanno voci umane e si parlano e hanno appena finito di mangiare roba trovata in un bidone della spazzatura, passa in un lampo un'erezione. Cose che fa Tyler. Un singolo fotogramma di pellicola resta sullo schermo per un sessantesimo di secondo. Dividi un secondo in 60 parti uguali. Tanto dura l'erezione. Una torre di membro alto quattro piani sopra una platea di popcorn, rosso, viscido e terribile. E nessuno lo vede. Ti svegli di nuovo a Logan. Ed è un modo terribile di viaggiare questo. Vado alle riunioni al posto del mio capo, quando lui non ha voglia. Prendo appunti e poi torno da voi. Dovunque vado, ci vado per applicare la formula. Manterrò il segreto. È aritmetica elementare. Il problema è immutabile. Se una macchina nuova, costruita nella mia ditta, parte da Chicago con direzione ovest a 60 miglia orarie e il differenziale posteriore si blocca e la macchina si schianta e tutte le persone intrappolate dentro finiscono arse vive, la mia ditta dà mandato per un ritiro dal mercato? Si mette il numero dei veicoli nel campo A e lo si moltiplica per il coefficiente di probabilità di costo B. Quindi si moltiplica il risultato per il costo medio C in un indennizzo diretto senza causa in tribunale. A per B per C uguale X. Questo è quanto verrà a costare se non ritiriamo le macchine. Se X è maggiore del costo di un ritiro, ritiriamo le macchine ed è tutto sistemato. Ma se X è minore del costo di ritiro, allora non ritiriamo. Dovunque vado c'è la carcassa bruciata e ammucchiata di una macchina ad attendermi. So dove sono tutti gli scheletri. Vedetelo come la mia garanzia d'impiego. Orari d'albergo, cibi da ristorante. Dovunque vado stringo amicizie minuscole con le persone che mi stanno sedute accanto da Logan a Chrissy, a Willow Run. La mia qualifica è coordinatore delle operazioni di ritiro del mercato. Spiego all'amico di turno seduto di fianco a me. Ma mi adopero per un futuro da sguattero. Mi sveglio di nuovo a Lohar. Tyler ha giuntato un pene in tutti i film dopo il primo. Di solito primi piani o una vagina alla Grand Canyon con tanto d'eco, alta quattro piani e vibrante di pressione sanguigna, mentre Cenerentola ballava con il suo principe azzurro e la gente guardava. Nessuno ha protestato. La gente ha mangiato e bevuto, ma la serata non è stata la stessa. La gente si è sentita male o si è messa a piangere e non sapeva perché. Solo un colibri avrebbe potuto cogliere l'intervento di Tyler. Mi svegli al JFK. Mi sciolgo e mi gonfio al momento dell'atterraggio quando una ruota sbatte sulla pista, ma l'aereo si inclina su un fianco e resta in bilico nella decisione se raddrizzarsi o ruzzolare. In questo momento non conta niente altro. Alzi lo sguardo alle stelle e via. Non il tuo bagaglio. Non c'è niente che conta. Non il tuo alito cattivo. I finestrini sono scuri e le turbine rombano al contrario. La fusoliera prende l'angolazione sbagliata sotto il rugito delle turbine e non avrai più da compilare una nota spese, ricevuta richiesta per sborsi superiori ai 25 dollari. Non avrai più da andare a tagliarti i capelli. Un tonfo e la seconda ruota tocca l'asfalto. Lo staccato di cento fibie di cintura di sicurezza che si aprono e l'amico monouso di fianco al quale per poco non sei finito all'aldilà dice Spero che non perderai la tua coincidenza. Sì, anch'io. Questo è quanto è durato il tuo momento. E la vita continua. E così, per caso, Tyler e io ci incontriamo. Era ora di prendersi una vacanza. Ti svegli all'axe. Di nuovo. Come ho conosciuto Tyler è che sono andato a una spiaggia per nudisti. Era la fine dell'estate e io dormivo. Tyler era nudo e sudava, tutto ruvido di sabbia, i capelli bagnati e stopposi che gli pendevano sulla faccia. Tyler c'era da un pezzo prima che ci conoscessimo. Tyler pescava pezzi di legno dalla risacca e li trascinava sulla spiaggia. Nella sabbia bagnata aveva già piantato un semicerchio di pali a pochi centimetri l'uno dall'altro. Alti da arrivargli agli occhi. C'erano quattro ceppi e quando mi sono svegliato mi sono messo a guardare Tyler che ne trascinava su per la spiaggia un quinto. Tyler ha scavato una buca vicino a un'estremità del palo, poi ha sollevato l'altra estremità fino a farlo scivolare dentro la buca in modo che rimanesse eretto. Un po' sbilenco. Ti svegli in spiaggia. C'eravamo solo noi in spiaggia. Con un legno Tyler ha segnato una linea dritta nella sabbia lunga qualche metro. Tyler è tornato a raddrizzare il palo pestando sabbia intorno alla base. Io ero la sola persona a guardare l'operazione. Sai che ore sono? Mi ha chiesto Tyler gridando. Io porto sempre l'orologio. Sai che ore sono? Gli ho domandato dove? Qui. Ha risposto Tyler. Qui dove siamo? Erano le 4 e 6 minuti del pomeriggio. Dopo un po' Tyler si è seduto a gambe incrociate all'ombra dei pali eretti. Tyler è rimasto seduto per qualche minuto. Si è alzato ed è andato a fare il bagno. Si è infilato una maglietta e un paio di calzoni da tuta e si è apprestato ad andarsene. Ho dovuto chiedergli. Dovevo sapere che cosa faceva Tyler mentre io dormivo. Se potevo svegliarmi in un posto diverso, in un momento diverso, potevo svegliarmi diverso io stesso, no? Ho chiesto a Tyler se era un artista. Tyler si è stretto nelle spalle e mi ha mostrato come i 5 pali eretti erano più larghi alla base. Tyler mi ha mostrato la linea che aveva tracciato nella sabbia e come usava la linea per calibrare l'ombra proiettata da ciascuno. Certe volte ti svegli e hai bisogno di chiedere dove sei. Quello che Tyler aveva creato era l'ombra di una mano gigante. Ora, le dita erano dannosferato, tanto erano lunghe, e il pollice era troppo corto. Ma lui mi ha spiegato come alle 4 e mezzo in punto la mano era perfetta. L'ombra di una mano gigante era perfetta per un solo minuto e per un minuto perfetto Tyler si era seduto nel palmo di una perfezione che lui stesso aveva creato. Ti svegli e non sei da nessuna parte. Un minuto era abbastanza, ha detto Tyler. C'era da lavorare duro per ottenerlo, ma un minuto di perfezione valeva la fatica. Un momento era il massimo che ci si poteva aspettare dalla perfezione. Ti svegli e tanto basta. Si chiamava Tyler Durden ed era un proiezionista iscritto al sindacato ed era un cameriere di banchetti dell'albergo giù in centro e mi ha dato il suo numero di telefono. È così che ho conosciuto Tyler. Capitolo 4 Questa sera ci sono tutti i soliti parassiti cerebrali. All'aldi sopra e oltre c'è sempre un grande ricambio. Questo è Peter, questo è Aldo, questa è Marcy. Ciao! Le presentazioni a tutti quanti. Questa è Marla Singer e oggi è la prima volta che è qui con noi. Ciao Marla! All'aldi sopra e oltre cominciamo con l'aggiornamento. Il gruppo non si chiama parassiti parassitici del cervello. Non senti mai nessuno dire parassita. Tutti sono sempre in via di miglioramento. Oh, questa nuova medicina. Tutti hanno sempre appena svoltato l'angolo. Lo stesso, dappertutto. Vedi l'occhio storto di cinque giorni di mal di testa. Una donna si asciuga le lacrime involontariamente. Tutti si procurano una targhetta con il nome. E gente che hai visto e rivisto ogni martedì sera per un anno di fila. Eccoli che ti si fanno incontro con la mano pronta per la stretta e gli occhi sulla targhetta. Non credo che ci conosciamo. Nessuno direbbe mai parassita. Direbbero agente. Non dicono cura, dicono trattamento. Durante l'aggiornamento qualcuno racconta come l'agente gli si è diffuso nella colonna vertebrale e come adesso all'improvviso non ha più il controllo della mano sinistra. L'agente, spiega un altro, gli ha asciugato il rivestimento del cervello. Così ora il cervello gli si allontana dall'interno del cranio provocandogli crisi spasmodiche. L'ultima volta che sono stato qui, la donna di nome Chloe ha annunciato l'unica buona notizia che aveva. Chloe si è issata in piedi contro i braccioli di legno della sua sedia e ha dichiarato di non avere più paura della morte. Questa sera, dopo le presentazioni e l'aggiornamento, una ragazza che non conosco, con Glenda scritto sulla targhetta, dice di essere la sorella di Chloe e che alle due di notte dopo martedì scorso Chloe è finalmente morta. Oh, dovrebbe essere così dolce. Per due anni Chloe mi ha pianto addosso durante l'abbraccio e ora è morta. Morta sottoterra. Morta in un urna. Mausoleo. Colombario. Oh, la riprova che un giorno sei un essere pensante e che ti trascini in giro e il giorno dopo sei gelido e fertilizzante. Buffet per vermi. Questo è lo stupefacente miracolo della morte e dovrebbe essere così dolce se non fosse per... Oh, quella. Marla. Oh, e Marla mi sta guardando di nuovo. Individuato in mezzo ai parassiti cerebrali. Imbrogliona. Marla è l'imbrogliona. Tu sei l'imbroglione. Tutti quanti fanno una smorfia o sussultano e cascano abbaiando e il cavallo dei jeans gli diventa blu scuro. Beh, è solo una grande messa in scena. La meditazione guidata questa sera non mi porterà da nessuna parte. Dietro a ciascuna delle sette porte del palazzo. La porta verde, la porta arancio. Marla. La porta blu. Dietro c'è Marla. Bugiardo. Nella meditazione guidata attraverso la caverna del mio animale del potere. Il mio animale del potere è Marla. Marla con gli occhi al soffitto. Bugiardo. Papelli neri e cuscinose labbra francesi. Impostora. Labbra italiane da divano in pelle scura. Ah, non puoi sfuggire. Chloe era quella autentica. Chloe era come sarebbe apparso lo scheletro di Johnny Mitchell a farlo sorridere e girare a una festa a dispensare extra carinerie alla gente. Immaginatevi il noto scheletro di Chloe, grande come un insetto, che corre per i saloni e le gallerie delle sue viscere alle due di notte. Le sue pulsazioni sono una sirena che si sente arrivare dall'alto ad annunciare «Prepararsi per la morte in dieci, nove, in otto secondi. La morte avrà inizio fra sette, sei». Di notte, Chloe correva nel labirinto delle sue vene collassanti e tubature scoppiate che sprizzavano l'infa calda. I nervi affiorano come inneschi di trappole nei tessuti. Gli ascessi si gonfiano intorno a lei come calde perle bianche. L'annuncio che giunge dall'alto. «Prepararsi a evacuare le viscere in dieci, nove, otto, sette. Prepararsi a evacuare l'anima in dieci, nove, otto». Chloe che sguazza immersa fino alle caviglie nell'acquitrino espulso dai suoi reni guasti. «La morte avrà inizio in cinque, cinque, quattro, quattro». Intorno a lei, vita parassitica le colora spruzzo il cuore. «Quattro, tre, tre, due». Chloe si arrampica mano dopo mano per la parete cagliata della propria gola. «La morte avrà inizio fra tre, fra due». La luce della luna scende nella bocca aperta. «Prepararsi per l'ultimo respiro. Ora! Evacuare! Ora! L'anima abbandoni il corpo. Ora! Ha inizio la morte. Ora!» «Oh, questo dovrebbe essere così dolce. Il ricordato, caldo rimestio di Chloe ancora tra le mie braccia. E Chloe è morta chissà dove». «Invece no. Mi sta guardando Marla. Nella meditazione guidata io apro le braccia per ricevere il mio bimbo interiore e il mio bimbo è Marla. Nessuna sfera di luce bianca guaritrice. Bugiardo. Nessun chakra. Immagina i tuoi chakra aprirsi come fiori e al centro di ciascuno un'esplosione rallentata di dolce luce. Bugiardo. I miei chakra restano chiusi. Quando finisce la meditazione, tutti si sgranchiscono e storcono il collo e si alzano in piedi per prepararsi. Contatto fisico-terapeutico. Per l'abbraccio faccio tre passi in avanti per piazzarmi contro Marla che mi guarda in faccia mentre io guardo tutti gli altri in attesa del segnale. Ecco fatto. Arriva il segnale. Abbracciate qualcuno. Le mie braccia serrano Marla. Scegliete qualcuno di speciale per voi questa sera. Marla ha le mani inchiodate al mio corpo. Dite a questo qualcuno come vi sentite. Marla non ha un cancro ai testicoli. Marla non ha la tubercolosi. Lei non sta morendo. D'accordo. A vederla secondo quella brillante filosofia del cibo per lo spirito, tutti stiamo morendo. Ma Marla non sta morendo nel modo in cui stava morendo Chloe. arriva il segnale. Condividetevi. Allora Marla, che bella sorpresa, eh? Condividetevi completamente. Allora, Marla, vattene. Vattene, vattene, vattene. Vattene, vattene. Coraggio, piangi se devi. Marla mi fissa. I suoi occhi sono castani. I suoi lobi sono increspati intorno ai fori per gli orecchini. Senza orecchini. Le sue labbra screpolate sono brinate di pelle morta. Coraggio, piangi. Nemmeno tu stai morendo, dice Marla. Intorno a noi, a coppie, sono in piedi a singhiozzare, uno appoggiato all'altro. Tu dici a me e io dico a te, dice Marla. Allora possiamo dividerci la settimana, rispondo io. Marla può prendersi le malattie delle ossa, i parassiti del cervello e la tubercolosi. Io mi tengo il cancro testicolare, i parassiti del sangue e la demenza organica cerebrale. Come la mettiamo con i tumori dell'apparato digerente? Una ragazza che ha fatto i suoi compiti. Ci dividiamo il cancro all'apparato digerente. A lei tocca la prima e la terza domenica di ogni mese. No, dice Marla. No, li vuole tutti per sé. I cancri, i parassiti. Gli occhi di Marla si socchiudono. Non aveva mai sognato di potersi sentire così rigogliosa. Si sentiva veramente viva. La pelle le si andava rigenerando. Per tutta la vita non aveva mai visto una persona morta. Non aveva alcun senso reale della vita perché non aveva nulla con cui confrontarlo. Oh, ma c'erano l'agonia e la morte e la perdita e l'abbandono. Lacrime e fremiti. Terrore e rimorso. Ora che sa dove siamo diretti tutti quanti, Marla percepisce ogni momento della sua vita. No, lei non abbandona nessun gruppo. Non lo faccio per tornare alla vita come la sentivo prima, dice Marla. Lavoravo in un'impresa di onoranze funebri per avere sensazioni positive su me stessa. Solo il fatto che respiravo. Bel guaio se non riuscissi a trovare lavoro nel mio campo. Allora tornate nei tuoi funerali, dico io. I funerali non sono niente a paragone di questo, risponde Marla. I funerali sono cerimonie astratte. Qui hai un'esperienza reale della morte. Intorno a noi due ci sono coppie che si asciugano le lacrime. Tirano su con il naso, si consolano a pacche l'uno con l'altro e si separano. Non possiamo venirci tutti e due, le dico. Allora tu non venirci. Io ne ho bisogno. Allora vai ai funerali. Tutti si sono separati e giungono le mani per la preghiera di chiusura. Io lascio andare Marla. Da quanto tempo vieni qui? La preghiera di chiusura. Due anni. Un uomo nel circolo della preghiera mi prende la mano. Un uomo prende la mano di Marla. Queste preghiere cominciano e di solito il mio respiro si fa ansante. Oh benedicici, oh benedicici nella nostra collera e nella nostra paura. Due anni? Marla inclina la testa per bisbigliare. Oh benedicici e assistici. Tutti quelli che possono avermi notato in due anni o sono morti o sono guariti o non sono venuti più. Aiutaci, aiutaci. Va bene, dice Marla. Va bene, va bene. Puoi tenerti il cancro testicolare. Big Bob il mollaccione che mi piange addosso. Grazie. Conducici al nostro destino. Conducici alla pace. Non c'è di che. È così che ho conosciuto Marla. Capitolo 5 Quello della sicurezza me l'ha spiegato bene. Gli addetti ai bagagli possono ignorare una valigia ticchettante. Quello della sicurezza lui chiamava gli addetti ai bagagli lanciatori. Le bombe moderne non ticchettano. Ma una valigia che vibra? Gli addetti ai bagagli, i lanciatori, ecco che devono chiamare la polizia. Com'è che sono finito a vivere con Tyler? È per via di questa politica adottata da quasi tutte le compagnie aeree sui bagagli che vibrano? Nel mio viaggio di ritorno da Dallas avevo tutto quanto in quella sola borsa. Quando viaggi parecchio impari a imbagagliare ogni volta la stessa roba. Sei camicie bianche, due calzoni neri, il minimissimo indispensabile della sopravvivenza. Sveglietta da viaggio, rasoio elettrico a batterie ricaricabili, spazzolino da denti, sei paia di mutande, sei paia di calze nere. Salta fuori, alla partenza di Dallas, che la mia valigia vibrava. Secondo quello della sicurezza almeno. Così la polizia l'ha tirata giù. C'era tutto in quella borsa. Il necessaire per le mie lenti a contatto, una cravatta rossa a strisce blu, una cravatta blu a strisce rosse. Queste sono righe regimental, non righe da club. E una camicia tutta rossa. Una volta tenevo una lista di tutte queste cose appese alla porta della mia stanza, a casa. Casa mia era un appartamento al quindicesimo piano di un grattacielo, una sorta di archivio per vedove e giovani professionisti. Il pieghevole promozionale garantiva due spanne di cemento tra me e qualunque stereo televisore a tutto volume e al di là dei miei pavimenti, soffitti e muri. Due spanne di cemento aria condizionata, cosicché non potevi aprire le finestre e con tanto di parchè d'acero e interruttori a intensità variabile. Fino all'ultimo centimetro cubo attenuta d'aria puzzavano dell'ultimo pasto che ti eri cucinato ed è l'ultima andata in bagno. Sì, e c'erano piani, massello e faretti incassati a basso voltaggio. Comunque due spanne di cemento sono importanti quando la tua vicina di casa lascia scaricare le batterie del suo apparecchio acustico e deve mettere al massimo il volume del televisore per seguire i suoi giochi a premi. O quando una vulcanica fiammata di gas incandescente piena dei detriti che una volta erano il tuo arredamento e i tuoi effetti personali esplode dalle vetrate di casa tua lasciando il tuo mini appartamento, solo il tuo, ridotto a uno squarcio annerito nella facciata del grattacielo. Tutto. Incluso il tuo servizio di piatti di vetro verdi soffiati a mano con tutte quelle bollicine piccole piccole e le imperfezioni, i granelli di sabbia, a riprova ad essere l'opera degli onesti, semplici, infaticabili artigiani indigeni e di chissà dove. Beh, tutti questi piatti sbriciolati dall'esplosione. Immaginatevi le tende delle vetrate che volano fuori a consumarsi nel fuoco spinto dal vento caldo. Quindici piani al di sopra della città e questa roba che scende come lava, cenere e lapilli a spargersi su tutte le macchine parcheggiate. Io me ne volo a ovest. Addormentato a Mach 083 o 455 a miglia orari. Velocità relativa. Con gli artificieri dell'FBI che esaminano la mia valigia su una pista deserta a Dallas. Nove volte su dieci, dice quello della sicurezza, la vibrazione è un rasoio elettrico. Questo è il mio rasoio elettrico a batterie ricaricabili. Un'altra volta è un dildo a vibratore. Questo me lo ha detto il tizio della sicurezza sempre. Questo è stato alla mia destinazione senza la valigia, quando stavo per prendere un taxi e tornare a casa e trovare le mie lenzuola di flanella a brandelli sul marciapiede. Si immagini, dice quello della sicurezza, di andare a raccontare a una passeggera all'arrivo che il suo bagaglio è rimasto sulla East Coast per via di un dildo. E certe volte capita coi passeggiari maschi. È la politica della compagnia aerea non entrare nel merito specifico della proprietà nel caso di un dildo. Si usa l'articolo indefinito. Un dildo è entrato in funzione dando origine a una situazione di emergenza che ha richiesto lo scarico del suo bagaglio. Pioveva quando mi sono svegliato al momento dell'atterraggio a casa. Un annuncio ci ha invitati a cogliere l'occasione per controllare nei pressi del nostro posto a sedere di non aver dimenticato qualcuno degli effetti personali. Poi l'annuncio ha fatto il mio nome. Ero gentilmente pregato di parlare con un rappresentante della compagnia aerea che mi attendeva al cancello. Ho portato indietro il mio orologio di tre ore ed era ancora mezzanotte passata. C'era il rappresentante della compagnia aerea al cancello e c'era quello della sicurezza a dirmi «Il suo rasoio elettrico ha bloccato il suo bagaglio a Dallas». Quello della sicurezza chiamava gli addetti ai bagagli lanciatori. Poi li ha chiamati rampanti. Per farmi sapere che sarebbe potuto andare peggio mi ha detto che almeno non era un dildo. Poi, forse perché io sono maschio e lui è maschio ed è luna di notte, magari per farmi ridere mi ha detto che quelli del mestiere chiamavano gli assistenti di volo cameriere spaziali o materassi ad aria. Dava l'impressione di indossare una divisa da pilota, camicia bianca, con piccole spalline e cravatta blu. Il mio bagaglio era a posto, ha detto. Sarebbe arrivato il giorno dopo. L'uomo della sicurezza mi ha chiesto il nome, indirizzo e ricapito telefonico e poi mi ha chiesto che differenza c'è tra un preservativo e un aereo. In un preservativo ci entra una sola testa di cazzo, ha detto. Ho preso un taxi per tornare a casa usando i miei ultimi dieci dollari. Anche la polizia aveva fatto un sacco di domande. Il mio rasoio elettrico, che non era una bomba, era ancora a tre fuso orari da me. Qualcosa che era una bomba, una grossa bomba, aveva distrutto i miei originali tavolini in giurunda, a forma di yin, color verde ramarro e yang arancione, da incastrare insieme per formare un cerchio. Ora erano solo un cumulo di schegge. Il mio salotto a Paranda, con le fodere arancione, firmato da Erika Peccari, era un ammasso di immondizie. E io non ero il solo schiavo del mio istinto di nidificazione. Gente che conosco una volta andava a sedersi in bagno con una rivista pornografica, adesso invece va a sedersi in bagno con un catalogo dell'Ikea. Abbiamo tutti la stessa poltrona Johan Eshov, con lo stesso disegno strinne a stresce verdi. La mia è precipitata per 15 piani, bruciando dentro una fontana. Abbiamo tutte le stesse lampade Rispallahar costruite con filo di ferro e carta ecologica non sbiancata, ma le mie sono corriandoli. Tutte quelle sedute in bagno. Il servizio di posate alle, acciaio inossidabile a prova di lavastoviglie. L'orologio Vilt d'anticamera, di acciaio zincato. Non avevo proprio potuto farne a meno. Ah, la console ripiani Klimpsk. Oh sì. Le cappaliere Hemlig, sì. Tutta roba che luccicava, disseminata nella strada sotto il mio grattacielo. La mia parur coordinata mommala, disegnata da Thomas Harilla e disponibile in quanto segue. Violetto, fucsia, cobalto, ebano, antracite, biancolatte e ovinaccia. Una vita intera per comprare questa roba. I miei tavolini calix, dallo smalto fine per le occasioni. I miei tavolini da nido. Compri mobili. Dici a te stesso, questo è il divano della mia vita. Compri il divano, poi per un paio d'anni sei soddisfatto al pensiero che dovesse andare tutto storto, almeno hai risolto il problema divano. Poi il giusto servizio di piatti. Poi il letto perfetto. Le tende, il tappeto. Poi sei intrappolato nel tuo bel nido e le cose che una volta possedevi, ora possiedono te. Finché sono arrivato a casa dall'aeroporto. Il portiere sbuca dalle ombre per dire che c'è stato un incidente. La polizia è stata qui e ha fatto un sacco di domande. La polizia pensa che possa essere stato il gas. Forse si è spenta la fiammella pilota, oppure un fornello è rimasto aperto e il gas è arrivato al soffitto. E il gas ha riempito l'appartamento da cima a fondo, stanza dopo stanza. Quando tutte le stanze sono state piene, è partito il compressore in fondo al frigorifero. Deflagrazione. Le vetrate nei telai di alluminio sono esplose e via in fiamme i divani e le lampade e i piatti e le lenzuola, via gli annuari del liceo e i diplomi e il telefono. Tutto sparato dal quindicesimo piano in una sorta di esplosione solare. Oh, non il mio frigorifero. Avevo collezionato ripiani su ripiani di senapi, alcune macinate nel mortaio, alcune in stile pub inglese. C'erano condimenti per insalata senza grassi in quattordici sapori diversi e sette tipi di capperi. Lo so, lo so. Una casa piena di condimenti e nessun cibo vero. Il portiere si è soffiato il naso e qualcosa è finito nel suo fazzoletto con lo schiocco sano di una persona sicura nel guantone del ricevitore. Si poteva salire al quindicesimo piano, ha detto il portiere, ma nessuno poteva entrare nell'appartamento. Ordini della polizia. La polizia aveva chiesto se un'ex fidanzata che me l'aveva giurata tanto da farmi una cosa del genere o se mi ero procurato qualche nemico che avesse accesso alla dinamite. Non valeva la pena salire, ha detto il portiere. È rimasto solo il guscio di cemento. La polizia non aveva escluso il dolo. Nessuno aveva sentito l'odore di gas. Il portiere solleva un sopracciglio. Questo passava il suo tempo a filare le cameriere e le infermiere che lavoravano negli appartamenti grandi dell'ultimo piano e aspettava seduto nelle poltrone dell'atrio le loro discese in ascensore dopo il lavoro. Tre anni che vivevo lì e tutte le sere trovavo il portiere seduto a leggere i suoi Elri Quinn mentre io rigiravo armi e bagagli per aprire la porta d'ingresso. Il portiere solleva un sopracciglio e dice che certa gente se ne parte per un lungo viaggio e lascia in casa una candela. Un cero lungo lungo acceso in mezzo alla pozza di benzina. È gente con difficoltà economiche a fare cose del genere. Gente che cerca un modo per sgusciare da sotto. Gli ho chiesto di lasciarmi usare il telefono dell'atrio. Un sacco di giovani cerca di far colpo sul mondo comprandosi questo e quello, ha commentato il portiere. Io ho chiamato Tyler. Il telefono ha squillato nella casa che Tyler aveva in affitto in Paper Street. Oh Tyler, ti prego rispondi. E il telefono squillava. Il portiere mi si è affacciato sulla spalla e ha detto Un sacco di giovani non sanno che cosa vogliono veramente. Oh Tyler, ti prego salvami. E il telefono squillava. I giovani credono di volere il mondo intero. Liberami dal mobili svedesi. Liberami dall'artistico funzionale. Il telefono squillava e Tyler ha risposto. E non sai quello che vuoi? Ha detto il portiere. Finisci con un mucchio di roba che non vuoi. Possa non essere mai completo. Possa non essere mai soddisfatto. Possa non essere mai perfetto. Liberami Tyler dall'essere perfetto e completo. Ci siamo dati appuntamento in un bar. Il portiere ha voluto un numero dove la polizia potesse rintracciarmi. Pioveva ancora. La mia Audi era ancora al suo posto, ma con una lampada a stelo alogena da capo sparsa sul parabrezza. Io e Tyler ci siamo trovati e abbiamo bevuto tanta birra. e Tyler ha detto che sì. Potevo andare a stare da lui, ma dovevo fargli un favore. L'indomani sarebbe arrivata la mia valigia con il minimo indispensabile. Sei camice, sei paia di mutande. Lì, ubriaco in un bar dove nessuno ci stava a guardare e nessuno importava niente di noi, ho chiesto a Tyler che cosa voleva che facessi. Voglio che mi tiri un cazzotto più forte che puoi. Capitolo 6 Ho cominciato da due schermate la mia demo per quelli della Microsoft e sento sapore di sangue in bocca. E devo cominciare a deglutire. Il mio capo non conosce il materiale, ma non mi lascia condurre la demo con un occhio nero e metà faccia gonfia per i punti sotto la guancia. I punti si sono allentati e li sento con la lingua. Pensate a una lenza aggrovigliata sulla spiaggia. Io li immagino come i punti neri che si danno a un cane ferito e continuo a inghiottire sangue. Il mio capo sta facendo la presentazione e leggendo il testo che gli ho scritto io. Mentre io mi occupo della proiezione, quindi sono in fondo alla stanza al buio. Le labbra mi diventano appiccicose di sangue e io mi sforzo di ripulirmele con la lingua. E quando le luci si accenderanno, mi rivolgerò ai rappresentanti della Microsoft e mi rivolgerò a Ellen e Walter e Norbert e Linda. «Grazie per essere venuti!» con la bocca luccicante di sangue e il sangue che mi spunta dalle fessure tra i denti. Si riesce a mandare giù una bicchierata di sangue prima di vomitare. Domani è giornata di Fight Club e io il Fight Club non me lo perdo. Prima della presentazione, Walter della Microsoft stand e ha sorriso la sua mandibola a badile che sembra una pubblicità, abbronzata dal colore di una patata arrosto. Walter con il suo anello con sigillo mi stringe la mano, me la prende nella sua liscia e morbida e dice «Non vorrei vedere come è conciato l'altro!» La prima regola del Fight Club è che non si parla del Fight Club. Dico a Walter che sono caduto, mi sono ridotto così da solo. Quando ero seduto davanti al mio capo a spiegargli come si combina la sequenza delle dia rispetto al testo e in che momento avevo intenzione di inserire il filmato, il mio capo mi domanda «In che razza di casino ti cacci tutte i fine settimana?» «È solo che non ho voglia di morire senza qualche cicatrice addosso», rispondo. «Non serve più a niente avere un bel corpo in tonso. Vedi quelle belle macchine con la loro bella carrozzeria virginale? Fresche fresche di concessionari a classe 1955 e a me viene sempre da pensare «Dio, che spreco!» La seconda regola del Fight Club è che non si parla del Fight Club. Magari a pranzo il cameriere viene al tuo tavolo e il cameriere ha due occhi neri come un panda gigantesco per il combattimento di sabato scorso. Quando lo hai visto con la testa schiacciata tra il pavimento di cemento e il ginocchio di un ragazzone di 100 chili che gli ha picchiato cazzotti nel naso a ripetizione in un rintoccare di pacche piatte e pesanti che hai sentito benissimo in mezzo a tutte le urla finché il cameriere è riuscito a prendere abbastanza fiato da spruzzare sangue dicendo «Basta!» Non dici niente perché il Fight Club esiste soltanto nelle ore che vanno tra quando il Fight Club comincia e quando il Fight Club finisce. Hai visto il ragazzo che lavora in copisteria? L'hai visto un mese fa, questo ragazzo che non si ricorda mai di fare i tre buchi in un ordine o infilare le striscioline di carta colorata tra le serie di copie ma questo ragazzo è stato un dio per dieci minuti quando l'hai visto sgonfiare un impiegato grosso due volte lui e montargli sopra e tramortirlo di cazzotti finché non è stato costretto a smettere. Questa è la terza regola del Fight Club. Quando qualcuno dice «Basta» o non reagisce più anche se sta solo facendo finta il combattimento è finito. Ogni volta che rivedi il ragazzo non puoi dirgli quanto bene ha combattuto. Solo due per ogni combattimento. Un combattimento per volta. Si combatte senza camicia e senza scarpe. Il combattimento dura per il tempo che stabiliscono loro. Queste sono le regole del Fight Club. Quelli del Fight Club non sono quelli del mondo reale. Anche se tu dicessi al ragazzo della copisteria che è un combattente fenomenale, non parleresti alla stessa persona. Quello che sono io al Fight Club non è uno che il mio capo conosce. Dopo una sera al Fight Club ogni cosa del mondo reale si ridimensiona. Niente può farti più incazzare. La tua parola è legge e se qualcuno viola quella legge o la mette in dubbio non ti incazzi lo stesso. Nel mondo reale io sono un coordinatore di operazioni di ritiro in giacca e cravatta, seduto al buio con la bocca piena di sangue a cambiare i valori di spesa e le dia, mentre il mio capo spiega alla Microsoft come ha scelto per icona una particolare sfumatura di celeste fiordaliso. Il primo Fight Club siamo stati io e Tyler a scazzottarci. Il passato era sufficiente quando tornavo a casa rabbioso e sapevo che la mia vita non stava dietro al mio piano quinquennale. Mettermi a ripulire l'appartamento o lucidare la macchina. Un giorno sarei morto senza una cicatrice addosso e avrei lasciato un gran bell'appartamento e una gran bella macchina. Molto, molto belli fino al formarsi di un nuovo velo di polvere o fino all'arrivo di un nuovo proprietario. Non c'è niente di statico. Persino la gioconda se ne va in pezzi. Da quando c'è il Fight Club posso far dondolare metà dei dentico in bocca? Forse l'automiglioramento non è la risposta. Tyler non ha mai conosciuto suo padre. Forse la risposta è l'autodistruzione. Tyler e io andiamo ancora al Fight Club insieme. Il Fight Club è lo scantinato di un bar adesso. Il sabato sera dopo l'ora di chiusura e settimana dopo settimana quando ci vai trovi più gente. Tyler si piazza sotto l'unica luce al centro del nero scantinato di cemento e vede quella luce riflettersi nel buio in cento paia di occhi. La prima cosa che Tyler grida è La prima regola del Fight Club è che non si parla del Fight Club. Quanto a me io ho conosciuto mio padre per sei anni ma non mi ricordo niente. Mio padre mette su una nuova famiglia in una nuova città ogni sei anni circa. Più che una nuova famiglia è come se mettesse su una nuova filiale. Quella che vede al Fight Club è una generazione di uomini cresciuti da donne. Tyler sotto l'unica luce nell'oscurità del dopo mezzanotte in uno scantinato pieno di uomini. Tyler che snocciola le altre regole. Due uomini per combattimento. Un combattimento per volta. Niente scarpe niente camicia il combattimento dura finché vogliono i combattenti. E la settima regola grida Tyler è che se questa è la vostra prima sera al Fight Club dovete combattere. Il Fight Club non è il football in tv. Non sei lì a guardare un gruppo di uomini che non conosci e che da d'altra parte del mondo si pestano dal bingo via satellite con uno scarto di due minuti di ritardo. Pubblicità di birra ogni dieci minuti e interruzioni per l'identificazione dell'emittente. Dopo che sei stato al Fight Club guardare football in tv è come guardare pornografia quando potresti fare ottimo sesso di persona. Il Fight Club diventa la tua buona ragione per andare in palestra e tenere i capelli corti e tagliarti le unghie. Le palestre dove vai sono affollate di tizi che cercano di sembrare uomini come se essere un uomo equivalesse ad avere l'aspetto che ha in mente uno scultore o un pubblicitario. Come dice Tyler anche un soufflé è bello bombato. Mio padre non ha mai fatto l'università perciò era importantissimo che io facessi l'università. Dopo l'università l'ho chiamato in interurbana e gli ho chiesto e adesso? Mio padre non sapeva. Quando mi sono trovato un lavoro e ho compiuto 25 anni in interurbana gli ho chiesto e adesso? Mio padre non sapeva così mi ha risposto sposati. Sono un ragazzo trentenne e mi domando se un'altra donna è davvero la risposta che mi occorra. Quello che succede al Fight Club non succede a parole. Certi hanno bisogno di un combattimento alla settimana. Questa settimana Tyler dice che si batteranno i primi 50 che entrano e basta. Nessun altro. La settimana scorsa ho battuto un dito sulla spalla di un tizio e siamo stati mesi in lista per un combattimento. Lui doveva aver avuto una settimana tutta storta ma ha inchiodato le braccia dietro la testa e mi ha sbattuto la faccia contro il pavimento finché i denti mi hanno squarciato l'interno della guancia. Lui doveva aver avuto una settimana tutta storta. Mi ha inchiodato le braccia dietro la testa e mi ha sbattuto la faccia contro il pavimento finché i denti non mi hanno squarciato l'interno della guancia e un occhio mi si è gonfiato tanto che mi si è chiuso e mi si è messo a sanguinare e dopo che ho detto basta ho guardato giù e sul pavimento c'era un'impronta della metà della mia faccia nel sangue. Tyler mi ha affiancato e tutte e due siamo rimasti a guardare la grande O della mia bocca con tutto il sangue intorno alla fessurina del mio occhio che ci fissava dal pavimento e Tyler dice complimenti io stringo la mano al tizio e gli dico che è stato un bel combattimento lui mi dice facciamo la settimana prossima io cerco di sorridere nel gonfiore e gli dico ma guardami perché non facciamo il mese prossimo non c'è essere vivi come sei vivo al Fight Club quando sei tu e l'altro sotto quell'unica luce in mezzo a tutti quelli che guardano il Fight Club non c'entra con il vincere o perdere i combattimenti il Fight Club è questione di parole vedi un tizio che viene al Fight Club per la prima volta e ha il culo come una pagnotta bianca e di lo stesso sei mesi dopo e sembra scolpito nel legno lo vedi si sente sicuro di affrontare qualsiasi cosa c'è casino nel Fight Club come in ginnastica ma il Fight Club non c'entra col mettersi in tiro ci sono schiamazzi isterici in gergo come in chiesa e la domenica pomeriggio quando ti svegli ti senti redento dopo un mio ultimo combattimento il mio avversario ha pulito per terra mentre io chiamavo la mia assicurazione per informarli che passavo al pronto soccorso all'ospedale Tyler dice che sono caduto certe volte Tyler parla di me mi sono ridotto così da me stesso fuori stava spuntando il sole non si parla del Fight Club perché salvo che per 5 ore dalle 2 alle 7 della domenica mattina il Fight Club non esiste quando abbiamo inventato il Fight Club io e Tyler nessuno dei due aveva mai partecipato prima a un combattimento se non sei mai stato in un combattimento sei pieno di interrogativi sei lì che ti chiedi com'è farsi male cosa sarebbe capace di fare un altro uomo a un altro io sono stato il primo a cui Tyler si è sentito di poter chiedere senza timore ed eravamo ubriachi tutti e due e in un bar dove nessuno importava niente di noi così Tyler ha detto voglio che mi fai un favore voglio che mi tiri un cazzotto più forte che puoi io non volevo Tyler mi ha spiegato tutto tutta la storia di non voler morire senza cicatrici di essere stanco di vedere solo combattimenti di professionisti e di voler sapere di più su se stesso mi ha raccontato dell'autodistruzione all'epoca la mia vita mi sembrava troppo completa e forse abbiamo bisogno di spaccare tutto per tirar fuori qualcosa di meglio da noi stessi mi sono guardato intorno e gli ho detto sì va bene gli ho detto ma fuori nel parcheggio così siamo usciti e gli ho chiesto se lo voleva in faccia o in pancia sorprendimi ha detto Tyler io ho detto che non avevo mai picchiato nessuno allora dai fuori di matto ha detto Tyler io gli ho detto di chiudere gli occhi no ha detto Tyler come tutti quelli al primo combattimento al fight club ho preso fiato e ho menato una sventola al mento di Tyler come in tutti i film di cowboy che avevo visto e nel caso mio il pugno lo ha raggiunto al collo merda ho detto ma questo non conta voglio riprovare sì che ha contato ha detto Tyler e mi ha colpito dritto di botto come un guantone spinto da una molla in un cartone animato del sabato mattina in pieno petto sono finito contro una macchina eravamo lì uno davanti all'altro Tyler a massaggiarsi il collo e io a tenermi una mano sul petto tutti e due coscienti di essere finiti in un posto dove non eravamo mai stati e come il gatto e il topo nei disegni animati eravamo ancora vivi e volevamo sapere fin dove saremmo potuti arrivare restando vivi complimenti ha detto Tyler colpisci mi di nuovo gli ho detto no tu colpisci me ha detto Tyler così l'ho colpito una grande sbracciata da donna poco sotto l'orecchio e Tyler mi ha spinto all'indietro e mi ha calcato il tacco della scarpa nello stomaco quello che è successo subito dopo e oltre non è successo a parole ma il bar ha chiuso e la gente è uscita e si è messa intorno a noi a gridare nel parcheggio invece che su Tyler ho sentito che finalmente potevo mettere le mani su tutto quello che nel mondo non funzionava gli indumenti che mi tornavano dalla tintoria con i bottoni del colletto spezzati la banca che dice che sono sotto di centinaia di dollari il mio lavoro dove il mio capo si mette al mio computer e smanetta i miei comandi DOS e Marl Singer e mi ha soffiato i gruppi di sostegno niente era risolto alla fine del combattimento ma niente continuava la prima sera che abbiamo combattuto era una domenica sera e Tyler non si era fatto la barba per tutto il fine settimana così avevo le nocche che mi bruciavano per la sua barba lunga sdraiato sulla schiena nel parcheggio accanto a lui a guardare l'unica stella che si vedeva nella luce dei lampioni ho chiesto a Tyler con cosa avesse combattuto suo padre ha detto Tyler forse non avevamo bisogno di un padre per completarci non c'è niente di personale contro il tuo avversario al Fight Club combatti per combattere è proibito parlare del Fight Club ma noi abbiamo parlato e per un paio di mesi la gente si è ritrovata in quel parcheggio dopo la chiusura del bar e quando ha cominciato a far freddo un altro bar ci ha offerto il semi interrato dove ci riuniamo ora quando si riunisce il Fight Club Tyler enuncia le regole che abbiamo stabilito io e lui nella maggior parte dei casi grida Tyler nel cono di luce al centro dello scantinato pieno di uomini siete qui perché qualcuno ha violato le regole qualcuno ha parlato del Fight Club Tyler dice allora è meglio che smettete di parlare oppure vi conviene aprire un altro Fight Club perché la prossima settimana il vostro nome finirà su una lista quando entrerete e solo i primi 50 nomi della lista entreranno se entrate stabilite subito il vostro combattimento se avete voglia di combattere se non volete un combattimento ci sono altri che lo vogliono allora forse vi conviene restarvene a casa se questa è la vostra prima sera al Fight Club grida Tyler dovete combattere la maggior parte di quelli che vengono al Fight Club ci vengono per via di qualcosa contro cui hanno paura di combattere dopo qualche combattimento hai molta meno paura ci sono molti ottimi amici che si ritrovano per la prima volta al Fight Club ora vado a riunioni e convegni e vedo facce ai tavoli dirigenti e giovani direttori e avvocati con nasi rotti che vanno gonfiandosi come melanzane sporgendo da sotto le bende o un paio di punti sotto un occhio o una mandibola ingessata sono quelli che se ne stanno tranquilli ad ascoltare fino al momento di prendere una decisione ci scambiamo cenni di saluto con la testa più tardi il mio capo mi chiederà com'è che conosco tanti di quegli individui secondo il mio capo nel nostro mestiere ci sono sempre meno gentiluomini e sempre più canaglie la demo va avanti Walter della Microsoft incrocia gli occhi con i miei è un giovane con denti perfetti e pelle sana il tipo di posto di lavoro di cui ti prendi la briga di vantarti con gli ex compagni di scuola sai che è troppo giovane per aver combattuto in qualche guerra e se i suoi genitori non erano divorziati suo padre non era mai a casa e ora stava guardando me che ho la faccia per metà ben rasata e per l'altra metà scura di un livido che tengo nascosto nel buio sangue che mi luccica sulle labbra e forse Walter sta pensando a un indolore cena vegetariana a cui è stato la settimana scorsa o all'ozono o al disperato bisogno della terra di smettere i crudeli atti di sperimentazione sugli animali ma probabilmente no capitolo 7 una mattina galleggia nel water la medusa morta di un preservativo usato è così che Tyler conosce Marla mi alzo per andare a pisciare e lì contro quella sorta di affreschi preistorici di sudiciume nella tazza del water lo trovi ti viene da chiederti che cosa pensa lo sperma questa? questa sarebbe la cavità vaginale che succede qui? per tutta la notte non ho fatto che sognare che mi sbattevo Marla Singer Marla Singer che stava sotto di me Marla Singer che alzava gli occhi al soffitto mi sono svegliato da solo nel mio letto e la porta della stanza di Tyler era chiusa la porta della stanza di Tyler non è mai chiusa tutta notte non ha fatto che piovere le assicelle del tetto si scartocciano si storcono si arricciano e la pioggia passa attraverso e si raccoglie nell'intonaco del soffitto e gocciola dall'impianto elettrico quando piove dobbiamo togliere i fusibili non hai il coraggio di accendere le luci la casa di Tyler ha tre piani e una cantina giriamo con le candele ci sono dispense e verande chiuse e finestre colorate sul pianerottolo in salotto ci sono bovidi con sedili sotto i vetri i zoccoli sono intagliati e verniciati alti 45 cm la pioggia cola per la casa e tutto quello che c'è di legno si gonfia o si ritira e i chiodi in tutto ciò che è di legno i pavimenti e gli zoccoli e gli infissi i chiodi spuntano fuori e si arrugginiscono dappertutto ci sono chiodi arrugginiti sui quali mettere un piede o impigliare un gomito e c'è un bagno solo per le sette camere da letto e adesso in bagno riservativo usato la casa è in attesa di qualcosa una modifica al piano regolatore o l'omologazione di un testamento poi verrà abbattuta ho chiesto a Tyler da quanto tempo era lì e mi ha risposto circa 6 settimane prima dell'alba dei tempi c'era un proprietario che aveva raccolto per tutta la vita cataste di National Geographic e Reader Digest alte cataste vacillanti di riviste che crescono ad ogni pioggia Tyler dice che l'ultimo inquilino ripiegava le pagine pattinate delle riviste per farne buste per la cocaina non c'è più la serratura sulla porta d'ingresso da quando ha fatto irruzione la polizia o chi altro sulle pareti della sala da pranzo ci sono nove strati di carta da parati che si gonfiano fiori sotto strisce sotto fiori sotto uccelli sotto tela di ramè i nostri soli vicini sono un'officina meccanica chiusa e dall'altra parte della strada un capannone lungo un isolato in casa c'è un ripostiglio pieno di rulli lunghi due metri per arrotolarci le tovaglie di damasco così non hanno mai pieghe c'è un guardaroba refrigerato per pellicce rivestito di pannelli di cedro le piastrelle del bagno sono dipinte a fiorellini che nemmeno un servizio di porcellana dal regalo di nozze ce li ha così belli e nella tazza del water c'è un preservativo usato vivo da Tyler da un mesetto Tyler viene a fare colazione con il collo e il petto costellati di succhiotti e io sto leggendo un vecchio numero del Reader's Digest questa è la casa perfetta per trafficare droga non ci sono vicini non c'è niente in Paper Street a parte i capannoni e la cartiera l'odore di scorreggia del vapore della cartiera e l'odore da gabbia di criceti dei truccioli in piramidi arancioni intorno alla cartiera questa è la casa perfetta per trafficare droga perché ogni giorno per Paper Street c'è un andirivieni di un fantastilione di camion ma di notte io e Tyler siamo soli per mezzo miglio in tutte le direzioni ho trovato pile e pile di Reader's Digest in cantina e ora c'è una pile di Reader's Digest in ogni stanza vita in questi Stati Uniti il riso è la medicina migliore le pile di riviste sono più o meno i soli mobili d'arredamento nelle riviste più vecchie ci sono una serie di articoli dove gli organi del corpo umano parlano di se stessi in prima persona salve sono io l'utero di Tizia salve sono la prostata di Tizio senza scherzi e Tyler viene al tavolo della cucina con i suoi succhiotti e senza camicia e dice bla 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 ieri sera ho conosciuto Marla Singer e hanno fatto sesso a sentirlo io sono in tutto e per tutto la cistifelle di Tizio tutto questo è colpa mia certe volte fai una cosa e finisci fottuto certe volte sono le cose che non fai e finisci fottuto ieri sera ho chiamato Marla abbiamo elaborato un sistema così che se io voglio andare a un gruppo di sostegno posso chiamare Marla e sentire se ha intenzione di andarci lei ieri sera era il melanoma e io mi sentivo un po' giù Marla vive al Regent Hotel che non è altro che mattoni marroni cementati dalla subiceria dove tutti i materassi sono sigillati in scivolose buste di plastica così sono molti quelli che vanno lì a morire ti siedi su un qualsiasi letto dalla parte sbagliata e finisci dritto per terra tu mensuola e coperta ho chiamato Marla al Regent Hotel per sapere se andava al melanoma Marla ha risposto al rallentatore non era un suicidio di quelli veri ha detto Marla era probabilmente solo del genere in vocazioni d'aiuto ma aveva preso troppe pillole di Xanax immaginatevi andare a Regent Hotel e guardare Marla che si sbatte per la sua brutta camera dicendo sto morendo muoio muoio sto morendo sto morendo muoio prova ad andare avanti per ore e dunque non esci questa sera giusto? stava facendo il suo pezzo forte della morente mi ha detto Marla dovevo sbrigarmi se volevo assistere grazie comunque ho risposto ma ho altri piani fa lo stesso ha detto Marla posso morire anche guardando la tele Marla si augurava solo che ci fosse qualcosa da vedere e io sono corso al melanoma sono arrivato a casa presto ho dormito e ora mentre faccio colazione la mattina dopo Tyler è seduto davanti a me tutto coperto di succhiotti e dice che Marla è tutta storta ma che a lui va un sacco dopo il melanoma di ieri sono tornato a casa e mi sono messo a letto e ho dormito e ho sognato che sbattevo sbattevo mi sbattevo Marla Singer e questa mattina mentre ascolto Tyler faccio finta di leggere Reader's Digest una tutta storia potevo dirlo anch'io Reader's Digest barzellette in uniforme io sono lo scatenato dotto biliare di tizio le cose che gli ha raccontato ieri sera Marla dice Tyler nessuna ragazza gli aveva mai parlato in quel modo io sono i denti digriglienti di tizio io sono le narici infocate di tizio dopo che Tyler e Marla hanno fatto sesso una decina di volte dice Tyler Marla ha detto che voleva restare incinta Marla ha detto che voleva abortire il concepito di Tyler io sono le nocche sbiancate di tizio come poteva Tyler non cascarci l'altra sera Tyler è rimasto sveglio solo a infilare organi sessuali in biancaneve come potrei competere per guadagnarmi l'attenzione di Tyler io sono il furente rancoroso senso di rigetto di tizio mi rode più di tutto che è colpa mia dopo che ieri sera sono andato a dormire Tyler mi dice che è rincasato dal suo turno di cameriere di banchetti e Marla ha chiamato di nuovo dal Regent Hotel ci sono ha annunciato Marla il tunnel la luce della porta giù per il tunnel era un'esperienza così fantastica che Marla voleva che la sentissi descrivere il momento in cui si sollevava dal suo corpo per ascendere Marla non sapeva se il suo spirito era in grado di usare il telefono ma voleva che qualcuno almeno udisse il suo ultimo respiro no ma no Tyler risponde al telefono e fraintende la situazione non si sono mai conosciuti così Tyler pensa che sia male che Marla stia per morire non è affatto così non sono affari di Tyler ma Tyler chiama la polizia e Tyler corre a Regent Hotel ora secondo l'antico costume cinese che tutti noi apprendiamo dalla televisione Tyler è responsabile di Marla per sempre perché Tyler ha salvato la vita di Marla se io avessi sprecato solo un paio di minuti e fossi andato a guardare Marla morente niente di tutto questo sarebbe accaduto Tyler mi dice come Marla vive nella sua stanza 8G all'ultimo piano del Regent Hotel 8 rampe di scale e un corridoio rumoroso di risate televisive registrate che passano attraverso gli usci ogni 2 secondi o 3 c'è un'attrice che strilla o un attore che muore rantolando in una scarica di pallottole Tyler arriva in fondo al corridoio e prima ancora di bussare un braccio bianco bianco sottile sottile si fionda fuori dalla porta della stanza 8G lo afferra per il polso e lo trascina dentro io mi inabisso in un Reader's Digest Marla sta ancora trascinando Tyler nella sua camera che Tyler già sente lo stridere dei freni e delle sirene che si radunano davanti al Regent Hotel sul comò c'è un dildo fabbricato con la stessa rosea plastica cedevole di un milione di Barbie e per un momento Tyler si immagina milioni di bambolotti e Barbie e dildo che si rovesciano dalla stessa catena di montaggio a Taiwan Marla guarda Tyler che guarda dritto il suo dildo e alza gli occhi al soffitto e dice non avere paura non è una minaccia per te Marla respinge Tyler sul pianerottolo e dice che le dispiace lui non avrebbe dovuto chiamare la polizia e probabilmente è già lì nell'atrio sul pianerottolo Marla chiude a chiave la porta dell'8G e spinge Tyler verso le scale sulle scale Tyler e Marla si adossano al muro mentre arrivano alla carica poliziotti lettighieri chiedono qual è la porta dell'8G Marla dice che la porta in fondo al corridoio Marla grida alla polizia che la ragazza che abitava all'8G una volta carina e simpatica ma che quella ragazza è un mostro è una strega è un mostro quella ragazza è feccia umana infetta ed è confusa e ha paura di impegnarsi in qualcosa di sbagliato così non si impegna in niente la ragazza dell'8G non ha fiducia in se stessa grida Marla e ha paura che invecchiando avrà sempre meno alternative Marla grida buona fortuna i poliziotti si ammucchiano sulla porta chiusa a chiave e Marla e Tyler corrono giù alle loro spalle un poliziotto sta gridando alla porta lasci che l'aiutiamo signorina Singer lei ha tutte le ragioni di questo mondo per vivere faccia entrare Marla e ti aiuteremo a risolvere i tuoi problemi Marla e Tyler sbucano di corsa in strada Tyler fa salire Marla su un taxi e in cima all'albergo all'ottavo piano vede ombre che si muovono dietro le finestre della stanza di Marla in autostrada con tutte le luci e le altre macchine sei corsie di traffico che sfreccia verso il punto di fuga Marla dice a Tyler che deve tenerla sveglia tutta la notte se dovesse addormentarsi morirebbe molte persone vogliono Marla morta dice lei a Tyler queste persone sono già morte dall'altra parte e di notte la chiamano al telefono Marla va in qualche bar sente il barista che la chiama per nome e quando va a rispondere al telefono la comunicazione non c'è Tyler e Marla sono rimasti su quasi tutta la notte nella camera di fianco alla mia quando Tyler si è svegliato Marla era tornata al Regent Hotel dico a Tyler che Marla Singer non ha bisogno di un amante lei ha bisogno di un assistente sociale Tyler dice non parlarmi di amore per farla breve ora Marla si è disposta a guastare un'altra parte della mia vita è dai tempi dell'università che mi faccio degli amici loro si sposano io perdo gli amici benissimo bene dico Tyler mi chiede se per me è un problema io sono le budelle annodate di tizio no no dico io tutto a posto puntami una pistola alla testa e pittura le pareti con le mie cervella strepitoso dico io davvero capitolo 8 il mio capo mi spedisce a casa per via di tutto il sangue secco che ho sui calzoni e io sono più felice che mai il buco nella guancia non guarisce vado al lavoro e le mie orbite gonfiate a suon di cazzotti sono due brioche nere intorno ai minuscoli forellini che mi servono per guardarci attraverso fino a oggi mi faceva veramente girare le palle essere diventato questo perfezionatissimo maestro zen e nessuno se ne è accorto però mi rifaccio con il mio giochetto del fax scrivo piccoli haiku e li faxo a questo e quello quando incrocio della gente sul lavoro divento zen integrale alla bella piccola faccia ostile di chiunque sia api operaie e fuochi in libertà schiava regina abbandoni tutti i tuoi possessi terreni e la tua macchina e vai a vivere in una casa in affitto nella parte della città dei rifiuti tossici dove la sera tardi senti Marla e Tyler nella stanza di lui che si danno a vicenda della pulitura di culo umano prendi qui pulitura di culo umano dacci pulitura di culo umano ingoialo da strozzarti tienilo giù baby per contrasto questo fa di me il piccolo centro calmo del mondo io con i miei occhi scazzottati e il sangue rappreso in grosse croste nere sui calzoni io che dico salve a tutti quelli che incontro sul lavoro salve guardatemi salve sono così zen questo è sangue questo non è niente salve tutto è niente ed è la fine del mondo essere illuminato come me sospiro guarda davanti alla finestra un uccello il mio capo mi ha chiesto se il sangue era sangue mio l'uccello vola sotto vento sto scrivendo mentalmente un piccolo haiku privo di nido l'uccello abita il mondo vivi la vita conto sulle dita 5 7 5 quel sangue è mio si dico anche questa risposta è sbagliata dovesse dovesse importare qualcosa possiedo due paia di calzoni neri 6 camice bianche 6 paia di mutande il minimo indispensabile vado al fight club sono cose che capitano vai a casa mi dice il mio capo cambiati sto cominciando a domandarmi se Tyler e Marla sono la stessa persona a parte le loro sbattute tutte le notti nella stanza di Marla a darci a darci a darci Tyler e Marla non sono mai nella stessa stanza non li vedo mai insieme ma nemmeno me e Zazza Gabor ci si vede mai insieme e questo non significa che siamo la stessa persona è solo che Tyler non viene fuori quando c'è Marla poiché io possa lavarmi i calzoni Tyler mi deve mostrare come si fa il sapone Tyler è di sopra e la cucina è piena di odore di chiodi di garofano e peli bruciati Marla è al tavolo della cucina a bruciarsi sotto l'ascella con una sigaretta ai chiodi di garofano e a darsi della pulitura di culo umano io accolgo la mia malata degenerazione putrescente dice Marla alla braccia in cima alla sua sigaretta Marla si ruota la sigaretta nel soffice ventre bianco del braccio brucia strega brucia Tyler è di sopra in camera mia a guardarsi i denti nel mio specchio e dice che mi ha trovato un posto da cameriere part time da banchetto al al fresman hotel se ti va di lavorare alla sera dice Tyler è un posto che ti servirà a fomentare il tuo odio di classe si rispondo certo ti fanno portare un farfallino nero dice Tyler per lavorarci hai solo bisogno di una camicia bianca e un faio di calzoni neri sapone Tyler gli dico che abbiamo bisogno di sapone abbiamo bisogno di fare un bel po' di sapone devo lavarmi i pantaloni gli tengo ai piedi mentre lui fa cento piegamenti per fare sapone dobbiamo prima squagliare del grasso Tyler è un pozzo di informazioni utili a parte le loro sbattute Marla e Tyler non sono mai nella stessa stanza se Tyler è presente Marla lo ignora vecchia storia per me è esattamente così che i miei genitori erano invisibili l'uno all'altro poi mio padre se n'è andato via per mettere su un'altra filiale mio padre diceva sempre sposati prima che il sesso diventi noioso altrimenti non ti sposerai mai mia madre diceva non comprare mai niente con una cerniera lampo di nylon i miei non dicevano mai niente che ti verrebbe voglia di ricamare su un cuscino Tyler fa 198 piegamenti 199 200 Tyler indossa una specie di vestaglia di flanella unta e calzoni di tuta fa uscire Marla di casa dice Tyler manda Marla giù a comprare un barattolo di liscivia la liscivia in scaglia non quella in cristalli sbarazzati di lei e io che torno a quando avevo sei anni e portavo messaggi avanti e indietro tra i miei genitori che avevano rotto lo detestavo quando avevo sei anni lo detesto ora Tyler comincia a fare sollevamenti delle gambe e io scendo a dire a Marla la liscivia del tipo in scaglie le do un biglietto da 10 dollari e la mia tessera dell'autobus mentre Marla è ancora seduta al tavolo della cucina io le sfilo dalle dita la sigaretta ai chiodi di garofano facile facile con un canovaccio le ripulisco le macchie rossoruggine sul braccio dove le croste delle bruciature si sono crepate e hanno cominciato a sanguinare poi le infilo un piede dopo l'altro nelle scarpe coi tacchi alti Marla mi guarda fare il mio pezzo da principe azzurro con le sue scarpe e dice sono entrata da me credevo che in casa non ci fosse nessuno non c'è la serratura sulla porta io non dico niente sai la scarpetta di vetro della nostra generazione è il preservativo te la infili quando incontri uno sconosciuto balli tutta la notte e poi lo butti via il preservativo voglio dire non lo sconosciuto io non sto parlando con Marla può anche intromettersi nei miei gruppi di sostegno e tra me e Tyler ma mai e poi mai sarà mia amica è tutta mattina che ti aspetto qui sbocciano e sfioriscono i fiori il vento porta farfalle e un neve sordo è il sasso Marla si alza dal tavolo e indossa un vestito blu senza maniche di non so che stoffa lucida Marla si pizzica l'orlo della sottana e lo rigira per farmi vedere i punti della cucitura all'interno non ha le mutande mi strizza l'occhio volevo farti vedere il mio vestito dice Marla è un vestito da damigella d'onore ed è tutto cucito a mano ti piace? era in vendita all'usato per un dollaro qualcuno ha fatto tutti questi punti piccoli piccoli per un vestito così orribilmente brutto dice Marla incredibile la sottana è più lunga da una parte che dall'altra e il girovita le orbita a basso sui fianchi prima di uscire per andare in negozio Marla si solleva la sottana con la punta delle dita e fa qualche passo di danza intorno a me e al tavolo fa volare il culo dentro la sottana quello che ama dice Marla sono tutte le cose che la gente adora e poi butta via un giorno o un'ora dopo il modo in cui quell'alduro di Natale è al centro dell'attenzione e poi dopo Natale vedi tutti quegli alberi di Natale morti con le striscioline di carta stagnola ancora appese gettate ai bordi della strada vedi quegli alberi e pensi a tutti gli animali travolti dagli autobus o alle vittime dei maniaci sessuali con le mutande infilate alla rovescia e le braccia legate con nastro adesivo nero da elettricista io voglio solo che se ne vada il posto dove andare è al centro di raccolta degli animali dice Marla dove ci sono tutti quegli animali i cagnolini i mici che la gente ha tanto amato e ha buttato via anche gli animali vecchi che ballano e spiccano salti per attirare la tua attenzione perché dopo tre giorni gli danno un overdose di fenobarbital e poi via nel forno grosso il grande sonno stile valle dei cani dove anche se qualcuno ti vuole abbastanza bene da salvarti la vita ti castrano lo stesso Marla mi guarda come se fossi io quello che se la sbatte e chiede non posso spuntarla con te vero? Marla esce dalla porta sul retro cantando quella canzone Valley of the Dolls roba da farti accapponare la pelle io la guardo andare via ci sono uno due tre momenti di silenzio prima che tutta Marla sia uscita dalla stanza mi giro ed è apparso Tyler l'hai scaricata? chiede Tyler non un rumore non un odore Tyler è apparso così per prima cosa dice Tyler e balza sulla soglia della cucina a frugare in frigorifero per prima cosa dobbiamo fare squagliare del grasso a proposito del mio capo dice Tyler se sono davvero arrabbiato dovrei fargli mandare tutta la posta al rugby North Dakota Tyler comincia a tirar fuori i sacchetti di roba bianca congelata e li butta nel lavello io intanto dovrei mettere sul fornello un pentolone pieno quasi completamente di acqua troppa poca acqua e il grasso si scurisce e produce sego questo grasso dice Tyler ha un mucchio di sale perciò più acqua c'è meglio è metti il grasso nell'acqua e fai bollire l'acqua Tyler spreme nell'acqua la roba bianca dai sacchetti e poi Tyler seppellisce i sacchetti vuoti in fondo alla pattumiera usa un po' di immaginazione dice Tyler ricorda tutte quelle stronzate da pionieri che ti hanno insegnato nei boy scout ricorda le tue lezioni di chimica al liceo è dura immaginarsi Tyler nei boy scout un'altra cosa che posso fare mi dice Tyler è andare di notte a casa del mio capo ed attaccare una canna al rubinetto esterno attaccare la canna a una pompa a mano e sparare nelle tubature di casa sua una bella dose di tintura industriale rosso o blu o verde poi il giorno dopo sto a vedere che colore ha il mio capo oppure posso starmene seduto dietro la siepe a pompare a mano la pompa fino a portare le tubature a una pressione oltre gli 8 kg per centimetro quadro in questo modo quando qualcuno fa scorrere l'acqua del water il serbatoio del water salta in aria a 10 kg se qualcuno apre l'acqua della doccia la pressione fa saltare la cipolla lo strappa via dalla filettatura e BAM la cipolla si trasforma in un proiettile da mortaio Tyler dice che queste cose sono per farmi stare meglio la verità è che il mio capo mi va bene così e poi ora come ora sono illuminato sai solo completamente stile Buddha Harirama sapete Krishna Krishna sapete illuminato non è perché ti ficchi penne nel culo che diventi una gallina dice Tyler via via che il grasso si squaglia il sego sale in superficie nell'acqua che bolle oh dico io dunque mi ficco penne su per il culo come seguì il presidente Tyler con le bruciature di sigarette che gli salgono in corteo lungo le braccia fosse un'anima così evoluta il signore è la signora pulitura di culo mi calmo la faccia e mi trasformo in una di quelle persone con la faccia da vacca in due che vanno al massacro sulla tabella delle compagnie aeree con la procedura per le emergenze abbasso il fuoco sotto il pentolone mescolo l'acqua che bolle continuerà a salire sego finché l'acqua non sarà ricoperta di uno strato color madreperla uso un cucchiaio grande per schiumare l'acqua e mettere questo strato da parte allora chiedo come sta come sta a marla almeno marla sta cercando di toccare il fondo dice tyler mescolo l'acqua che bolle continua a schiumare finché è finito tutto il sego quello che schiumiamo dall'acqua è sego ottimo sego pulito tyler dice che io non sono nemmeno vicino ad aver toccato il fondo e se non precipito completamente non posso essere salvato gesù lo ha fatto con quella sua storia della croce fissione io non dovrei limitarmi ad abbandonare i soldi tutti i miei effetti personali e le mie conoscenze questo non è solo un ritiro di fine settimana io dovrei separarmi dall'automiglioramento e dovrei lanciarmi a capofitto verso il disastro non posso continuare a giocare sul sicuro questo non è un seminario se ti perdi d'animo prima di aver toccato il fondo dice tyler non ce la farai mai davvero solo dopo il disastro puoi risorgere è solo dopo che hai perso tutto dice tyler che sei libero di fare qualunque cosa quello che sento io è illuminazione prematura e io continuo a mescolare dice tyler quando il grasso è bollito abbastanza perché non venga più sego in superficie butto via l'acqua lavo la pentola e riempio di acqua pulita domando ma mi sto avvicinando toccare il fondo dove sei ora risponde tyler non ti puoi nemmeno immaginare com'è il fondo si ripete con il sego schiumato si fa bollire il sego nell'acqua si schiuma e si continua a schiumare il grasso che stiamo usando è pieno di sale dice tyler troppo sale e il sapone non si solidifica fai bollire e schiumi bolli marla è tornata la seconda marla apre la controporta tyler è andato via spanito scappato dalla stanza scomparso tyler è salito al piano di sopra o è sceso in cantina puff marla entra dalla porta di servizio con un barattolo di liscibia in scaglie al negozio hanno carta igienica riciclata al 100% annuncia marla deve essere il lavoro peggiore di tutto il mondo riciclare carta igienica io prendo il barattolo di liscivia e lo poso sul tavolo non dico niente posso restare qui stanotte? chiede marla io non rispondo nella testa conto cinque sillabe sette cinque la tigre ride la serpe ti lusinga malo spirito marla chiede cosa cuaci? io sono il punto di bollettura di tizio le dico vai battene via via capito? non ti sei già preso una fetta abbastanza grande della mia vita? marla mi afferra per la manica e mi immobilizza per il secondo che le serve per baciarmi sulla guancia chiamami ti prego ti prego dobbiamo parlare io dico se 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 appena marla è fuori riappare Tyler rapido come un trucco di magia i miei hanno fatto questa magia per cinque anni io bollo e schiumo mentre Tyler fa spazio in frigo il vapore divide l'aria in strati e l'acqua gocciola dal soffitto della cucina la lampadina da 40 watt nascosta in fondo al frigorifero qualcosa di luminoso che non mi fa vedere dietro le bottiglie di ketchup vuote e i barattoli di sottaceti in salamoia o maionese una qualche luce minuscola dentro il frigo rischiara il profilo di Tyler bollo e schiumo bollo e schiumo metto il sego schiumato nei cartoni del latte con il lato superiore strappato da una parte all'altra con una sedia accostata al frigorifero aperto Tyler guarda il sego che si raffredda nel caldo della cucina nuvole di nebbia fredda cascano in fondo del frigorifero e riempono una pozzangra intorno ai piedi di Tyler io riempio i cartoni del latte con il sego e Tyler li ripone in frigo mi inginocchio davanti a Tyler davanti al frigo e Tyler mi prende le mani e me le mostra la linea della vita la linea dell'amore i monti di venere e marte la nebbia fredda ci avvolge la lucina a fioca ci illumina la faccia ho bisogno che tu mi faccia un altro favore dice Tyler questa volta c'entra male vero? non le devi mai parlare di me non le devi mai parlare di me non le devi mai parlare di me alle mie spalle me lo giuri chiede Tyler io giuro se mai parli di me con lei non mi vedi più dice Tyler io giuro giuri io giuro ora ricorda dice Tyler sono tre volte che me l'hai giurato uno strato di qualcosa di denso e trasparente si va formando sopra al sego in frigorifero il sego gli dico si sta separando non temere dice Tyler lo strato trasparente è glicerina puoi rimescolarci la glicerina quando fai il sapone oppure puoi tirarla via Tyler si passa la lingua sulle labbra e mi rigira le mani a palmi in giù sulla coscia su un lembo di flanella appiccicosa della sua vestaglia puoi mescolare la glicerina con l'acido nitrico per fare nitroglicerina dice Tyler io respiro con la bocca aperta e dico nitroglicerina Tyler si fa le labbra bagnate e luccicanti con la lingua e mi bacia il dorso della mano puoi mescolare la nitroglicerina con nitrato di sodio e segatura per fabbricare dinamite dice Tyler il suo braccio luccica di bagnato sul dorso della mia mano bianca dinamite dico io e mi siedo sui talloni Tyler scalza il coperchio del barattolo di riscivia puoi far saltare in aria i ponti dice Tyler come niente Tyler incline il barattolo di riscivia a un paio di dita dal bagnato luccicante del suo bacio sul dorso della mia mano questa è una bruciatura chimica dice Tyler e farà un male da cani come non ho mai provato prima peggio di un tizzone il suo bacio luccica sul dorso della mia mano ti resterà una cicatrice dice Tyler se hai abbastanza sapone dice Tyler puoi far saltare in aria il mondo intero ora ricorda il tuo giuramento e Tyler versa la riscivia capitolo 9 la saliva di Tyler ha avuto due effetti l'umidità del bacio sul dorso della mia mano ha trattenuto le scaglie di riscivia mentre bruciavano questo è stato il primo effetto il secondo è stato che la riscivia brucia solo se combinata con l'acqua o con la saliva questa è una bruciatura chimica ha detto Tyler e farà un male da cani come non hai mai provato si può usare riscivia per aprire tubature ostruite chiudi gli occhi un impasto di riscivia e acqua può aprire un buco in una padella di alluminio una soluzione di risciva e acqua è capace di dissolvere un cucchiaino di legno combinata con l'acqua la risciva fa sfiorare i cento gradi e riscaldandosi mi brucia il dorso della mano e Tyler mi posa le dita sulle sue dita le nostre mani aperte sui miei calzoni sporchi di sangue e Tyler dice di prestare attenzione perché questo è il momento più importante della mia vita perché tutto quello che è stato fatto finora è una storia dice Tyler e tutto quello che ci sarà dopo è una storia questo è il momento più importante della nostra vita la liscivia che mi si è appiccicata nella forma esatta del braccio di Tyler è un falò un ferro dalla marchiatura o una fusione del nucleo atomico sulla mia mano alla fine di una lunga lunga strada che mi ha immaginato a miglia da me Tyler mi dice di tornare indietro e stare con lui la mia mano se ne va minuscola è all'orizzonte in fondo alla strada guardo il fuoco che continua a bruciare solo che adesso oltre l'orizzonte un tramonto torna al dolore dice Tyler questo è il tipo di meditazione guidata che usano ai gruppi di sostegno non pensare nemmeno alla parola dolore se la meditazione guidata funziona per il cancro può funzionare per questo guardati la mano dice Tyler non guardarti la mano non pensare alla parola ustione o carne o pelle o bruciore non ascoltarti piangere meditazione guidata sei in Irlanda chiudi gli occhi sei in Irlanda l'estate dopo che hai lasciato l'università stai bevendo in un pub vicino al castello dove giorno dopo giorno i torpedoni sfornano truppe di turisti inglesi e americani venuti a baciare la pietra di Blarney non estragnarti dice Tyler il sapone e il sacrificio umano vanno a braccetto lasci il pub in un torrente di uomini camminando nell'imperlato e bagnato silenzio veicolare di strade dove è appena piovuto è notte finché arrivi al castello della pietra di Blarney i pavimenti del castello sono marciti e tu sali gli scalini di roccia con il nero che si fa sempre più fitto di qua e di là ad ogni alzata tutti ammutoliscono nell'ascesa e nella tradizione di questo piccolo atto di ribellione ascoltami dice Tyler apri gli occhi nella storia antica dice Tyler i sacrifici umani venivano celebrati su una collina sopra un fiume migliaia di persone ascoltami si facevano i sacrifici e i corpi venivano cremati su una pira puoi piangere dice Tyler puoi andare a lavandina e farti correre acqua sulla mano ma prima devi sapere che sei stupido che morirai guardami un giorno dice Tyler tu morirai e finché non saprai questo per me sei inutile sei in Irlanda puoi piangere dice Tyler ma ogni lacrima che cadrà nei fiocchi di lisciva sulla tua pelle ti lascerà l'ustione di una bruciatura meditazione guidata sei in Irlanda l'estate dopo che hai lasciato il college e forse è qui dove per la prima volta hai desiderato l'anarchia anni prima di conoscere Tyler Durden prima di aver pisciato per la prima volta nella crema inglese hai appreso piccoli atti di ribellione in Irlanda sei su una piattaforma in cima alle scale in un castello puoi usare l'aceto dice Tyler per neutralizzare la bruciatura ma prima devi arrenderti dopo che centinaia di persone sono state sacrificate e cremate dice Tyler dall'altare è scivolato fuori un efflusso denso e bianco che è sceso verso il fiume dopo che centinaia di persone sono state sacrificate e cremate dice Tyler dall'altare è scivolato fuori un efflusso denso e bianco che è sceso verso il fiume prima devi toccare il fondo sei su una piattaforma in un castello d'Irlanda in un'oscurità senza fondo tutto attorno ai bordi della piattaforma e davanti a te a un braccio di buio di distanza c'è una parete di pietra la pioggia dice Tyler è caduta anno dopo anno sulla piera bruciata e anno dopo anno si bruciavano persone e la pioggia filtrava attraverso le ceneri del legno per diventare una soluzione di liscivia e la liscivia si combinava con il grasso disciolto dei sacrifici e un efflusso denso e bianco di sapone è fuoriuscito dalla base dell'altare ed è sceso verso il fiume e gli uomini irlandesi intorno a te con il loro piccolo atto di ribellione nell'oscurità si avvicinano al bordo della piattaforma e si fermano sul bordo del buio senza fondo e pisciano e gli uomini dicono avanti pisci la tua speciale piscia americana sontuosa e gialla di troppe vitamine sontuosa e cara e buttata via questo è il momento più importante della tua vita dice Tyler e tu te ne sei andato altrove te lo stai perdendo sei in Irlanda oh e sei lì che lo fai oh si si e senti l'odore dell'ammoniaca e della dose quotidiana di complesso B dove il sapone è caduto nel fiume dice Tyler dopo mille anni di gente uccisa e pioggia gli antichi hanno trovato che i loro vestiti erano più puliti se li lavavano proprio lì sto pisciando sulla pietra di Blarney cazzo dice Tyler sto pisciando dentro ai miei calzoni neri con le macchie di sangue rappreso che stomacano il mio capo sei in una casa in affitto in Pepper Street questo significa qualcosa dice Tyler questo è un segno dice Tyler Tyler è pieno di informazioni utili nelle culture prive di sapone dice Tyler usavano la propria orina e l'orina dei loro cani per lavare i vestiti e i capelli per via dell'acido urinico e dell'ammoniaca c'è odore di aceto e il fuoco sulla mano in fondo alla lunga strada si spegne il fuoco della liscivia che ti brucia la cavità biforcuta del naso e l'odore di vomito ospedaliero di piscia e aceto era giusto uccidere tutta quella gente dice Tyler ha il dorso della mano rosso e gonfio e lucido come un paio di labbra nella forma precisa del bacio di Tyler persa intorno al bacio ci sono le bruciature del pianto di qualcuno apri gli occhi dice Tyler e la sua faccia è luccicante di lacrime congratulazioni dice Tyler ti sei avvicinato di un passo al fondo devi vedere dice Tyler come si è fabbricato il primo sapone usando eroi pensa agli animali usati per testare chissà quali prodotti pensa alle scimmie sparate nello spazio senza la loro morte il loro dolore senza il loro sacrificio dice Tyler noi non saremmo niente capitolo 10 fermo l'ascensore tra due piani mentre Tyler si slaccia la cintura quando l'ascensore si ferma e le ciotole da minestra impilate sul carrello del buffet smettono di tintinnare e il vapore sale come un fungo verso il tetto della cabina mentre Tyler solleva il coperchio della zuppiera Tyler comincia a tirarselo fuori e dice non guardarmi se no non mi viene la minestra è una dolce crema di pomodoro con corriandolo e vongole tra i due nessuno coglierà l'odore di qualunque cosa ci mettiamo dentro noi io gli dico di sbrigarsi guardo le spalle dove c'è Tyler con il suo ultimo centimetro immerso nella minestra è proprio divertente sembra un elefante grande e grosso in camicia bianca e cravattino da cameriere che beve la minestra dalla sua piccola proboscide ti ho detto di non guardare dice Tyler la porta della cabina davanti a me ha una finestrella grande come una faccia da cui vedo il corridoio di servizio con la cabina ferma tra due piani il mio punto di vista è più o meno quello di uno scarafaggio sopra l'inoleum verde e da lì a livello di scarafaggio il corridoio verde si allunga fino al punto di fuga oltre porte semiaperte dove i titani e le loro mogli gigantesche bevono champagne a barili e si parlano urlando ornati di diamanti più grossi di quanto mi sento io la settimana scorsa racconto a Tyler quando sono venuti qui a fare la festa di Natale e gli avvocati dell'Empire State me lo sono fatto venire duro e l'ho ficcato in tutte le loro mousse all'arancia la settimana scorsa racconta Tyler ha fermato l'ascensore e ha scorreggiato su un intero carrello di dessert per il tè della Junior League quel Tyler sa quanto assorbe gli odori una meringa a livello di scarafaggio sentiamo l'arpista prigioniera che fa musica per i titani che sollevano braciole d'agnello infilzate sulle loro forchette ciascun boccone grosso come un maiale intero bocche come famelici Stonehenge d'avorio gli dico di sbrigarsi non ci riesco dice Tyler se la minestra si raffredda la rimandano indietro quei giganti loro sono capaci di rispedire in cucina qualcosa per nessun motivo gli piace vederti correre perché sono loro a pagare per una cena come questa uno di quei banchetti sanno che la mancia è già inclusa nella fattura così ti trattano con i piedi noi in realtà non riportiamo mai niente in cucina cambiamo di posto nello stesso piatto le pompe à rizenne e gli aspargés all'hollandais e li riserviamo a qualcun altro e tutta un tratto vanno benissimo le cascate del Niagara dico io il Nilo a scuola credevamo tutti che se mettevi la mano di qualcuno in una scodella d'acqua tepida mentre dormiva avrebbe bagnato il letto oh dice Tyler dietro di me Tyler dice oh sì la sto facendo oh sì sì dietro le porte non del tutto chiuse delle sale da ballo che si affacciano sul corridoio di servizio frusciano sottane d'oro e nere e rosse alte come il sipario di velluto dorato del vecchio Broadway theater di tanto in tanto un paio di Berlin Cadillac in pelle nera con i lacci là dove dovrebbe esterci la spazzola del parabrezza sopra le automobili si muoveva una città di palazzi e di uffici con la fascia rossa alla vita non troppo dico io io e Tyler ci siamo trasformati in guerriglieri dell'industria dei servizi sabotatori di cenoni l'albergo organizza cene e quando qualcuno vuole da mangiare gli arriva da mangiare e da bere e gli arrivano i servizi di piatti e di bicchieri e gli arrivano i camerieri gli arriva tutto fattura unica e siccome sanno che non ti possono minacciare con la mancia per loro sei solo uno scarafaggio Tyler lui ha fatto un cenone una volta è stato allora che Tyler è diventato un cameriere pirata per quel primo cenone Tyler serviva il pesce in una nuvola di casa bianca una bolla di vetro che sembrava fluttuare sopra la città su gambe d'acciaio posate sul fianco di una collina mentre gli ospiti stanno mangiando il pesce e Tyler sta risciacquando i piatti della prima portata entra in cucina la padrona di casa con un pezzo di carta in mano che sventola come una bandiera tanto le trema la mano a denti stretti madame vuole sapere se i camerieri hanno visto qualcuno degli ospiti percorrere il corridoio che porta nel lato della casa dove ci sono le camere da letto in particolare ospiti donne o magari il padrone di casa in cucina ci sono Tyler e Albert e Len e Jerry che risciacquano e impilano i piatti e c'è Leslie il cuoco a ungere col burro all'aglio i cuori di carciofo ripieni di gamberetti e lumache noi non possiamo andare da quella parte della casa dice Tyler noi non dobbiamo vedere altro che la rimessa la cucina la sala da pranzo la padrona di casa entra alle spalle della moglie e si sfila il pezzo di carta dalla mano tremante non ci sarà alcun problema dice come posso guardare in faccia quella gente ribatte madame se non so chi è stato il padrone di casa posa la mano aperta sulla schiena del suo vestito da sera bianco come la casa e madame si raddrizza squadra le spalle e tutta un tratto tace sono i tuoi ospiti dice lui e questa festa è molto importante sembra la versione assai comica di un ventriloco che anima il suo pupazzo madame guarda il marito con una spintarella il padrone di casa riconduce sua moglie in sala da pranzo il biglietto cade per terra e la sventagliata avanti e indietro della porta della cucina lo spinge sui piedi di Tyler che cosa dice? chiede Albert Len esce per cominciare a ritirare i piatti del pesce Leslie rimette la teglia di cuori di carciofo nel forno e chiede allora che c'è scritto? Tyler guarda Leslie e senza nemmeno raccogliere il messaggio risponde ho versato un quantitativo di orina in almeno una delle sue molte eleganti fragranze Albert sorride hai pisciato nel suo profumo no risponde Tyler ha solo lasciato il messaggio tra i flaconi ne avrà un centinaio davanti allo specchio in bagno Leslie sorride allora non l'hai fatto davvero no ripete Tyler ma lei non lo sa per il resto della serata a quel cenone bianco nella bolla di vetro sospesa nel cielo Tyler ha continuato a ritirare piatti di carciofi freddi poi vitello freddo con pomme duchesse fredde poi chuffle e la polnée dal posto della padrona di casa per tutta la serata Tyler ha continuato a riempirle di vino il bicchiere madame ha continuato a osservare ciascuna delle sue ospiti finché fra il retiro dei sorbetti e l'arrivo della torta all'albicocche all'improvviso il posto di madame a capotavola era vuoto stavano rigovernando dopo che gli ospiti se n'erano andati caricavano i contenitori termici e le stoviglie sul furgone dell'albergo quando è in cucina è apparso il padrone di casa e ha chiesto ad Albert se per piacere poteva aiutarlo a trasportare una cosa pesante Leslie dice che forse Tyler ha esagerato veloce e ad alta voce Tyler gli dice che ammazzano le balene così dice Tyler per fare quel profumo che costa più dell'oro e quasi nessuno è capitato di vedere mai una balena Leslie ha due figli piccoli in un appartamento vicino all'autostrada e madame la padrona di casa ha più dollari di quelli che guadagneremo noi in un anno solo in flaconi di profumo Albert torna all'Alber aiutato dal padrone di casa e fa il 911 al telefono Albert mette una mano sul microfono del ricevitore e dice cavoli Tyler non avrebbe dovuto lasciare quel messaggio e allora tu vallo raccontare al direttore dice Tyler fammi licenziare non è che ho sposato questo lavoro di merda tutti si guardano ai piedi farci licenziare è la cosa migliore che può succederci dice Tyler almeno così la smetteremmo di menarcela e faremmo qualcosa della nostra vita al telefono Albert dice che abbiamo bisogno di un'ambulanza e dà l'indirizzo mentre attende in linea Albert dice che la padrona di casa al momento è messa parecchio male Albert ha dovuto raccattarla da terra vicino alla tazza del water il padrone non poteva fare niente perché madame dice che è stato lui a pisciare nei suoi profumi e dice che sta cercando di farla impazzire intendendosela con una delle ospiti di questa sera e lei è stanca stanca di tutta la gente che chiamano amici il padrone di casa non può aiutarla perché madame è caduta dietro al water nel suo vestito bianco e agita un coccio di bottiglietta di profumo madame dice che se lui tenta solo di toccarla si taglia la gola tyler dice forte la signora e albert puzza albert tesoro tu puzzi dice leslie non c'è modo di uscire da quel bagno senza puzzare dice albert tutti i flaconi di profumo sono in giro per terra rotti e ci sono un sacco di altre bottigliette dentro il water sembrano ghiaccio dice albert come alle feste più sfarzose in albergo e quando ci fanno riempire gli orinari di ghiaccio tritato il bagno puzza e il pavimento scricchiola di ghiaccioli che non si sciolgono e quando albert aiuta madame a rimettersi in piedi madame che ha il vestito bianco bagnato di macchie gialle lei cerca di aggredire il marito con il coccio scivola nel profumo e nei vetri rotti e cade sulle mani piange e sanguina raggomitolata contro il water oh come brucia dice oh walter brucia mi brucia da matti dice madame il profumo tutte quelle balene morte che sono finite nei tagli sulle sue mani il profumo brucia il padrone di casa solleva madame la terra e l'appoggia contro di sé madame tiene le mani alzate come se stesse pregando ma separate e il sangue le cola dai palmi giù per i polsi su un braccialetto di diamanti e giù fino ai gomiti da dove gocciola e il padrone di casa dice andrà tutto bene nina le mie mani walter dice madame andrà tutto bene chi può avermi fatto questo chiede madame chi può odiarmi fino a questo punto ad albert il padrone di casa dice vuole chiamare un'ambulanza questa è stata la prima missione di tyler come terrorista dell'industria dei servizi cameriere guerriero guastatore a paga minima tyler lo va facendo da anni ma sostiene che è tutto più divertente quando lo si fa in compagnia alla fine della storia di albert tyler sorride e dice complimenti tornando all'albergo ora come ora nell'ascensore fermo tra la cucina e i piani dei saloni racconto a tyler di quando ho starnutito sulla trota in gelatina per il convegno dei dermatologi e tre persone mi hanno detto che era troppo salata e una persona mi ha detto che era squisita invece tyler se lo scrolla sopra la zuppiera e dice che si è svuotato è più facile con una minestra fredda una vichissoire o quando i cuochi fanno un gazpaccio veramente gelido è impossibile con quella zuppa di cipolle che si serve in tegamini è coperta da una crosticina di formaggio fuso se mai dovessi mangiare qui è quella che ordinerei si stava rimanendo a corto di idee io e tyler ma non mettere le pietanze viene annoia entra quasi a far parte del lavoro poi sento uno dei dottori avvocati non so che cosa sono dire che sull'acciaio inossidabile un germe di epatite può vivere per sei mesi c'è da chiedersi per quanto tempo potrebbe vivere quel germe su una charlotte a Roma o su una mousse di salmone ho chiesto al dottore dove potremmo mettere le mani su un po' di questi germi dell'epatite e lui è abbastanza ubriaco da ridere finisce tutto nei rifiuti medici dice e ride tutto i rifiuti medici hanno sapore di raggiungimento del fondo con una mano sulla pulsantiera della cabina chiedo a Tyler se è pronto la cicatrice sul dorso della mano si è gonfiata è rossa è luccicante come un paio di labbra nella forma precisa del bacio di Tyler un secondo dice Tyler la crema di pomodori deve essere ancora bella calda perché l'aggeggio storto che Tyler si rimette nei calzoni è rosa di bollitura come un gamberone capitolo 11 in Sud America tierra incantadora ci si potrebbe trovare a guadare un fiume dove pesci minuscoli risalerebbero a nuoto l'uretra di Tyler i pesci hanno degli aculei che si aprono a ventaglio inclinati all'indietro cosicché quando sono entrati in Tyler i pesci mettono su casa e si preparano a posare le uova in molti modi il nostro sabato sera avrebbe potuto essere peggiore poteva andare peggio dice Tyler alludendo alla mamma di Marla io gli dico di chiudere il becco Tyler dice che il governo francese avrebbe potuto portarci in un complesso sotterraneo nei pressi di Parigi dove nemmeno dei chirurghi ma dei semplici tecnici non specializzati ci staccherebbero le palpebre con un rasoio del quadro di un test di tossicità per uno spray abbronzante cose che capitano dice Tyler leggi il giornale il guaio è che io sapevo che cosa aveva combinato Tyler con la mamma di Marla ma per la prima volta da quando lo conoscevo Tyler aveva soldi a disposizione Tyler stava facendo quattrini veri prima di Natale ha chiamato Nordstorm lasciando un'ordinazione di 200 pezzi per sapone per viso di Tyler allo zucchero di canna a 20 dollari a saponetta prezzo al dettaglio suggerito avevamo soldi per farci il sabato sera soldi per riparare la perdita del tubo del gas andare a ballare senza la preoccupazione dei soldi chissà che non riesca a lasciare il mio lavoro Tyler si fa chiamare saponificio di Paper Street la gente dice che è il miglior sapone di tutti i tempi il peggio sarebbe stato dice Tyler che tu avessi mangiato per sbaglio la mamma di Marla con la bocca piena di pollo alle mandorle io gli dico di chiudere quello stramaledetto becco dove ci troviamo questo sabato sera è sul sedile anteriore di un'impala del 1968 accasciata su due pneumatici a terra nella prima fila di una rivendita di macchine usate io e Tyler chiacchieriamo beviamo birra dalle lattine e il sedile anteriore di questa impala è più grande di molti divani ci sono tutte queste rivendite da qualche parte nel boulevard sono quelle che nel giro chiamano pot lot dove tutte le macchine costano sui 200 dollari e durante il giorno gli zingari che le gestiscono piantonano i loro uffici in tavole di compensato facendo i signori le macchine sono le prime vecchie carriole al cui volante si siedono i liceali gremlin e piecer maverick e hornet pinto pick up international harvester kamaru duster e impala macchine che la gente ama e poi scarica vesti al canile vestiti da damigella d'onore al negozio di indumenti usati con ammaccature e parafanghi e fascioni verdi o rossi o neri e grumi di stucco per carrozzeria che nessuno si è mai preso la briga di carta vetrare interni in legno di plastica e di pelle di plastica e cromature di plastica di notte gli zingari non si disturbano nemmeno a chiudere a chiave le portiere i fari corrono sul boulevard dietro il prezzo pitturato sul vasto parabrezza avvolgente in cinemascope dell'impala vero USA il prezzo è 98 dollari là dentro sembra che siano 89 centesimi 0 0 0 punto decimale 8 9 l'america ti chiede di farti vivo qui quasi tutte le macchine costano sui 100 dollari e tutte mostrano la formula in chiave in mano appesa al finestrino del guidatore abbiamo scelto l'impala perché se il sabato sera dobbiamo dormire in una macchina questa è quella con i sedili più spaziosi mangiamo pietanze cinesi perché non possiamo tornare a casa o si dormiva qui o si restava su tutta la notte in qualche locale da ballo di quelli che restano aperti noi non frequentiamo i locali da ballo Tyler dice che la musica è troppo assordante specialmente le basi ritmiche dice che gli incasinano i bioritmi l'ultima volta che siamo usciti Tyler ha detto che la musica forte gli aveva fatto venire la stitichezza c'è questo e poi al club c'è troppo chiasso per parlare così dopo un paio di bicchieri tutti si sentono al centro dell'attenzione ma completamente tagliati fuori dalla partecipazione con gli altri sei il cadavere di un poliziesco inglese questa sera torniamo in una macchina perché Marla è venuta alla casa e ha minacciato di chiamare la polizia e di farmi arrestare per aver cucinato sua madre poi Marla si è messa a gridare come una matta per le stanze gridando che sono un mostro è un cannibale e ha preso a calci le pile di Reader's Digest e National Geographic e allora io l'ho lasciata lì morale della favola dopo il suo accidentale suicidio volontario a base di Xanax alla Regent Hotel non me la vedo chiamare la polizia ma Tyler ha pensato che sarebbe stato meglio dormire fuori per questa sera non si sa mai non si sa mai che Marla bruci la casa non si sa mai che Marla trovi una pistola e non si sa mai che Marla sia ancora in casa non si sa mai cerco di concentrarmi le stelle in cielo non conoscono l'ira bla 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 fine qui con le macchine che passano per il boulevard e una birra in mano nell'impala con il suo volante di fredda e dura bachelite con un diametro che sarà di un metro e il sedile in finta pelle screpolato che mi pizzica il culo attraverso i jeans Tyler dice ancora una volta raccontami bene cosa è successo per settimane ho ignorato i traffici a cui si dedicava Tyler una volta sono stato con Tyler all'ufficio della Western Union e l'ho guardato spedire un telegramma alla madre di Marla rughe spaventose stop aiuto fine Tyler aveva mostrato all'impiegato la tessera della biblioteca di Marla e aveva firmato il modulo del telegramma con il nome di Marla e aveva gridato sì Marla può essere un nome maschile qualche volta e l'impiegato badasse bene agli affari suoi mentre uscivamo dalla Western Union Tyler mi ha detto che se gli volevo bene dovevo aver fiducia in lui e mi ha portato da garbonzo a mangiare hummus a farmi veramente paura non era tanto il telegramma quanto mangiare fuori con Tyler mai e poi mai Tyler aveva pagato qualcosa in contanti per i vestiti Tyler va nelle palestre e negli alberghi a reclamare indumenti dal cumulo di quelli che la gente si dimentica sempre meglio di Marla che va nelle lavanderie a gettoni a rubare i jeans dagli essiccatori per rivenderli a 12 dollari al pezzo in quei posti dove comprano i jeans di seconda mano Tyler non mangiava mai al ristorante e Marla non era rugosa senza nessun motivo apparente Tyler ha mandato alla madre di Marla una scatola di cioccolatini grossa come una casa un altro modo in cui questo sabato sera sarebbe potuto essere peggiore mi dice Tyler nell'impala è un certo ragno che quando ti morsica non ti inietta solo veleno ma anche un enzima o acido digestivo che ti dissolve i tessuti intorno alla morsicatura ti squaglia letteralmente il braccio o la gamba o la faccia Tyler era nascosto da qualche parte questa sera quando è cominciata è arrivata Marla senza nemmeno bussare ha messo la testa dentro la porta e ha gridato toc toc io sono in cucina a leggere Reader's Digest sono profondamente sconcertato Marla grida Tyler posso entrare sei in casa io le grido che Tyler non è in casa Marla grida non fare l'antipatico intanto io sono alla porta d'ingresso Marla è in anticamera con un pacco a consegna urgente della Federal Express e dice avevo bisogno di mettere una cosa nel tuo congelatore le sto alle calcagna seguendola in cucina e dicendo di no 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 non comincerà a venire e conservare qui le sue porcate testone dice Marla sai che non ho un congelatore in albergo e mi avevi detto che potevo no che non l'ho detto l'ultima cosa che desidero è di vedere Marla trasferirsi qui un pezzo di merda per volta marla straccia la carta del pacco della Federal Express sul tavolo della cucina e tira fuori una cosa bianca dai fagioli di polistirolo dell'imballaggio e me la agita davanti al naso questa non è merda dice è di mia mamma che si sta parlando quindi puoi andare a fare in culo l'oggetto che Marla ha estratto dal pacco è una di quelle buste di roba bianca che Tyler fa sciogliere per ricavarne il sego con cui fabbricare sapone sarebbe stato peggio dice Tyler se avessi mangiato per sbaglio il contenuto di uno di quei sacchetti se ti fossi alzato di notte a spremere quella roba da uno dei sacchetti per mescolarla con zuppa di cipolle liofilizzata e farne una salsa per le patate fritte o per i broccoli più di ogni altra cosa al mondo in quel momento quando ci trovavamo in cucina io e Marla non volevo che Marla aprisse il congelatore gli ho chiesto ma che cosa volevi farci con quella roba bianca labbra carnose mi ha risposto Marla invecchiando le labbra ti si ritirano nella bocca sto raccogliendo collagene per un'iniezione alle labbra ho quasi 14 kg di collagene nel tuo congelatore le ho chiesto quanto carnose le voleva le labbra e Marla ha detto che era l'operazione a farle paura la roba che c'era nel pacco della federal express racconto a Tyler nell'impala era la stessa roba da cui ricavavamo sapone da quando si è scoperto che il silicone è pericoloso per lisciare le rughe o gonfiarsi le labbra o un mento sfuggente la parte del leone la fa il collagene da come me l'ha spiegata Marla il collagene che si compra a buon mercato proviene di solito da grasso di vacca sterilizzato e trasformato ma quel genere di collagene economico non dura molto a lungo nel corpo umano là dove te lo inietti mettiamo nelle labbra il tuo organismo lo rigetta e comincia a farlo filtrare sei mesi dopo ti ritrovi con le labbra più avvizzite di prima il collagene migliore ha detto Marla è quello che deriva dal tuo grasso personale che ti risucchi dalle cosce da trattare e ripulire per poi iniettartelo nelle labbra o dove altro vuoi questo è un tipo di collagene che dura la roba in frigo a casa è la provvista di collagene di Marla ogni volta che sua mamma metteva su un po' di grasso in eccedenza lei glielo faceva succhiare fuori e impacchettare Marla dice che questo procedimento si chiama scrematura se la mamma di Marla non ha bisogno del collagene per se stessa manda i pacchetti a Marla Marla non ha mai grasso addosso del suo e sua mamma ed è l'idea che per Marla è sempre meglio il collagene di famiglia che quello da quattro soldi ricavato dalle vacche l'illuminazione del boulevard attraversa la scritta sul parabrezza e proietta chiavi in mano sulla guancia di Tyler i ragni dice Tyler fanno le uova e le larve ci si incastrano nella pelle tanto per dire quanto può essere brutta la vita ora come ora il mio pollo alle mandorle nella sua cremosa salsina tiepida ha il sapore di qualcosa ciucciato dalle cosce della mamma di Marla è stato in quel momento in cucina con Marla che ho capito che cosa aveva fatto Tyler rughe spaventose e sapevo perché aveva mandato i cioccolatini alla mamma di Marla aiuto Marla dico no che non vuoi aprire il congelatore Marla dice cosa? non mangiamo mai carne rossa mi dice Tyler nell'impala e lui non può usare quel grasso di pollo altrimenti il sapone non si indurisce quella roba dice Tyler ci fa guadagnare una fortuna abbiamo pagato l'affitto con quel collagene io gli dico che avrebbe dovuto parlarne a Marla ora lei crede che sia stato io saponificazione dice Tyler e la reazione chimica è necessaria a fare un sapone buono il grasso di pollo non funziona come non va bene nessun grasso con troppo sale ascolta dice Tyler abbiamo da far fronte a una grossa ordinazione manderemo la mamma di Marla della cioccolata e magari qualche crostata io credo che non funzionerà più per farla breve Marla ha guardato nel congelatore d'accordo all'inizio c'è stata una piccola zuffa io cerco di fermarla e il sacchetto le sfugge di mano e si apre sull'inolium e noi scivoliamo tutte e due in quel pasticcio bianco e scivoloso e si rialziamo in preda ai rigurgiti cinturo Marla intorno alla vita da dietro le blocco le braccia contro i fianchi e i suoi capelli mi sferzano la faccia mentre io le dico e le ripeto che non sono stato io non sono stato io non l'ho fatto io mia madre la stai versando dappertutto avevamo bisogno di fare del sapone le spiego con la bocca schiacciata contro l'orecchio avevamo bisogno di lavare i miei calzoni pagare l'affitto riparare la perdita del tubo di gas non sono stato io è stato Tyler Marla strilla che cavolo stai dicendo e sguscia dalla sottana io arranco per risollevarmi dal pavimento unto con in mano una matassa di cotone indiano stampato e Marla in slip con i tacchi a zeppa sotto i piedi e la camicetta da campagnola apre lo sportello del congelatore e dentro non ci sono provviste di collagene ci sono due vecchie batterie da torcia ma nient'altro dov'è? io sto già strisciando all'indietro con le mani che mi scivolano sul pavimento le scarpe che scivolano sull'inoleum e il culo che ne ripulisce una striscia allontanandosi da Marla e dal frigo tengo in alto la gonne così non devo vedere Marla mentre glielo dico la verità ne abbiamo fatto sapone di lei della mamma di Marla sapone sapone si fa bollire il grasso si mescola con la lisciva si ottiene sapone quando Marla strilla le lancio la sottana in faccia e scappo scivolo scappo quando Marla strilla le lancio la sottana in faccia e scappo scivolo scappo in giro per tutto il pian terreno Marla mi insegue slittando intorno agli angoli catapultandosi dagli infissi scivolando lasciando ripugnanti marchi di grasso e sudiciume di pavimento in forma di mani tra i fori della tappezzeria cadendo e andando a sbattere contro gli zoccoli rialzandosi correndo Marla strilla hai bollito mia madre Tyler ha bollito sua madre Marla strilla sempre a un tiro di unghie dietro di me Tyler ha bollito sua madre hai bollito mia madre la porta d'ingresso era ancora aperta così mi sono trovato fuori mentre Marla mi strillava dietro dalla soglia i piedi che scivolavano sul marciapiede di cemento e ho continuato a correre finché ho trovato Tyler o finché Tyler ha trovato me e gli ho raccontato cos'era successo con una birra a testa io e Tyler ci siamo distesi sui sedili io su quello davanti ancora adesso Marla probabilmente è in casa a scagliare le riviste contro i muri e a strillare che sono un farabutto e un mostro o un capitalista biforcuto o un bastardo a ciucciaculi le miglia di notte tra me e Marla offrono insetti e melanomi e virus carnivori dove mi trovo non è malaccio quando un uomo viene colpito da un fulmine dice Tyler la testa gli si brucia e gli diventa piccola come una palla da baseball e la cerniera gli si fonde tutta insieme e non si apre più gli chiedo se questa volta abbiamo toccato il fondo Tyler appoggia la testa e dice se Marilyn Monroe fosse viva in questo momento che cosa starebbe facendo io gli do la buonanotte il rivestimento del soffitto penzola a brandelli e Tyler dice starebbe grattando il coperchio della sua bara capitolo 12 il mio capo è troppo vicino alla mia scrivania con il suo sorrisetto le labbra compresse e tirate lingue all'altezza del mio gomito io levo lo sguardo dalla lettera che sto scrivendo per un'operazione di ritiro queste lettere cominciano sempre nello stesso modo inviamo questo avviso in ottemperanza alle disposizioni della legge nazionale sulla sicurezza degli autoveicoli abbiamo accertato che esiste un difetto questa settimana ho usato la formula della convenienza per una volta A per B per C ha dato un risultato superiore al costo di un ritiro questa settimana è la mollettina di plastica che blocca la racletta di gomma delle spazzole del vostro parabrezza un elemento a consumo solo 200 veicoli difettosi pressoché niente dal punto di vista del costo della mano d'opera la settimana scorsa il problema era pelle conciata con una nota sostanza teratogenica niret sintetico qualcosa altrettanto illegale che si usa ancora per le tinture nel terzo mondo qualcosa di abbastanza forte da poter provocare malformazioni nel feto di una donna incinta che ne sia venuta in contatto la settimana scorsa nessuno ha chiamato il dipartimento dei trasporti nessuno ha dato inizio a un'operazione di ritiro pelle nuova moltiplicato mano d'opera moltiplicato costi amministrativi da un ammontare superiore ai profitti del primo trimestre se qualcuno scopre l'errore possiamo ancora indennizzare un sacco di famiglie a lutto prima di avvicinarci al costo della sostituzione di 6500 finiture in pelle questa settimana invece si ritira e questa settimana è tornata l'insonnia c'è già l'insonnia e ora al mondo intero gli viene in mente di fermarsi a farla sulla mia tomba il mio capo ha la cravatta grigia quindi oggi deve essere martedì il mio capo si presenta alla scrivania con un foglio di carta e mi chiede se sto ancora cercando qualcosa questo foglio è rimasto nella copiatrice dice e comincia a leggere la prima regola del fight club è che non si parla del fight club i suoi occhi corrono da una parte all'altra del foglio di carta e lui ridacchia la seconda regola del fight club è che non si parla del fight club sento le parole di Tyler che escono dal mio capo mister capo con le sue foto ricordo il ritratto di famiglia sulla scrivania e i suoi sogni sul pensionamento anticipato e inverni trascorsi in un parcheggio per case mobili in qualche deserto dell'arizona il mio capo con le sue camicette ultra inamidate e l'appuntamento fisso per un taglio di capelli tutti i martedì dopo pranzo mi guarda e dice spero che non sia tua io sono il sangue ribollente di tizio Tyler mi ha chiesto di battergli a macchina il regolamento del fight club e di tirargliene 10 copie non 9 non 11 10 copie dice Tyler comunque io ho l'insonnia e l'ultima volta che ho dormito deve essere stato 3 notti fa o qualcosa del genere quello deve essere l'originale ho fatto le 10 copie e ho dimenticato l'originale i lampi della fotocopiatrice in faccia l'allontanamento dall'insonnia di ogni cosa una copia di una copia di una copia tu non tocchi niente e niente tocca a te il mio capo legge la terza regola del fight club è due uomini per combattimento nessuno dei due batteciglio il mio capo legge un combattimento alla volta sono tre giorni che non dormo se non sto dormendo ora il mio capo mi agita il foglio sotto il naso allora mi chiede è qualche giochetto a cui indulgo durante l'orario di lavoro io sono pagato per dedicare all'azienda la mia piena attenzione non per sprecare tempo in piccoli giochi di guerra e non sono pagato per adoperare le copiatrici per i fatti miei allora mi agita il foglio sotto il naso che cosa penso mi chiede che cosa dovrebbe fare un dipendente che passa il tempo dell'azienda in qualche suo piccolo mondo di fantasia se fossi nei suoi panni cosa farei che cosa farei il buco nella guancia la tumefazione nerastra intorno agli occhi la cicatrice gonfia e rossa del braccio di tyler sul dorso della mano una copia di una copia di una copia interrogativo perché tyler vuole dieci copie delle regole del fight club vacca hindu quello che farei io rispondo è stare molto attento alle persone con cui parlo di questo foglio dico che sembra scritto da qualche pericoloso killer psicopatico e che questo schizofrenico represso potrebbe partire in quarta da un momento all'altro in un giorno lavorativo e passare da un ufficio a un ufficio con un'armalite ar 180 semi automatico a gas il mio capo mi guarda quel tizio dico probabilmente passa tutte le sere a casa a incidere una croce sulla punta di tutte le sue pallottole con una lima così quando una mattina si presenta sul lavoro e scarica una fucilata nel suo petulante inefficiente gretto piagnucoloso capo ciucciaculi chiappe molli quel proiettile si spaccherà lungo le incisioni e si aprirà allo stesso modo che un dam dam ti sboccia dentro facendoti esplodere una secchiata di budella puzzolenti attraverso la spina dorsale immaginati il tuo chakra viscerale che si apre in un'esplosione rallentatore di salsiccioso intestino tenue il mio capo ritira il foglio da sotto il mio naso avanti dico io leggimene un altro po' no davvero dico è affascinante l'opera di un cervello completamente ammorbato e sorrido i contorni del buco del culo del foro che ho nella guancia sono dello stesso blu nero delle gengive di un cane la pelle tirata sul gonfiore intorno agli occhi sembra induita dalla vernice il mio capo mi guarda lascia che ti aiuti dico io la quarta regola del fight club dico è un combattimento alla volta il mio capo guarda il regolamento e poi guarda me la quinta regola è niente scarpe gli dico niente camicia durante il combattimento il mio capo guarda il regolamento e guarda me forse dico io questa testa di cazzo pazzo da sbatter via userà una carabina igola pasce perché una pasce pesa solo 4 chili con un caricatore da 30 colpi l'arma light passa solo 5 colpi per volta con 30 colpi il nostro eroe completamente fuori di testa può battersi tutta via mogano e stendere tutti i vicepresidenti avanzando ancora una pallottola per ciascun direttore parole di Tyler che escono dalla mia bocca ero una così brava persona guardo il mio capo il mio capo ha occhi celesti fiordalisi celesti per occhi anche la carabina semiautomatica J.A.R. 68 prende caricatori da 30 colpi e pesa solo poco più di 3 chili il mio capo mi guarda brutta storia dico io questa è probabilmente una persona che conosce da anni questa è probabilmente una persona che sa tutto di lui dove vive dove lavora sua moglie dove vanno a scuola i suoi figli questo è spossante tutto a un tratto è una noia mortale di quelle che non le reggi e perché mai Tyler ha bisogno di 10 copie del regolamento del Fight Club quello che non occorre che dica è che so dei rivestimenti di pelle che causano malformazioni al feto so delle guarnizioni dei freni che sembrano buone abbastanza da passare il controllo per la messa in vendita ma che si deteriorano dopo 2000 miglia so del reostato dell'impianto di condizionamento che quando si surriscalda è capace di appiccare fuoco alle carte stradali nello stipo del cruscotto so quante persone sono morte arse vive per la fiamma di ritorno degli iniettori del carburante ho visto gente con le gambe amputate all'altezza del ginocchio perché i turbocompressori erano esplosi e avevano catapultato le loro pale nell'abitacolo attraverso la paratia io sono stato sul luogo e ho visto le macchine incenerite e i rapporti sui quali alla voce causa del malfunzionamento c'è scritto ignota no dico quel foglio non è mio prendo il foglio tra due dita e glielo strappo dalla mano si vede che il filo della carta gli affetta il pollice perché la sua mano vola alla bocca e lui si mette a succhiare come un matto con occhi sgranati la cartoccio del foglio e lo metto nel cestino sotto la mia scrivania forse gli dico non dovresti portarmi tutte le cartacce che raccatti in giro per l'ufficio domenica sera vado a arrestare uomini insieme e lo scantinato della Trinity Episcopal è quasi deserto solo Big Bob ed io trascino dentro i miei muscoli tutti ammaccati dentro e fuori ma con la testa che corre ancora e i pensieri come un ciclone e l'insonnia hai i pensieri in onda per tutta la notte per tutta la notte sei lì che pensi sto dormendo ho dormito danno alla beffa le braccia di Big Bob gli escono dalle maniche della maglietta trapuntate di muscoli e dure da luccicare Big Bob sorride è così felice di vedermi mi credeva morto già dico io anch'io beh dice Big Bob ho buone notizie dove sono tutti quanti è questa la buona notizia risponde risponde Big Bob il gruppo è sciolto io sono venuto qui solo per dirlo a quelli che magari passavano io crollo con gli occhi chiusi su uno dei divani a scacchi presi dalla seconda mano la bella notizia dice Big Bob è che c'è un nuovo gruppo ma la prima regola di questo nuovo gruppo è che non devi parlarne oh la seconda regola è che non devi parlarne dice Big Bob oh merda apro gli occhi cazzo il gruppo si chiama Fight Club dice Big Bob e si riunisce tutti i venerdì in un garage chiuso dall'altra parte della città il giovedì sera c'è un altro Fight Club in un garage lì vicino sono posti che non conosco la prima regola del Fight Club dice Big Bob è che non si parla del Fight Club mercoledì giovedì e venerdì sera Tyler fa il proiezionista la settimana scorsa ho dato una sbirciata alla sua busta paga la seconda regola del Fight Club dice Big Bob è che non si parla del Fight Club il sabato sera Tyler va al Fight Club con me solo due uomini per combattimento la domenica mattina torniamo a casa da pesti e dormiamo tutto il pomeriggio un combattimento alla volta dice Big Bob la domenica e lunedì sera Tyler serve ai tavoli si combatte senza camicia e senza scarpe il martedì sera Tyler è a casa a fare sapone a confezionarlo in carta velina a smerciarlo il saponificio di Paper Street i combattenti dice Big Bob vanno avanti finché si vuole queste sono le regole inventate da quello che ha inventato il Fight Club Big Bob chiede lo conosci? non l'ho mai visto io di persona dice Big Bob ma si chiama Tyler Durden il saponificio di Paper Street se lo conosco non so dico io forse capitolo 13 quando arrivo a Regent Hotel Marla è nella lobby in Vestaglia Marla mi ha chiamato al lavoro e mi ha chiesto se ero disposto a saltare la palestra o la biblioteca o la lavanderia o qualunque cosa avessi in programma per dopo per andare invece a trovare lei questo è il motivo per cui Marla mi ha chiamato perché lei mi odia non dice niente della sua provvista di collagene quello che mi dice Marla è se le faccio un piacere voglio oggi pomeriggio Marla era a letto Marla vive dei pasti che la Mils & Wills recapita ai suoi vicini che sono morti Marla ritira i pasti e dice che stanno dormendo per farla breve ogni pomeriggio tra mezzogiorno e le due Marla era a letto ad aspettare la consegna della Mils & Wills sono un paio d'anni che Marla non ha più l'assicurazione sanitaria così ha smesso di guardare ma stamane guarda e le sembra che ci sia un bozzo e noduli sotto il braccio vicino al bozzo e sono duri e sensibili allo stesso tempo e lei non può dirlo a nessuna persona a cui vuole bene perché non vuole spaventarla e non può permettersi di andare da un medico se fosse roba da niente ma ha bisogno di parlare con qualcuno e che qualcun altro la guardi il colore degli occhi castani di Marla è quello di un animale riscaldato in una fornace e lasciato cadere nell'acqua fredda la chiamano vulcanizzazione o galvanizzazione o temperatura Marla dice che mi perdona la faccenda del collagene se l'aiuto a guardare io presumo che non chiami Tyler perché non vuole spaventarlo dal suo punto di vista io sono neutro sono in debito con lei saliamo nella sua camera e Marla mi dice che se non si vedono mai in giro animali selvatici vecchi è perché appena invecchiano gli animali muoiono se si ammalano diventano lenti c'è qualcuno più forte di loro che li uccide non è previsto che gli animali debbano invecchiare Marla si distende sul letto e slaccia la cintura dell'accappatoio e dice che la nostra cultura ha dato un significato negativo alla morte gli animali vecchi dovrebbero essere un'eccezione innaturale esseri anormali Marla è fredda e suda mentre racconto della volta che al college mi è venuto un porro sul pene solo che io dico uccello sono andato alla facoltà di medicina per farmelo asportare il porro e poi l'ho detto a mio padre è stato anni dopo che mio padre ha riso e mi ha detto che sono stato uno stupido perché i porri come quello sono grandi stimolatori di cui ci fa dono la natura le donne li adorano e Dio mi stava facendo un favore ho inginocchiato di fianco al letto di Marla con le mie mani ancora fredde da fuori a tastare la pelle fredda di Marla un po' alla volta a sfregarmi centimetro per centimetro di Marla tra le dita e Marla dice che quei porri che sono grandissimi stimolatori donati da Dio fanno venire il cancro all'utero alle donne così mi sono seduto su un foglio di carta in un gabinetto medico alla scuola di medicina e uno studente di medicina ha spruzzato azoto liquido sull'uccello sotto gli occhi di altri otto studenti di medicina è lì che vai a finire quando non hai un'assicurazione sanitaria solo che loro non lo chiamano uccello loro loro lo chiamano pene e comunque lo chiami se ci spruzzi sopra azoto liquido ti fa un male da orbi che tanto vale bruciarlo con la lisciva Marla ride di questa storia finché vede che le mie dita si sono fermate come se avessi trovato qualcosa Marla smette di respirare il suo stomaco diventa come un tamburo il suo cuore è come un pugno che batte da dentro la pelle di un tamburo ma no mi sono interrotto perché stavo parlando e mi sono interrotto perché per un minuto né io né lei eravamo nella stanza di Marla eravamo alla scuola di medicina molti anni fa io ho seduto su un foglio di carta appiccicoso con l'uccello infuocato dall'azoto liquido quando uno degli studenti di medicina ha visto i miei piedi nudi ed è corso fuori in due grandi falcate lo studente è tornato in coda a tre medici veri e i medici hanno sgomitato da parte quello con la bomboletta di azzoto liquido un medico vero mi ha afferrato il piede destro e l'ha schiaffato sotto il naso degli altri medici veri i tre se lo sono rigirato se lo sono tastato e ne hanno scattato foto con la polaroid ed era come se il resto della persona mezzo vestito con il dono di dio mezzo congelato non esistesse solo il piede e gli studenti di medicina tutti accalcati per guardare da quanto tempo ha chiesto un medico hai questa macchia rossa sul piede il medico parlava della mia voglia sul piede destro ho una voglia che mio padre scherzando dice che sembra un'Australia rosso scuro con attaccata una piccola nuova Zelanda questo gli ho detto è tutto quanto sia sgonfiato il mio uccello intanto si andava disciogliendo se ne sono andati tutti ed è rimasto solo lo studente con l'azoto e c'era la sensazione che se ne sarebbe andato anche lui era così deluso che non mi ha mai guardato negli occhi mentre mi prendeva la cappella e se la girava verso di sé dalla bomboletta è uscito un piccolo oggetto su quel che rimaneva del mio porro il male era tale che ti sembrava di poter chiudere gli occhi ed immaginarti di avercelo lungo cento miglia e ti avrebbe fatto male lo stesso Marla mi guardava la mano e guardava la cicatrice del braccio di Tyler io ho detto allo studente di medicina che evidentemente non capitavano molte voglie dalle parti loro non è questo lo studente dice che tutti avevano pensato che quella voglia era cancro circolava questa nuova specie di cancro che beccava i giovani si svegliavano con una macchia rossa sui piedi o sulle caviglie la macchia non andava più via si allargava finché ti ricopriva direttamente e tu ci restavi secco lo studente dice che i medici e tutti quanti erano più emozionati che mai perché pensavano che fosse quella nuova forma di cancro erano ancora pochi ad avercelo ma si stava diffondendo questo è successo molti anni fa il cancro è così spiego a Marla mi fanno degli errori e forse l'importante è non dimenticare il resto di te stesso se solo una piccola parte di te andasse in malora andasse ripete Marla lo studente con l'azzoto ha finito il suo lavoro e mi ha detto che il porro sarebbe cascato di lì a qualche giorno sulla carta appiccicosa accanto al mio culo nudo c'era una polaroide del mio piede che non voleva nessuno gli ho chiesto se potevo portarla via ho ancora quella foto in casa infilata nell'angolo di uno specchio mi pettino davanti allo specchio tutte le mattine prima di andare al lavoro e penso che una volta ho avuto il cancro per dieci minuti qualcosa di peggio del cancro dico a Marla che quella di quell'anno è stata la prima festa del ringraziamento che non sono andato con il nonno a pattinare sul ghiaccio anche se il ghiaccio era spesso quasi 15 centimetri mia nonna aveva sempre questi cerotti rotondi sulla fronte e sulle braccia dove i nei che aveva avuto da quando era nata andavano storti sviluppavano contorni frastagliati o da marrone diventavano blu o neri l'ultima volta che mia nonna è uscita dall'ospedale mio nonno le ha portato la valigia ed era così pesante che si lamentava di sentirsi sbilenco la mia nonna franco-canadese era così pudica che non indossava mai un costume da bagno in pubblico e faceva sempre scorrere l'acqua del lavabo per mascherare eventuali rumori che avesse a produrre in bagno uscendo dall'ospedale di nostra signora di Lourdes dopo una massectomia parziale dice tu ti senti sbilenco? per mio nonno questo è il sunto di tutta quanta la storia mia nonna il cancro il loro matrimonio la tua vita ride ogni volta che la racconta marla però non sta ridendo io voglio farla ridere per tenerla su per farmi perdonare per il collagene voglio dire a marla che non c'è niente da trovare su di lei se stamattina ha trovato qualcosa è stato un errore una voglia marla ha la cicatrice del bacio di Tyler sul dorso della mano voglio far ridere marla così non le dico dell'ultima volta che ho abbracciato chloe chloe senza capelli uno scheletro appucciato in sego giallo con un fazzoletto di seta annodato intorno alla testa calva ho abbracciato chloe un'ultima volta prima che scomparisse per sempre le ho detto che sembrava un pirata e lei ha riso io quando vado in spiaggia mi siedo sempre con il piede destro infilato sotto la natica australia e nuova zelanda oppure lo seppellisco nella sabbia la mia paura è che qualcuno veda il mio piede e io comincio a morire nel suo cervello il cancro che non ho ora è dappertutto questo non voglio dirlo a marla ci sono molte cose che non vogliamo sapere delle persone a cui vogliamo bene per tenerla su per farla ridere raccontò a marla della donna di caro Abby che aveva sposato un impresario di pompe funebri bello e benestante e la notte delle nozze lui l'aveva fatta immergere in una vasca di acqua gelida finché la sua pelle al tocco non era sembrata congelata poi l'aveva fatta distendere sul letto e l'aveva costretta a rimanere assolutamente immobile mentre lui si accoppiava con il suo corpo gelido e inerte la cosa buffa è che questa donna lo aveva accontentato da sposina ed era andata avanti così per i successivi dieci anni di matrimonio e ora scriveva a caro Abby per chiedere a Abby se secondo lui aveva qualche significato particolare capitolo 14 per questo amo tanto i gruppi di sostegno se la gente pensa che stai morendo ti presta tutta la sua attenzione se questa può essere l'ultima volta che ti vedono ti vedono davvero no? e tutto il resto finisce fuori dalla finestra il conto in rosso e le canzoni alla radio e i capelli in disordine hai la loro piena attenzione la gente ti ascolta invece di aspettare il suo turno per parlare e quando qualcuno ti parla non ti sta cacciando balle quando chiacchierate costruite qualcosa e dopo siete tutti e due diversi da prima Marla aveva cominciato a frequentare i gruppi di sostegno dopo aver trovato il suo primo bozzo stamane dopo che abbiamo trovato il suo secondo bozzo Marla è entrata saltellando in cucina con tutte e due le gambe in una sola gamba del suo collante e ha detto guarda sono una sirena Marla ha detto questo non è come quando uno si siede all'indietro sulla tazza del cesso e fa finta di essere in moto questo è un incidente vero poco prima che Marla e io ci vedessimo per la prima volta a restare uomini insieme c'è stato il primo bozzo e adesso c'era un secondo bozzo quello che dovete sapere però è che Marla è ancora viva la filosofia di vita di Marla mi ha detto è che lei può morire in qualsiasi momento la tragedia della sua vita è che non è vero quando Marla ha trovato il primo bozzo è andata in una clinica dove rassegnate madri spaventapasseri occupavano seggiole di plastica disposte su tre lati della sala d'aspetto con inerti bambinetti appallotolati in grembo o sdraiati ai piedi i bambini erano smonti avevano cerchi neri intorno agli occhi alla maniera che marciscono e collassano le arance o le banane e le madri grattano i tappeti di forfula ad incontrollabile infezioni al cuoio capelluto da quando appaiono enormi i denti in tutte le facce smagrite in quella clinica capisci come i denti non sono che scaglie di osso che ti escono dalla pelle per triturare le cose questi sono i posti dove vai a finire quando non hai un'assicurazione sanitaria prima che qualcuno sapesse qualcosa un sacco di gay avevano desiderato avere dei figli e ora i figli sono malati le madri stanno morendo e i padri sono morti e là seduta nell'odore nauseante di piscia e aceto un'infermiera chiede a ciascuna madre da quanto tempo è malata e quanto peso ha perduto e se suo figlio ha qualche parente o tutore in vita Marla decide di no se deve morire Marla non lo vuole sapere Marla è uscita dalla clinica e ha svoltato l'angolo ed è entrata nella lavanderia e ha rubato tutti i jeans che c'erano negli essiccatori poi è andata da un commerciante che le ha dato 15 dollari al pezzo poi Marla si è comprata un paio di collante di quelli veramente di marca quelli che non si smagliano anche quelli di marca che non si smagliano dice Marla si impigliano allo stesso non c'è niente di statico tutto va a pezzi Marla ha cominciato ad andare in gruppi di sostegno perché era più facile stare insieme ad altra pulitura di culo umano tutti hanno qualcosa che non va e per un po' il suo cuore si è ricomposto Marla ha cominciato un lavoro a organizzare funerali prepagati per un'impresa di onoranze funebri dove talvolta uomini grandi e grossi e grassi ma di solito donne grasse uscivano dalla sala dove era esposto il campionario portando un'urna cineraria grande come un porta uovo e Marla seduta alla sua scrivania nel vestibolo con i capelli scuri raccolti ai suoi collante che si impigliavano e il nodulo al seno e il destino segnato diceva signora non si faccia illusioni su se stessa in quel cosino non riusciremmo a mettere nemmeno i resti della sua testa torni di là e scelga un'urna grande come una palla da bowling il cuore di Marla era come la mia faccia tutta la merda e l'immondizia del mondo pulitura post consumistica di culo umano che nessuno si prenderebbe mai il disturbo di riciclare fra i gruppi di sostegno e la clinica mi ha raccontato Marla aveva conosciuto molte persone che erano morte quelle persone erano morte e dall'altra parte di notte chiamavano per il telefono Marla andava al bar e sentiva il barista che la chiamava per nome e quando andava a rispondere in linea non c'era nessuno all'epoca pensava che fosse toccare il fondo quando hai 24 anni dice Marla non hai idea di quanto puoi cadere per arrivare in fondo ma io ero veloce a imparare la prima volta che Marla ha riempito un'urna cineraria non portava la mascherina e dopo si è soffiata il naso e nel fazzoletto di carta c'era un grumo nero del signor chissà che nella casa di Paper Street se il telefono squillava una volta sola e tu rispondevi e in linea non c'era nessuno sapevi che era qualcuno che cercava di contattare Marla una cosa che accadeva più spesso di quanto potesse pensare nella casa di Paper Street un investigatore della polizia ha cominciato a telefonare per chiedermi dell'esplosione nel mio appartamento e Tyler mi stava accanto con il petto contro la mia spalla a bisbigliarmi in un orecchio mentre io tenevo il ricevitore nell'altro orecchio e l'investigatore mi domandava se conoscevo qualcuno capace di fabbricare dinamite in casa il disastro è un aspetto naturale della mia evoluzione bisbigliava Tyler sulla via verso la tragedia e la dissoluzione ho detto all'investigatore che era stato il mio frigorifero a far saltare l'appartamento sto sciogliendo i miei legami con il potere fisico e gli oggetti terreni ha bisbigliato Tyler perché solo distruggendo me stesso posso scoprire il più elevato potere del mio spirito la dinamite ha detto l'investigatore presentava impurità un residuo di ossalato di ammonio e per cloruro di potassio che potrebbe stare a significare che la bomba era di confezione casalinga e il catenaccio alla porta d'ingresso era scassinato io ho detto che ero a Washington quella notte l'investigatore al telefono mi ha spiegato che qualcuno aveva spruzzato freoni in bomboletta nella serratura e poi l'ha sbattuta con uno scalpello per spaccare il cilindro è in questo modo che si rubano le biciclette il liberatore che distrugge la mia proprietà ha detto Tyler sta lottando per salvare il mio spirito l'insegnante che sgombra tutti i possessi dal mio sentiero mi renderà libero l'investigatore ha detto che chiunque ha piazzato la dinamite fatta in casa avrebbe potuto aprire il gas e spegnere la fiammella pilota dei fornelli giorni prima di quando aveva avuto luogo l'esplosione il gas aveva fatto da innesco potevano volerci giorni perché il gas riempisse l'appartamento prima di arrivare al compressore alla base del frigorifero in modo che il motore elettrico del compressore innescasse la deflagrazione diglielo ha bisbigliato Tyler sì sei stato tu hai fatto saltare in aria tutto è quello che vuole sentirsi dire da te io all'investigatore ho detto di no non avevo lasciato il gas aperto prima di partire amavo la mia vita amavo quell'appartamento amavo ogni pezzo d'arredo che ci avevo messo dentro era tutta la mia vita tutto lampade poltronne tappeti era parte di me stesso lo erano i piatti negli armadietti le piante il televisore ero stato io a saltare in aria possibile che non se ne rendesse conto l'investigatore mi ha ammonito a non lasciare la città capitolo 15 l'esimio signor presidente della sezione locale del sindacato nazionale dei proiezionisti e dei lavoratori indipendenti delle sale cinematografiche sedeva immobile sotto e dietro e dentro tutto quello che aveva dato per scontato era cresciuto qualcosa di orribile niente statico tutto va a pezzi questo io lo so perché lo sa Tyler da tre anni Tyler giuntava e disgiungeva pellicole per il cinema un film viaggia in sei o sette piccole bobine riposte in un astuccio di metallo il lavoro di Tyler era unire insieme tutte le bobine piccole per farne bobine uniche da cinque piedi adatte a proiettori a caricamento e riavvolgimento automatici dopo tre anni sette cinematografi almeno tre schermi per cinema e programmazione settimanale Tyler aveva maneggiato centinaia di pellicole una sventura ma con il moltiplicarsi dei proiettori a caricamento e riavvolgimento automatici il sindacato non aveva più bisogno di Tyler il signor presidente di sezione aveva dovuto convocare Tyler per una breve chiacchierata il lavoro era noioso e la paga era uno schifo dunque il presidente del sindacato unito dei proiezionisti indipendenti unii dell'unione dei cinematografici ha detto che faceva a Tyler Durden un favore rifilandogli la diplomatica messa in quel posto non vederla come un'espulsione vedila come un ridimensionamento dritto su per il di dietro il signor presidente di sezione in persona dice abbiamo apprezzato il tuo contributo al nostro successo oh nessun problema ha risposto Tyler e ha sorriso fin tanto che il sindacato avesse continuato a spegliergli il suo assegno avrebbe tenuto la bocca chiusa vedila come un pensionamento anticipato ha detto Tyler Tyler aveva maneggiato centinaia di pellicole le pellicole erano tornate al distributore le pellicole erano ritornate in circolazione commedie drammi musical sentimentali azione avventura con sparsi qua e là singoli fotogrammi di pornografia introdotti da Tyler sodomia fellazio cunnilingus bondage Tyler non aveva niente da perdere Tyler era la pedina del mondo la sua spazzatura personale questo è quanto Tyler mi ha preparato a dire anche al direttore del pressman hotel all'altro posto di lavoro di Tyler al pressman hotel Tyler ha detto di non essere nessuno a nessuno importava se viveva o moriva e il sentimento era fottutamente reciproco questo è quanto Tyler mi ha detto di dire nella direzione dell'albergo con le guardie giurate sedute fuori dalla porta dopo che tutto è finito Tyler e io siamo rimasti alzati fino a tardi a raccontarcela subito dopo la sua visita al sindacato proiezionisti Tyler mi ha mandato ad affrontare il direttore del pressman hotel sembravamo sempre più gemelli mono zigoti io e Tyler avevamo tutti e due gli zigomi pieni di pugni e la pelle aveva perso la sua memoria e si dimenticava dove ricomporsi dopo che ci avevano pestati le mie ecchimosi venivano dal fight club e la faccia di Tyler aveva cambiato i connotati per via dei cazzotti presi dal presidente del sindacato proiezionisti dopo che Tyler è uscito strascicando dagli uffici sindacali io sono andato a trovare il direttore del pressman hotel mi sono seduto là nell'ufficio del direttore del pressman hotel io sono la vendetta beffarda di tizio la prima cosa che mi ha detto il direttore dell'albergo è stata che avevo tre minuti nei primi 30 secondi gli ho raccontato di aver pisciato nelle minestre di aver scorreggiato sulle crème brûlée di aver starnutito sull'indivia stufata e gli ho detto che ora volevo che l'albergo mi mandasse ogni settimana un assegno equivalente alla mia paga settimanale media più le mance in cambio io non sarei più andato lì a lavorare e non mi sarei rivolto ai giornali o alle autorità sanitarie con confessioni confuse e lacrimose titoli cameriere in preda al rimorso ammette di aver contaminato le pietanze sicuro ho detto potrei finire in prigione potrebbero impiccarmi e strapparmi le palle trascinarmi per le strade ascorticarmi vivo e bruciarmi con la lisciva ma il pressman hotel sarebbe rimasto per tutti l'albergo dove la gente più ricca del mondo mangiava la piscia parole di Tyler che uscivano dalla mia bocca io che ero una così brava persona alla sede del sindacato proiezionisti Tyler si era messo a ridere dopo che il presidente di sezione aveva sferrato un pugno quell'unico pugno lo aveva spedito giù dalla sedia e Tyler si trovava seduto contro il muro a ridere avanti tanto non mi puoi uccidere rideva Tyler stupido testa di cazzo suonami da ridurmi in poltiglia ma non mi puoi uccidere hai troppo da perdere io non ho niente tu hai tutto avanti qui nella pancia un'altra bella botta alla faccia fammi saltare i denti ma continuo a mandarmi quegli assegni spezzami le costole ma se mi manchi una sola settimana io spiattello tutto e tu e il tuo piccolo sindacato sarete travolti dalle cause che vi intenteranno tutti i gestori di cinema e i distributori di film e le brave mammine al cui bravo bambino è sembrato di aver visto un cazzo duro in bambi io sono immondizia ha detto Tyler io sono immondizia è merda è follia per te e questo piccolo mondo del cazzo ha detto Tyler al presidente sindacalista a te non importa dove vivo o come mi sento o che cosa mangio o che cosa do da mangiare ai miei bambini o come pago il dottore se sto male sì io sono stupido e stufo e debole ma sono sempre ancora una tua responsabilità seduto nell'ufficio del pressman hotel io avevo le labbra da fight club ancora spaccate in una decina di segmenti con quel buco di culo nella guancia a guardare il direttore del pressman hotel era tutto alquanto convincente e l'insieme gli ho detto le stesse cose che aveva detto Tyler dopo che il signor presidente aveva visto che Tyler non reagiva con il suo corpaccione grande e grosso come mai gli sarebbe servito alzato dietro di sé il moccassino di marca e gli ha tirato un calcio nelle costole e Tyler ha riso l'esimio presidente ha alzato la bella scarpetta e l'ha spedita nelle reni di Tyler dopo che Tyler si era raggomito l'auto per terra ma Tyler rideva ancora butta tutto fuori gli ha detto Tyler fidati di me ti sentirai molto meglio ti sentirai una forza della natura nella direzione del Pressman Hotel ho chiesto al direttore dell'albergo se mi permetteva di usare il suo telefono e ho composto un numero della cronaca cittadina del giornale locale sotto gli occhi del direttore dell'albergo ho detto pronto ho detto ho commesso un terribile crimine contro l'umanità per esprimere una protesta politica la mia protesta è contro lo sfruttamento dei lavoratori nell'industria dei servizi se devo finire in prigione non sarò solo un pari asquilibrato che la fa nella minestra la portata del mio gesto sarà eroica cameriere Robin Hood difende i diseredati non sarà clamore circoscritto a un solo albergo e un solo cameriere molto delicatamente il direttore del Pressman Hotel mi ha sfilato il ricevitore di mano il direttore ha detto che non voleva che lavorassi più da lui non con la faccia che mi ritrovo ora io sono in piedi davanti alla scrivania del direttore quando mi meraviglio e dico cosa? non le piace l'idea di questo? e senza batter ciglio sempre guardando il direttore lascio partire una sventola carica di tutta la forza centrifuga del mio braccio e mi faccio sprizzare sangue fresco dalle croste che ho sul naso senza nessun motivo mi ricordo la sera che Tyler e io ci siamo affrontati per la prima volta voglio che tu mi tiri un cazzotto più forte che puoi questo non è altrettanto forte me ne do un altro è già un bello spettacolo tutto quel sangue ma io mi scaglio di nuovo contro il muro e faccio un fracasso terribile e mando in frantumi il quadro che c'è appeso il vetro infranto e la cornice spezzata il dipinto di fiori il sangue finiscono per terra con me mi dibatto e gesticolo che bel gigione che sono il sangue imbratta il tappeto e io mi aggrappo lasciando mostruose impronte di sangue sul bordo della scrivania del direttore dell'albergo e gli dico aiuto mi aiuti ma intanto comincio a sghignazzare mi aiuti la prego la prego non mi picchi di nuovo scivolo di nuovo per terra e striscio il mio sangue sul tappeto la prego saranno le mie prime parole così tengo le labbra serrate il mostro si trascina sui preziosi bouquet e sulle delicate ghirlante del tappeto orientale il sangue mi cade dal naso e mi scivola in gola mi riempie la gola è caldo il mostro striscia sul tappeto ardente e raccoglie bruscoli e polvere che si appiccicano al sangue dei suoi artigli e si trascina abbastanza vicino ad afferrare il direttore del pressman hotel per la caviglia gessata e dirlo la prego dirlo la prego esce in una bolla di sangue dirlo la prego e la bolla scoppia e schizza sangue dappertutto ed è stato così che Tyler si è ritrovato libero di aprire un fight club per ogni sera della settimana dopo quella volta ci sono stati 7 fight club e dopo ci sono stati 15 fight club e dopo ci sono stati 23 fight club e Tyler ne voleva altri ancora c'era da incassare soldi in continuazione la prego ho chiesto al direttore del pressman hotel mi dia i soldi e sghignazzavo di nuovo la prego prego e la prego non mi picchi ancora lei ha tanto e io non ho niente e comincio ad arrampicarmi nel mio sangue su per i calzoni gessati del direttore del pressman hotel che si inclina all'indietro indurito con le mani sul davanzale che ha alle spalle e persino le sue labbra sottili si ritirano dai denti il mostro aggrancia il suo artiglio insanguinato alla cintola dei calzoni del direttore e si issa ad afferrargli la camicia bianca inamidata e io chiudo le medita insanguinate sui polsi lisci del direttore la prego faccio un sorriso grande da spaccarmi le labbra c'è una zuffa con il direttore che strilla e cerca di strapparsi di dosso le mie mani e il mio sangue e il mio naso spappolato con tutta la sporcizia che il sangue appiccica addosso a entrambi e proprio in quel momento al culmine dell'eccellenza le guardie giurate decidono di intervenire capitolo 16 c'è sul giornale di oggi che qualcuno si è introdotto negli uffici tra il decimo e il quindicesimo piano della Heintower e si è lasciato pensolare dalle finestre e ha dipinto sul lato sud del palazzo una maschera ghignante alta 5 piani e ha appiccicato dei fuochi così che le finestre che si trovavano al centro dei due occhi enormi hanno brillato di luce enorme e viva e inevitabile all'alba su tutta la città nella foto in prima pagina la faccia è una zucca rabbiosa un demone giapponese un drago di cupidigia sospeso nel cielo e il fumo sono le sopracciglia di una strega o i corni di un diavolo e la gente ha strillato con la testa rovesciata all'indietro e cosa voleva dire chi poteva essere stato e anche dopo che gli incidenti si erano spenti la faccia era ancora lì ed era anche peggio gli occhi vuoti sembravano fissare tutta la gente che c'era in strada e allo stesso tempo erano morti una storia che torna e ritorna sul giornale naturalmente voi ne avete letto e volete sapere subito se rientra nel progetto caos il giornale dice che la polizia non ha indizi validi bande giovanili o alieni provenienti dallo spazio chiunque sia stato avrebbe potuto lasciarci le penne aggrappato al davanzale con sacchi di bombolette di vernice nera è stato il comitato scherzi o il comitato incendiari il faccione era probabilmente il compito a casa da svolgere la settimana scorsa qualcosa ne saprà certo Tyler ma la prima regola del progetto caos è che non si fanno domande sul progetto caos alla riunione del comitato aggressioni del progetto caos questa settimana Tyler dice di aver spiegato per filo e per segno a tutti quanti che cosa ci vuole per sparare con una pistola tutto quello che fa una pistola è focalizzare un'esplosione in una sola direzione all'ultima riunione del comitato aggressioni Tyler ha portato una pistola e le pagine gialle dell'elenco abbonati al telefono si riuniscono nello scantinato dove il sabato sera c'è il fight club c'è un comitato diverso ogni sera incendiari lunedì aggressioni il martedì scherzi il mercoledì e disinformazione il giovedì caos organizzato la burocrazia dell'anarchia mettetela come vi pare gruppi di sostegno in un certo senso dunque il martedì sera il comitato aggressioni ha proposto le azioni per la settimana entrante e Tyler ha letto le proposte e ha assegnato al comitato il suo compito a casa prima che si concluda la prossima settimana tutti i membri del comitato aggressioni devono attaccare briga con qualcuno senza venirne fuori da eroe e non in un fight club è più difficile di quello che sembra uno che passa per la strada è disposto a tutto pur di non fare a botte l'idea è di prendere un tizio che non ha mai partecipato a una scazzottata e reclutarlo lasciargli provare il sapore della vittoria per la prima volta in vita sua dargli l'occasione di esplodere dargli il permesso di spaccargli la faccia sopravvivrete se vincete voi avete fallito però il nostro scopo è la gente ha spiegato Tyler al comitato è ricordare a queste persone quanta potenza contengono ancora questo è il discorsetto frizzante di Tyler poi dispiega tutti i fogli ripiegati che ci sono nella scatola di cartone che ha davanti è così che ogni comitato propone le azioni per la settimana entrante si scrive la proposta sul block notice del comitato si strappa il foglio lo si piega e lo si mette nella scatola Tyler legge le proposte e scarta le idee scadenti per ogni idea scartata Tyler mette nella scatola un foglio bianco poi tutti i membri del comitato scelgono un foglio secondo come me l'ha spiegata Tyler quello che pesca il foglio bianco per quella settimana ha da fare solo i suoi compiti se metti una proposta allora questo fine settimana devi andare alla sagra della birra di importazione e spingere un tizio dentro a un urinale o acquisti una nota di merito in più se per questo ti fai picchiare oppure devi andare alla sfilata di moda al centro commerciale e lanciare marmellata di fragole al mezzanino se finisci se finisci arrestato sei fuori dal comitato aggressioni se ridi sei fuori dal comitato nessuno sa chi pesca una proposta e nessuno oltre Tyler sa quali erano tutte le proposte e quali sono state accettate e quali ha gettato via qualche giorno dopo ti capita di leggere magari di una persona rimasta ignota che in centro è saltato addosso al guidatore di una jaguar cabriolet e gliela fatta finire in una fontana allora ti chiedi era una proposta di comitato che sarebbe potuta toccare a te il martedì seguente ti guardi attorno al comitato aggressioni sotto la luce solitaria nello scantinato del fight club e ancora ti stai domandando chi ha fatto finire la jag nella fontana chi è salito sul tetto del museo d'arte e ha sparato palle di vernice nella sala d'ingresso della sezione dedicata alla scultura chi ha disegnato la maschera demoniaca con gli occhi infuocati sulla Heintower la notte della Heintower ti figuri una squadra di assistenti legali o contabili o passacarte che si intrufolano negli uffici dove vanno a scalare la sedia tutti i giorni forse erano un po' brilli anche se contro il regolamento del progetto caos e hanno usato passepartout dove hanno potuto e hanno usato bombolette spray di freon per far saltare i cilindri delle serrature per potersi calare penzolando a corda doppia lungo la facciata di mattoni del palazzo affidando la propria sorte l'uno all'altro dondolando rischiando una rapida morte negli uffici dove tutti i giorni sentono la loro vita finire un'ora alla volta il mattino dopo quegli stessi impiegati e commessi d'ufficio saranno nella folla con la testa accuratamente pettinata gettata all'indietro un po' storditi per la mancanza di sonno ma sobri e in giacca e cravatta ad ascoltare la gente che è intorno si domanda chi può essere stato e la polizia che grida a tutti di circolare subito mentre l'acqua scorre dal centro fumante e infranto dei due occhi giganteschi Tyler ne ha confidato un segreto che non ci sono mai più di quattro buone proposte per ogni riunione perciò le probabilità di pescare una vera proposta e non un foglio bianco sono di quattro a dieci circa il comitato aggressioni è composto da venticinque membri Tyler incluso a tutti viene segnato il proprio compito perdere in una scazzottata in pubblico tutti pescano una proposta questa settimana Tyler ha detto compratevi una pistola Tyler ha consegnato a uno le pagine gialle e gli ha detto di strappare una pubblicità poi di passare la guida a quello che aveva di fianco ma ci si doveva ritrovare in due nello stesso posto a comperarla o a sparare questa ha detto Tyler ha estratto una pistola dalla tasca della giacca questa è una pistola e dentro due settimane tutti voi dovete avere una pistola più o meno di queste dimensioni da portare alla riunione meglio se la comprate pagando in contanti però ha detto Tyler alla prossima riunione vi scambierete tutti le pistole e denuncerete che la vostra è stata rubata nessuno ha fatto domande non fare domande è la prima regola del progetto caos Tyler ha fatto girare la pistola era pesantissima per le dimensioni che aveva come se per fabbricarla fosse stato fuso qualcosa di gigantesco come una montagna o un astro celeste i membri del comitato la reggevano tenendola con due dita tutti volevano chiedere se era carica ma la seconda regola del progetto caos è che non si fanno domande forse era carica forse no forse è bene essere sempre pessimisti una pistola ha detto Tyler è un oggetto semplice e perfetto basta premere il grilletto la terza regola del progetto caos è niente scuse il grilletto ha detto Tyler libera il cane e il cane batte sulla polvere da sparo la quarta regola è niente bugie l'esplosione espelle un proiettile metallico dall'estremità aperta di una cartuccia e la canna della pistola dirige la polvere esplosa e il proiettile è sospinto ha detto Tyler come un uomo sparato da un cannone come un missile da una rampa di lancio come il vostro seme in una sola direzione quando Tyler ha inventato il progetto caos Tyler ha spiegato che lo scopo del progetto caos non aveva niente a che fare con il prossimo a Tyler non importava se qualcun altro si faceva male o no lo scopo era far prendere coscienza a ciascun partecipante al progetto del potere che ha di controllare la storia noi ciascuno di noi possiamo assumere il controllo del mondo è stato al fight club che Tyler ha inventato il progetto caos una sera ho marcato un nuovo arrivato al fight club quel sabato sera è arrivato al suo primo fight club un giovane con la faccia d'angelo e io l'ho marcato per un combattimento è la regola se è la tua prima sera al fight club devi combattere io l'ho marcato perché era ricominciata l'insonnia ed ero dell'umore di distruggere una cosa così bella siccome la maggior parte della mia faccia non ha mai possibilità di guarire sul piano dell'aspetto non ho niente da perdere sul lavoro il mio capo mi ha chiesto che cosa facevo per il buco che ho nella guancia che non si rimargina mai quando bevo un caffè gli ho detto mi metto due dita sul buco così non mi cola fuori esiste una presa che ti lascia giusto l'aria abbastanza da rimanere sveglio e quella sera al fight club ho picchiato il nostro nuovo amico e gli ho martellato quella bella faccia d'angelo prima con le nocche nude del pugno come un maglio e poi con il resto della mano annodata dopo che avevo le nocche scorticate dai suoi denti che gli spuntavano dalle labbra il che mi è cascato tra le braccia come un sacco di patate Tyler mi ha detto più tardi che non mi aveva mai visto distruggere uno così completamente quella sera Tyler ha capito di dover alzare il tiro o chiudere a colazione il mattino dopo Tyler mi ha detto sembravi impazzito psycho boy dove sei finito io ho risposto che mi sentivo una merda e per niente rilassato non avevo provato nessuna soddisfazione forse stavo sviluppando l'abitudine ci si può assuefare le scazzottate e forse avevo bisogno di passare a qualcosa di più impegnativo è stata quella la mattina in cui Tyler ha inventato il progetto caos Tyler mi ha chiesto contro che cosa combattevo in realtà quello che dice Tyler dell'essere una merda e gli schiavi della storia così mi sentivo avevo voglia di distruggere tutte le cose belle che non avrei mai avuto bruciare le foreste dell'amazzonia pompare cloro fluoro e idrocarburi in cielo e mangiarsi l'ozono aprire le valvole nei serbatoi delle super petroliere e svitare i tappi sulle piattaforme petrolifere volevo uccidere tutti i pesci che non potevo permettermi di comperare e annerire le spiagge della costa azzurra che non avrei mai visto volevo che il mondo intero toccasse il fondo mentre picchiavo quel ragazzo in realtà avrei voluto piantare una pallottola tra gli occhi di ogni panda in pericolo che si rifiuta di scopare per salvare la propria specie e ogni balena e delfino che molla tutto e va a spiaggiarsi non vederla come estinzione prendila come un ridimensionamento per migliaia di anni gli esseri umani hanno incasinato e insozzato e smerdato questo pianeta e ora la storia si aspetta che sia io a correre dietro agli altri per ripulirlo io devo lavare e schiacciare i miei barattoli e rendere conto di ogni goccia di olio di motore usato tocca a me pagare il conto per le scorie nucleari e i serbatoi di benzina interrati e residui tossici scaricati nel sottosuolo una generazione prima che nascessi ho tenuto la faccia dell'angioletto come un bebè ho un pallone da football nella piega del braccio e l'ho pestato con le rocche l'ho pestato finché i denti non gli hanno segato le labbra poi l'ho pestato con il gomito finché mi è cascato tra le braccia come un sacco finché sugli zigomi era rimasto solo un velo di pelle nera volevo respirare scarichi uccelli e cervi sono uno stupido lusso e tutti i pesci dovrebbero galleggiare volevo dar fuoco al Louvre spaccare gli Elgin Marbles a martellate e pulirmi il culo con la gioconda questo è il mio mondo ora questo è il mio mondo il mio mondo e quelle persone antiche sono morte e facevo colazione la mattina che Tyler ha inventato il progetto Chaos volevamo liberare il mondo dalla storia facevamo colazione nella casa di Paper Street e Tyler mi ha detto di immaginarmi di piantare ravanelli e patate sul green della quindicesima buca di un campo da golf dimenticato farai la caccia agli alci nelle valli boscose intorno alle rovine del Rockefeller Center e cercherai molluschi intorno allo scheletro dello Space Needle inclinato di 45 gradi dipingeremo sui grattacieli le figure di enormi totem e simulacri di divinità maligne e tutte le sere quel che resta del genere umano si ritirerà negli zoo abbandonati e si chiuderà a chiave nelle gabbie per proteggersi dagli orsi e dai grandi felini e dai lupi che di notte passeggiano e ci guardano dall'altra parte delle sbarre il riciclaggio e i limiti di velocità sono cazzate ha detto Tyler è come che uno smette di scopare quando ha siero positivo sarà il progetto caos a salvare il mondo un'era glaciale culturale un secolo buio prematuramente indotto il progetto caos obbligherà l'umanità a entrare in catalessi o in fase di remissione il tempo necessario alla terra per riprendersi giustifica tu l'anarchia dice Tyler risolvila tu come fai il fight club con impiegati e commessi il progetto caos disarticolerà la civiltà perché si possa fare qualcosa di meglio del mondo immaginati ha detto Tyler a far la posta all'alce dalla finestra dei grandi magazzini tra file puzzolenti di splendidi abiti da sera e smoking che vanno in malora appesi alle loro grucce porterai indumenti di pelle che ti dureranno fino all'ultimo dei tuoi giorni e ti arrampicherai per rami grossi come tronchi del cuzzo rampicante che abbraccia la Sears Tower come Jack sulla pianta di fagioli sbucherai dalla volta gocciolante della foresta e l'aria sarà così tersa che vedrai figure minuscole battere il gran turco e disporra essiccare strisce di carne e di cervo nella corsia d'emergenza vuota di una super strada abbandonata che si allunga larga otto corsie e torri da ad agosto per mille chilometri questo era lo scopo del progetto caos ha detto Tyler la completa e immediata distruzione della civiltà che cosa avviene dopo il progetto caos nessuno lo sa salvo Tyler la seconda regola è che non si fanno domande non comperate cartucce ha detto Tyler al comitato aggressioni è giusto perché non abbiate a cruciarvene sì dovrete ammazzare qualcuno incendi aggressioni scherzi e disinformazione nessuna domanda nessuna domanda niente scuse e niente bugie la quinta regola del progetto caos è che bisogna fidarsi di Tyler capitolo 17 il mio capo viene a posare sulla mia scrivania un altro foglio me lo lascia vicino al gomito io non porto più nemmeno la cravatta quella del mio capo è blu quindi deve essere giovedì ora la porta dell'ufficio del mio capo è sempre chiusa e non ci siamo scambiati più di due parole al giorno da quando ha trovato il regolamento del fight club nella fotocopietrice e io ho lasciato intendere che avrebbe potuto saltarmi il ghirivizzo di stenderlo con una fucilata gigioniere del sottoscritto di nuovo oppure potrei chiamare quelli dell'ufficio conformità al dipartimento dei trasporti c'è una squadretta per il monitoraggio del sedile anteriore che non ha mai passato i test di resistenza alle collisioni prima di entrare in produzione basta sapere dove guardare e ci sono scheletri in tutti gli armadi giorno dico giorno dice lui posato accanto al mio gomito c'è un altro importante documento segreto personale riservatissimo che Tyler mi ha chiesto di battere a macchina o fotocopiare la settimana scorsa Tyler misurava con i piedi la cantina della casa di paper street sono 75 scarpe di profondità per 40 scarpe di larghezza Tyler ragionava a voce alta quanto fa 6 volte 7 42 e 42 e 42 per 3 126 Tyler mi ha dato una lista scritta a mano e mi ha chiesto di battergliela a macchina e di farne 72 copie perché 72 perché ha risposto Tyler tanti sono quelli che possono dormire in cantina se riempiamo di letti a castello a tre posti tipo militare e la loro roba ho chiesto io porteranno solo quello che c'è sulla lista e dovrebbe stare tutto sotto un materasso ha detto Tyler è la lista che il mio capo ha trovato nella copiatrice con il contatore puntato ancora sul 72 e la lista dice il rispetto dei requisiti di corredo non garantisce l'ammissione all'addestramento ma nessun candidato verrà valutato se non si presenterà equipaggiato con quanto segue ed esattamente 500 dollari in contanti per le spese personali di sepoltura costa almeno 300 dollari cremare un cadavere indigente mi ha spiegato Tyler c'è in vista un aumento se uno muore non avendo a disposizione almeno questa somma di denaro finisce alle elezioni dell'autopsia questo denaro deve essere sempre tenuto in una scarpa dello studente così se per caso lo studente finisce ammazzato la sua morte non sarà di peso al progetto caos inoltre il candidato deve presentarsi con il seguente corredo due camice nere due paia di calzoni neri un paio di scarpe nere pesanti due paia di calze nere e due paia di mutande comuni un sopravvito o giaccone pesante nero sono inclusi gli indumenti che il candidato indossa un asciugamano bianco un materasso da branda militare una ciotola bianca di plastica seduto alla mia scrivania con il capo ancora in piedi di fianco a me prendo la lista originale e lo ringrazio il mio capo torna nel suo ufficio e io mi rimetto al lavoro a fare solitarie al computer dopo il lavoro consegno le copie a Tyler e passano i giorni vado a lavorare torno a casa vado a lavorare torno a casa c'è un tizio in veranda il tizio è fermo davanti alla nostra porta con il suo ricambio di camicia e calzoni neri in un sacchetto di carta marrone e ha con sé gli ultimi tre articoli asciugamano bianco materasso militare e ciotola di plastica tutto posato sulla ringhiera da una finestra del piano di sopra io e Tyler lo osserviamo e Tyler mi dice di mandarlo via è troppo giovane dice Tyler il tizio in veranda è la faccia d'angelo che ho cercato di disintegrare la sera in cui Tyler ha inventato il progetto caos nonostante i due occhi neri e il taglio a spazzola dei capelli biondi gli vedo il bel musetto imbronciato e truce senza rughe o cicatrici mettigli una gonna e fallo sorridere e diventa donna l'angioletto è lì con la punta dei piedi che sfiora l'uscio a guardare dritto davanti a sé nel legno scheggiato con le braccia abbandonate lungo i fianchi in scarpe nere camicia nera calzoni neri caccialo via dice Tyler è troppo giovane quanto giovane è troppo giovane non ha importanza dice Tyler se il candidato è giovane gli diciamo che è troppo giovane se è grasso è troppo grasso se è vecchio è troppo vecchio se è magro è troppo magro se è bianco è troppo bianco se è nero è troppo nero è il modo in cui nei templi buddhisti si giudicano i candidati da un fantastiglione di anni dice Tyler dice al candidato di andarsene e se la sua volontà è così forte che aspetta all'entrata senza cibo e riparo e incoraggiamento per tre giorni allora e solo allora può entrare e cominciare l'addestramento così dico all'angioletto che è troppo giovane ma all'ora di pranzo lui è ancora lì dopo pranzo esco e picchio l'angioletto con una scopa gli spedisco il sacchetto in strada con un calcio dal piano di sopra Tyler mi guarda usare la scopa come una mazza e la testa del ragazzo come una palla da baseball con lui fermo lì e poi catapultare la sua roba in strada con una pedata e mettermi a urlare battene sto gridando non ci senti sei troppo giovane non ce la farai mai grido torna fra un paio d'anni e riprovaci fuori dai piedi giù dalla mia veranda il giorno dopo lui è ancora lì e Tyler esce spiacente gli dice Tyler gli dice che gli dispiace di avergli parlato dell'addestramento ma che è davvero troppo giovane fai il bravo vattene poliziotto buon poliziotto cattivo io mi metto a sbraitare di nuovo poi sei ore dopo Tyler esce e gli dice che gli dispiace la risposta è no deve andarsene Tyler gli dice che se non se ne va chiama la polizia e lui niente e la sua roba è ancora in strada e il vento spinge lontano il suo sacchetto strappato e lui niente il terzo giorno davanti alla porta c'è un altro candidato faccia d'angelo è ancora al suo posto e Tyler scende e gli dice entra recupera la tua roba e vieni dentro a quello nuovo Tyler dice che gli dispiace ma c'è stato un errore quello nuovo è troppo vecchio per l'addestramento sia gentile se ne vada io vado a lavorare tutti i giorni torno a casa e tutti i giorni ce ne sono uno o due ad aspettare in veranda quelli nuovi non ti guardano negli occhi io chiudo la porta e li lascio fuori questo succede tutti i giorni per un po' e qualche volta i candidati se ne vanno ma più spesso i candidati tengono duro fino al terzo giorno finché quasi tutte le 72 brande a castello che io e Tyler abbiamo comperato sono occupate un giorno Tyler mi dà 500 dollari in contanti e mi dice di tenerli sempre in una scarpa il mio fondo personale per la mia sepoltura è un'altra di quelle antiche usanze dei monaci buonisti ora quando torno a casa dal lavoro la casa è piena degli sconosciuti che Tyler ha accettato tutti al lavoro il primo piano si trasforma in cucina e saponificio il bagno non è mai libero ci sono squadre che escono e scompaiono per qualche giorno per poi rientrare con rosse buste di gomma piene di grasso liquido e poco consistente una sera Tyler viene su e mi trova nascosto in camera mia non ci va a dare mi dice sanno tutti che cosa fare a parte del progetto caos nessuno conosce il piano completo ma ciascuno è addestrato per svolgere alla perfezione il compito preciso la regola al progetto caos è che bisogna avere fiducia in Tyler poi Tyler scompare ci sono squadre del progetto caos che passano la giornata a squagliare grasso io non dormo tutta notte sento altre squadre che mesclano la lesciva e tagliano le barre e cuociono le barre di sapone su carta da forno poi avvolgono ogni saponetta in carta velina e la sigillano con l'etichetta del saponificio di Paper Street sembra che tutti sappiano che cosa devono fare salvo me e Tyler non è mai a casa io striscio contro i muri e sono un topo intrappolato in questo congegno di uomini silenziosi con l'energia di scimmie ammaestrate a cucinare e lavorare e dormire in squadra ti rima leva premi un bottone una squadra di scimmie spaziali passa tutto il giorno a far da mangiare e per tutto il giorno squadre di scimmie spaziali mangiano dalle scodelle di plastica che hanno portato con sé un giorno esco per andare a lavorare davanti alla porta c'è Big Bob con le scarpe nere e una camicia nera e i calzoni neri non è che hai visto Tyler ultimamente gli chiedo è stato Tyler a mandarlo qui la prima regola del progetto caos recita Big Bob attacchi uniti e con la schiena come un manico di scopa e che non si fanno domande sul progetto caos allora quale insulso piccolo onore gli ha riservato Tyler domando io ci sono quelli che hanno il compito di bollire il riso per tutto il giorno o lavare le ciotole dove si è mangiato o pulire il cesso tutto il giorno che cosa ha promesso Tyler a Big Bob la redenzione se passerà 16 ore al giorno a confezionare saponette Big Bob non dice niente vado al lavoro torno a casa e Big Bob è ancora in veranda dormo tutta la notte e il mattino dopo Big Bob è fuori a badare il giardino prima di andare a lavorare chiedo a Bob chi l'ha fatto entrare chi l'ha fatto entrare chi ha segnato il suo compito hai visto Tyler Tyler è passato di qui questa notte la prima regola del progetto caos è che non si parla gli chiudo la bocca e dico si 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 e mentre io sono al lavoro squadra di scimmie spaziali rivoltano il prato intorno alla casa e mescolano bicarbonato alla terra per abbassare il grado di acidità e ci versano dentro badilate di letame preso gratis negli allevamenti e ci rovesciano sacchi di spuntature di capelli presi dai parrucchieri per frenare le talpe e i topi e aumentare le proteine nel suolo alle ore più impensate di notte tornano dai mattatoi le scimmie spaziali con sacche di fertilizzante a base di sangue per incrementare la presenza di ferro nel suolo e polvere d'ossa per incrementare il fosforo squadre di scimmie spaziali piantano basilico e timo e fiori di amamelide e eucalipto e menta in intricate composizioni caleidoscopiche una geometria in tutte le sfumature di verde e altre squadre escono di notte e uccidono le lumache e le chiocciole a lume di candela un'altra squadra di scimmie spaziali coglie solo le foglie più sane e le bacche di ginepro da far bollire per ottenere una tintura naturale borragine perché è un disinfettante naturale foglie di viola perché guariscono le cefalee e stellina odorosa perché conferisce al sapone la fragranza dell'erba tagliata in cucina ci sono bottiglie di vodka per fare il traslucido sapone al geranio e zucchero di canna e il sapone paciuli e io frego una bottiglia di vodka e spendo in popcorn il mio fondo per la sepoltura passa Marla si parla di piante io e Marla camminiamo sui sentieri di ghiaia rastrellata nelle geometrie caleidoscopliche di verde del giardino bevendo e sgranocchiando parliamo di tutto meno che di Tyler Durden e un giorno esce sul giornale che una squadra di uomini vestiti di nero che hanno fatto irruzione nel salone di un concessionario di macchine di lusso in un quartiere elegante sfondando a colpi di mazza da baseball i paraurti anteriori delle macchine per far esplodere gli airbag in imbrattanti nuvole di polvere nel fracasso spaventoso di antifurto al saponeficio di Paper Street altre squadre raccolgono i petal di rose o anemoni o lavanda e mettono i fiori nelle scatole insieme con sego puro che assorba i profumi per farne sapore agli aromi floreali Marla mi parla delle piante la rosa mi dice Marla è una stringente naturale ci sono piante con nomi necrologici iris dafne ruta malva verbena altre come porcellana di mare artemisia biancospino e passiflora sembrano nomi di fate shakesperiane la fragrante vaniglia selvatica la mamelide anch'essa stringente la radice di giaggiolo l'iris selvatico spagnolo tutte le sere io e Marla passeggiamo in giardino finché sono sicuro che per quella sera Tyler non tornerà a casa dietro di noi c'è sempre una scimmia spaziale che ci segue a raccogliere quello stelo di melissa o ruta o menta che Marla mi ha stropicciato sotto il naso un chicco di mais esploso la scimmia spaziale rastrella il sentiero dietro di sé per cancellare l'idea stessa del nostro passare di lì e una notte nel giardino di una piazza cittadina un altro gruppo di uomini ha versato benzina sotto tutti gli alberi e da albero ad albero ha appiccato un perfetto piccolo incendio boschivo è finito sul giornale delle finestre della strada accanto sciolte dal calore e dalle macchine parcheggiate che hanno scorreggiato accasciandosi sui copertoni fusi la casa che Tyler occupa in affitto in Paper Street è un essere vivente il suo interno umido di tutta quella gente che suda e respira con tutta quella gente che si muove all'interno la casa si muove un'altra volta che Tyler non è rientrato di notte qualcuno era in giro a trapanare gli sportelli bancari automatici e i telefoni pubblici e poi ha infilato nei fori il becco di un ingrassatore a pressione e ha pompato nei bancomat e nei telefoni pubblici grasso lubrificante o crema alla vaniglia e Tyler non era mai a casa ma dopo un mese alcune delle scimmie spaziali avevano la bruciatura del bacio di Tyler sul dorso della mano poi sono scomparsi anche quelle scimmie spaziali e c'erano nuovi candidati in veranda a sostituirle e giorno dopo giorno le squadre venivano e andavano su automobili diverse non vedevi mai la stessa due volte una sera sento Marla in veranda che dice a una scimmia spaziale sono qui per vedere Tyler Tyler Durden abita qui sono una sua amica mi spiace ma sei troppo comincia a dire la scimmia spaziale poi fa una pausa e aggiunge sei troppo giovane per il nostro addestramento Marla dice ma vai a farti fottere e poi dice la scimmia spaziale non hai portato il corredo richiesto due camice nere due paia di calzoni neri Marla grida Tyler un paio di scarpe nere pesanti Tyler due paia di calze nere e due paia di mutande Tyler e io sento sbattere la porta dell'ingresso Marla non sta ad aspettare altri tre giorni in più delle volte dopo il lavoro torno a casa e preparo un sandwich di burro di arachidi quando torno a casa una scimmia spaziale sta leggendo a un'assemblea di scimmie spaziali sedute a coprire tutto il pavimento del pianerottolo tu non sei che un delicato irripetibile fiocco di neve tu sei la stessa materia organica deperibile di chiunque altro e noi tutti siamo parte dello stesso cumulo in decomposizione la scimmia spaziale continua la nostra cultura ci ha resi tutti uguali nessuno è più veramente bianco o nero o ricco tutti vogliamo lo stesso individualmente non siamo niente il lettore si interrompe quando io entro a farmi il sandwich e tutte le scimmie spaziali restano in silenzio come se io fossi solo io dico di non badare a me già letto l'ho battuto a macchina io l'avrà letto probabilmente anche il mio capo siamo tutti un gran mucchio di merda dico andate pure avanti guardatevi il vostro giochetto non curatevi di me le scimmie spaziali attendono mute che io faccia il mio sandwich e prenda un'altra bottiglia di vodka e me ne vada di sopra dietro di me sento tu non sei un delicato e irripetibile fiocco di neve io sono il cuore spezzato di tizio perché Tyler mi ha mollato perché mio padre mi ha mollato potrei andare avanti per chissà quanto certe sere dopo il lavoro vado in qualche nuovo fight club nella cantina di un bar o di una rimessa e chiedo se hanno visto Tyler Durden in tutti i nuovi fight club c'è qualcuno che non conosco sotto l'unica luce centrale nel buio circondato da uomini a leggere le parole di Tyler la prima regola del fight club è che non si parla del fight club quando cominciano i combattimenti io prendo il capo del club da parte e gli chiedo se ha visto Tyler io vivo con Tyler gli dico ed è da un pezzo che non è più a casa lui fa gli occhi grandi e vuole sapere se conosco Tyler Durden davvero sul serio mi chiede così va in quasi tutti i fight club nuovi si rispondo io io sono amicissimo di Tyler poi tutto a un tratto tutti vogliono stringermi la mano questi nuovi guardano il buco che ho nella guancia e la pelle nera sulla faccia gialla e verde lungo i bordi e mi chiamano signore no signore tutt'altro signore nessuno di quelli che conosco ha mai visto Tyler Durden amici di amici hanno conosciuto Tyler Durden e hanno fondato questa sezione del fight club signore poi mi strizzano l'occhio nessuno di quelli che conosco ha mai visto Tyler Durden signore è vero vogliono sapere tutti Tyler Durden sta mettendo insieme un esercito così corre la voce Tyler Durden dorme solo un'ora per notte secondo quel che si dice Tyler Durden è in viaggio ad avviare fight club in tutto il paese che cosa bolle in pentola vogliono sapere tutti quanti le riunioni del progetto caos si sono trasferite in scantinati più spaziosi perché tutti i comitati incendiari aggressioni scherzi e disinformazione crescono con l'aumentare di quelli che si laureano al fight club ogni comitato ha un capo e persino i capi non sanno dov'è Tyler Tyler li chiama per telefono tutte le settimane tutti al progetto caos vogliono sapere che cosa bolle in pentola che cosa stiamo facendo quale aspettative abbiamo in paper street io e Marla passeggiamo di notte per il giardino a piedi scalzi liberando a ogni passo gli aromi della salvia e della verbena e del geranio ci girano intorno dappertutto esseri in camicia e calzoni neri sollevano le foglie delle piante per uccidere una lumaca o una chiocciola Marla chiede che cosa sta succedendo ciuffi di capelli affiorano dalle zolle capelli e merda polvere di sangue e polvere di ossa le piante crescono più in fretta di quanto le scimmie riescano a potarle che cosa avete intenzione di fare? domanda Marla che dire nella terra c'è un punticino d'oro che scintilla e io mi inginocchio a guardare che cosa deve succedere non lo so dico a Marla sembra che siamo stati scaricati tutti e due con la coda dell'occhio vedo le scimmie spaziali a girarsi nell'oscurità ciascuna curva sulla sua candela il punticino d'oro nella terra è un molare con un'otturazione vicino affiorano altri due molari che hanno per otturazioni amalgama d'argento è una mandibola dico che no non so dirle che cosa deve succedere e spingo l'uno i due i tre molari nella terra e i capelli e lo sterco e il sangue e le ossa per non lasciarli vedere a Marla capitolo 18 questo venerdì al lavoro mi addormento sulla scrivania quando mi sveglio con la faccia e le braccia incrociate sulla scrivania il telefono sta squillando e non c'è più nessuno un telefono squillava nel mio sogno e non è chiaro se la realtà si è infilata nel mio sogno o se il mio sogno è scivolato nella realtà rispondo e dico conformità e affidabilità è il mio reparto conformità e affidabilità il sole sta calando e sopraggiunge un ammasso di nuvole minacciose grandi come il Wyoming e il Giappone non è che io abbia una finestra sul lavoro tutte le pareti esterne sono vetri che vanno dal pavimento al soffitto tutto dove lavoro io sono vetrate dal pavimento al soffitto tutto sono tapparelle tutto è moquette grigia industriale a pelo raso disseminata di piccole lapidi dove sporgono le prese per il pc tutto è un labirinto di nicchie delimitate da tavole di trucciolare tappezzato mugula in lontananza un aspirapolvere il mio capo è in vacanza mi ha mandato una mail e poi si è dileguato devo prepararmi per un resoconto ufficiale tra due settimane riservare una sala conferenze mettere in fila tutte le mie paperette aggiornare il mio curriculum cose di questo genere stanno allestendo un caso contro di me io sono l'assoluta mancanza di sorpresa di tizio il mio comportamento è stato criticabile sollevo il ricevitore ed è Tyler e mi dice esci c'è gente che ti aspetta nel parcheggio chi sono? chiedo io stanno tutti aspettando dice Tyler sento odore di benzina sulle mani prendi il largo fa Tyler hanno una macchina fuori hanno una Cadillac sto ancora dormendo cioè non sono sicuro se Tyler è nel mio sogno o se io sono il sogno di Tyler mi annuso benzina sulle mani non c'è nessun altro nei paraggi e mi alzo ed esco scendo nel parcheggio un tizio che frequenta il Fight Club si occupa delle macchine così ha parcheggiato contro il marciapiede a bordo di una cornica nera di chissà chi e tutto quello che posso fare è guardarla tutta nera e oro questo enorme porta cipria pronto a portarmi da qualche parte il meccanico scende dalla macchina e mi dice di non preoccuparmi ha scambiato la targa con quella di un'altra auto ferma nel parcheggio a lunga sosta dall'aeroporto il nostro meccanico del Fight Club mi dice che è capace di mettere in moto quello che vuole due cavi che escono arricciati dalla colonna dello sterzo li fai toccare e chiudi il circuito del solenoide e dell'avviamento mettendolo in moto o così o freghi il codice a un concessionario ci sono tre scimmie spaziali sedute dietro tutte in camicia e calzoni neri non vedo non sento e non parlo chiedo io ma dov'è Tyler? il meccanico del Fight Club tiene aperta per me la portiera della Cadillac alla maniera di uno chauffeur un meccanico è alto e tutto ossa con spalle che ti ricordano la trave di una croce e chiedo io andiamo da Tyler? in mezzo al sedile anteriore c'è ad aspettarmi una torta di compleanno con le candele pronte per essere accese salgo partiamo ancora una settimana dopo il Fight Club non c'è problema a restare dentro i limiti di velocità magari sono due giorni che fai merda nera lesioni interne ti stanno nel curo gli altri automobilisti ti mostrano il medio perfetti sconosciuti che ti odiano assolutamente niente di personale dopo il Fight Club sei così rilassato che non te ne puoi importare di meno non un'incrinatura sottile sottile alle costre ogni volta che fai un respiro le macchine dentro di te lampeggiano il sole scende arancione e dorato lì c'è il meccanico che ti guida la torta di compleanno è sul sedile tra me e lui c'è da farsela sotto a vedere gente come il nostro meccanico al Fight Club quei pelle rossa non si accasciano mai vanno avanti finché non li hai tritati bianchi come scheletri pucciati in sego giallo con tatuaggi neri come carne secca sono uomini che di solito se le intendono tra di loro come ti immagini quei tossici anonimi loro non dicono mai basta è come se fossero energia pura si muovono così in fretta che non gli vedi mai i contorni nitidi quei tizi che si stanno riabilitando da qualcosa come se l'unica possibilità che gli resta è la maniera di morire e vogliono morire combattendo devono combattersi tra loro questi nessun altro li marca per un combattimento e loro non marcano nessuno che non sia un altro smilzo esagitato tutto ossa e scatti perché non c'è nessun altro che si metterebbe in lista per combattere con loro quelli che guardano non gridano nemmeno quando quelli come il nostro meccanico si affrontano si sentono solo i combattimenti e respirare attraverso i denti gli schiocchi delle mani che cercano un appiglio il sibilo e l'impatto dei pugni che martellano e martellano sotto misura sottili scatole toraciche cave vedete vedi guizzare sotto la pelle tendini e muscoli e vene hanno la pelle che luccica suda innevata sotto l'unica luce scompaiono 10 15 minuti l'odore che hanno sudano e fanno odore ti ricorda il pollo fritto passano 20 minuti di fight club finalmente uno dei due va a terra dopo un combattimento due tossici in riabilitazione passano il resto della serata insieme scassati e sorridenti per aver combattuto così forte da quando è entrato al fight club questo meccanico bazzica continuamente la casa di paper street vuole che ascolti la canzone che ha scritto vuole farmi vedere la casetta per gli uccelli che ha costruito mi mostra la foto di una ragazza e mi chiede se è abbastanza carina da sposarla seduto al volante della croniche mi chiede se ho visto la torta l'ho fatta per te l'ho fatta io non è il mio compleanno le fasce erano un po' sporche d'olio mi dice il meccanico ma io ho cambiato l'olio e il filtro dell'aria ho regolato le valvole e l'anticipo è prevista pioggia per questa sera così ho cambiato anche le spazzole che cosa hai in mente Tyler? domando io il meccanico apre il posacenere e spinge l'accendino è una prova questa chiede ci stai mettendo alla prova dov'è Tyler? la prima regola del fight club è che non si parla del fight club dice il meccanico e l'ultima regola del progetto caos è che non si fanno domande e quindi dunque cosa può dire a me? quello che devi capire è che tuo padre è stato il tuo modello di dio dice lui dietro di noi il mio lavoro e il mio ufficio sono sempre più piccoli sempre più piccoli sempre più piccoli non ci sono più ho odore di benzina sulle mani se sei maschio e sei cristiano e vivi in america tuo padre è il tuo modello di dio dice il meccanico e se non hai mai conosciuto tuo padre se tuo padre prende il largo o muore o non è mai a casa che idea ti fai di dio qui c'è l'insieme dogmatico di tyler burden scarabocchiato su pezzi di carta mentre io dormivo e consegnatomi da battere a macchina e fotocopiare sul lavoro l'ho letto tutto probabilmente l'ho letto anche il mio capo la fine che fai dice il meccanico è passare la vita a cercare un padre e dio quello che devi considerare dice è la possibilità che a dio tu non stia simpatico potrebbe essere che dio ti odi non è la cosa peggiore che può capitare il modo in cui la vedeva tyler era che attirare l'attenzione di dio per essere stati cattivi era meglio di non ottenere attenzione per niente forse perché l'odio di dio è meglio della sua indifferenza se tu potessi essere o il peggior nemico di dio o niente di niente che cosa sceglieresti noi siamo i figli di mezzo di dio secondo tyler durden senza un posto speciale nella storia e senza speciale attenzione se non otteniamo l'attenzione di dio non abbiamo speranza di dannazione o redenzione che cos'è peggio l'inferno o niente solo se veniamo presi o puniti possiamo essere salvati brucia il louvre dice il meccanico e pulisciti il culo con la gioconda almeno così dio saprà come ci chiamiamo più in basso cadi più in alto volerai più lontano corri più dio ti vuole indietro se il figlio il prodigo non avesse mai lasciato casa sua dice il meccanico il vitello grasso sarebbe ancora vivo non è abbastanza essere conteggiato con i granelli di sabbia sulla spiaggia e le stelle in cielo il meccanico immette la cronica nera sulla tangenziale a una sola corsia e già si serra dietro di noi con una colonna di autocarri tutti che procedono nei limiti di velocità la cronica si riempie dei fari che ci seguono e lì siamo noi a parlare riflessi sul parabrezza marciando entro i limiti di velocità veloci per quanto la legge concede una legge è una legge dice tyler guidare troppo forte è lo stesso che appiccare un fuoco è lo stesso che piazzare una bomba è lo stesso che sparare a un uomo un criminale è un criminale è un criminale l'altra settimana avremmo potuto riempire quattro nuovi fight club dice il meccanico forse se troviamo un bar si potrebbe mettere big bob a gestire la prossima selezione così la settimana entrante rileggerà con big bob il regolamento e gli affiderà un fight club tutto suo d'ora in poi quando un capo avvia un fight club quando sono tutti in circolo intorno alla luce al centro dello scantinato tutti ad aspettare il capo deve camminare in tondo girando dietro la gente nel buio chiedo io chi è stabilito le nuove regole? è tyler? il meccanico sorride e risponde sai chi fa le regole la regola nuova è che nessuno deve essere il centro del fight club mi dice nessuno è il centro di un fight club oltre ai due uomini che combattono la voce del capo griderà mentre lui cammina ad agio intorno alla gente restando nel buio gli uomini disposti in circolo si guarderanno l'un l'altro attraverso il centro vuoto così sarà in tutti i fight club trovare un bar o una rimessa dove riorganizzare un nuovo fight club non è difficile al primo bar quello dove si riunisce ancora il fight club originale gli basta un solo sabato sera per incassare l'affitto del mese secondo il meccanico un'altra nuova regola del fight club è che il fight club sarà sempre gratuito non si pagherà mai per entrare il meccanico grida dal finestrino al traffico che ci viene incontro e al vento notturno che scorre lungo il fianco della macchina noi vogliamo te non i tuoi soldi il meccanico grida dal finestrino quando sei al fight club tu non sei i soldi che hai in banca tu non sei il tuo lavoro non sei la tua famiglia e non sei quello che dici di essere a te stesso il meccanico grida nel vento tu non sei il tuo nome una scimmia spaziale di quelle che sono sedute dietro gli fa il contrapunto tu non sei i tuoi problemi il meccanico grida tu non sei i tuoi problemi una scimmia spaziale urla tu non sei la tua età il meccanico grida tu non sei la tua età qui il meccanico sterza e ci porta nella corsia opposta riempiendo la macchina dei fari che passano dal parabrezza abile e scattante come un pugile che schiva i jab prima una macchina e poi un'altra ci piombano addosso a claxon spiegato e il meccanico sterza all'ultimo di quel tanto da spiorarle ci vengono addosso i fari sempre più grandi e più grandi claxon che strillano il meccanico allunga il collo nel riverbero del fragore e grida tu non sei le tue speranze nessuno gli fa eco però questa volta la macchina che ci sta venendo addosso sterza in tempo e ci salva ce ne viene addosso un'altra lampeggia abbaglianti anabbaglianti abbaglianti anabbaglianti claxono a tutto e il meccanico grida tu non sarai salvato il meccanico non sterza ma sterza l'altra macchina ne arriva un'altra e il meccanico grida tutti noi moriremo un giorno o l'altro questa volta l'automobile che arriva sterza ma il meccanico sterza a sua volta dalla stessa parte l'altra sterza e il meccanico fa lo stesso di nuovo traiettoria frontale ti sciogli e ti gonfi in quel momento in quel momento niente conta alzi gli occhi alle stelle e non ci sei più non i tuoi bagagli niente importanza non il tuo alito cattivo i finestrini fuori sono bui e i claxon urlano intorno a te i fari ti lampeggiano in faccia su e giù e tu non avrai mai più da andare al lavoro non avrai mai più da andare dal parrucchiere presto dice il meccanico la macchina sterza di nuovo e di nuovo sterza il meccanico che cosa vuole sapere il meccanico che cosa vorresti aver fatto prima prima di morire con la macchina che ci sta venendo addosso a tutto claxon e il meccanico tranquillo tanto da girarsi a guardare me seduto accanto a lui e dice 10 secondi all'impatto 9 8 7 6 il mio lavoro dico vorrei aver lasciato il mio lavoro l'urlo ci sfreccia accanto quando l'altra macchina sterza e il meccanico tira dritto altri fari ci stanno puntando e il meccanico si gira a guardare le tre scimmie sedute dietro ehi scimmie spaziali dice vedete come funziona il giochetto confessate ora o finiremo tutti ammazzati ci supera da destra un'auto con un adesivo sul paraurti che dice io guido meglio da ubriaco il giornale dice che una mattina sono apparsi migliaia di adesivi come questo su altri adesivi ci sono scritte come ho duetti di carne fresca per te i guidatori ubriachi contro le mamme riciclare tutti gli animali quando ho letto il giornale ho capito che era stata opera del comitato disinformazione o del comitato scherzi seduto accanto a me il mio meccanico del fight club così pulito e sobrio mi dice sì gli adesivi degli ubriachi sono un'iniziativa del progetto caos dietro le tre scimmie spaziali sono silenziose il comitato scherzi sta stampando istruzioni per gli utenti delle compagnie aeree in cui si vendono i passeggeri che si azzuffano per le mascherine di ossigeno mentre il jet precipita in una scia di fiamme sulle rocce a mille miglia all'ora il comitato scherzi e disinformazione stanno gareggiando tra loro per sviluppare un virus informatico da far venire ai bancomat un mal di pancia così violento da fargli vomitare cascate di biglietti da 10 e 20 dollari l'accendi sigari scatta nel cruscotto e il meccanico mi dice di accendere le candele della torta io accendo le candele e la torta riluce sotto un piccolo alone di fuoco che cosa desideresti aver fatto prima di morire chiede il meccanico è sterza nella traiettoria di un autocarro in arrivo il camion mette in funzione le sue trombe spara i suoi prolungati segnali d'allarme uno dopo l'altro mentre i fari come un sole nascente splendono sempre più forti sul sorriso del meccanico esprimi il tuo desiderio presto dice lui lui ha lo specchietto retrovisore dove siedono le scimmie spaziali mancano 5 secondi all'oblio uno dice due l'autotreno ha occupato tutto lo spazio davanti a noi luce accecante e boato di motore tre andare a cavallo dichiara qualcuno da dietro costruire una casa dice un'altra voce farmi un tatuaggio credete in me e morirete per sempre declama il meccanico troppo tardi il camion sterza e il meccanico sterza ma la nostra croniche sbanda colpendo con la coda il paraurti anteriore del camion non che io al momento me ne renda conto quello che so io è che le luci i fari dell'autotreno si spengono nel buio e io sono catapultato prima contro lo sportello al mio fianco da una parte e poi dall'altra parte sulla torta di compleanno e il meccanico seduto al volante il meccanico è aggrappato al volante come un granchio per reggerlo e le candele della torta si spengono in un secondo perfetto non c'è più luce nell'abitacolo di pelle calda e nera e le nostre urla si uniformano tutte nella stessa nota fonda lo stesso lamento basso della tromba dell'autotreno e non abbiamo controllo non abbiamo scelta non abbiamo direzione non abbiamo via di scampo e siamo morti il mio desiderio in questo preciso istante è morire io non sono niente in questo mondo a confronto a Tyler io sono inutile io sono stupido e tutto quello che so fare è desiderare cose e aver bisogno di cose la mia vita minuscola il mio merdoso piccolo posto di lavoro i miei mobili svedesi non ho mai detto a nessuno questo mai mai prima di conoscere Tyler avevo intenzione di comprare un cane e chiamarlo Entourage a questo punto si può arrivare uccidimi afferro il volante e immetto la croniche di nuovo nel flusso del traffico ora il meccanico spinge il volante verso il lato della strada e io gli spingo contro verso una morte di merda ora lo stupefacente prodigio della morte quando nel giro di un secondo prima sei lì che cammini e parli ed ecco che sei solo un oggetto io non sono niente e nemmeno quello freddo invisibile sento odore di pelle sento la cintura di sicurezza tutta attorcigliata come una camicia di forza e quando cerco di drizzarmi a sedere batto la testa sul volante fa più male di quanto dovrebbe la mia testa è posata nel grembo del meccanico e quando alzo lo sguardo nell'abituarsi alla penombra i miei occhi scorgono la faccia del meccanico alta sopra di me sorride e guida e ci sono stelle dietro il suo finestrino mi sento mani e faccia appiccicatice sangue crema il meccanico guarda giù buon compleanno sento odore di fumo e ricordo la torta per poco non ho spaccato il volante con la tua testa dice lui nient'altro solo l'aria della notte e l'odore del fumo e le stelle e il meccanico che sorride e guida la mia testa nel suo grembo tutta un tratto non ho più la sensazione di dovermi alzare a sedere la torta dov'è? il meccanico dice per terra solo l'aria della notte e l'odore del fumo è più forte ho avuto il mio desiderio esaudito lontana sopra di me stagliata contro le stelle nel finestrino la faccia sorride quelle candeline dice sono di quelle che non si spengono mai i miei occhi si adattano alla luce stellare quel tanto da vedere fili di fumo che si alzano da focarelli piccoli piccoli sul tappetino capitolo 19 il meccanico del fight club preme sull'acceleratore farneticando al volante nel suo modo tranquillo e abbiamo ancora qualcosa di importante da fare per questa notte una cosa che devo imparare prima della fine della civiltà è come sapere dove sto andando guardando le stelle tutto è silenzioso come guidare la cadillac nello spazio siderale dobbiamo aver lasciato la tangenziale i tre seduti dietro devono essere svenuti o addormentati hai sperimentato un caso di quasi vita dice il meccanico stacca una mano e mi tocca il lungo livido dove ho battuto la fronte sul volante la fronte mi si va gonfiando tanto da chiudermi entrambi gli occhi e lui mi percorre la tumefazione con un polpastrello freddo la cronica sobalza su una cunetta ed è come se il dolore mi calasse sugli occhi come l'ombra di una visiera la coda della nostra macchina deformata sospensioni posteriori e paraurti abbaia e cigola nel silenzio intorno alla nostra corsa giù per la strada notturna il meccanico spiega come il paraurti posteriore della cronica penzola dalle sue staffe come è stato strappato via quasi del tutto quando si è impigliato in quello anteriore dell'autotreno chiedo io quello che è successo era il suo compito per il progetto caos in parte risponde lui avevo da fare quattro sacrifici umani e ho da raccogliere un carico di grasso grasso per il sapone che cos'ha in mente Tyler il meccanico si mette a parlare ed è puro Tyler Durden vedo gli uomini più forti intelligenti che siano mai vissuti dice e la sua faccia si staglia sulle stelle nel finestrino e questi uomini sono alle pompe di benzina e a servire i tavoli la curva della sua fronte l'arcata sopraccigliare la linea del suo naso le sue ciglia e le virgole dei suoi occhi il plastico profilo della sua bocca parlante tutto questo è delineato in nero contro le stelle se potessimo mettere questi uomini nei campi di addestramento e finire di educarli una pistola non fa altro che focalizzare un'esplosione in una sola direzione avresti una classe di uomini e donne giovani e forti tutta gente desiderosa di dare la vita per qualcosa la pubblicità ha spinto questa gente ad affannarsi per automobili e vestiti di cui non hanno bisogno intere generazioni intere generazioni hanno svolto lavori che detestavano solo per comprare cose di cui non hanno veramente bisogno noi non abbiamo una grande guerra nella nostra generazione o una grande depressione e invece sì abbiamo una grande guerra dello spirito abbiamo una grande rivoluzione contro la cultura la grande depressione è quella delle nostre vite abbiamo una depressione spirituale dobbiamo mostrare la libertà a questi uomini e a queste donne rendendoli schiavi e mostrare loro il coraggio spaventandoli però Napoleone si vantava di poter addestrare uomini e sacrificare la vita per un nastrino pensa quando proclamiamo uno sciopero e tutti si rifiutano di lavorare fino a quando non abbiamo ridistribuito la ricchezza del mondo pensa ad andare a caccia di alci nelle valle boscose intorno alle macerie del Rockefeller Center quello che hai detto prima del tuo lavoro chiede il meccanico era sul serio si sul serio è per questo che siamo in giro questa notte dice lui siamo cacciatori e siamo a caccia di grasso andiamo alla discarica degli ospedali andiamo all'inceneritore di rifiuti speciali e lì fra i teli sterli delle sale operatorie le medicazioni e tumori vecchi di 10 anni e tubi per le endovenose e aghi roba raccapricciante roba che davvero ti fa drizzare i peli tra i campioni di sangue e pezzetti amputati troveremo più soldi di quanti potremmo portare via in una sola notte anche se alla guida di un camion della nettezza urbana troveremo abbastanza soldi da caricare questa cronica e fino a farla schiattare grasso dice il meccanico i residui della liposuzione alle cosce più ricche di america le cosce più ricche e più grasse del mondo il nostro obiettivo sono le grasse sacche rosse di grasso liposuzionato che trasporteremo in paper street e faremo squagliare e mescoleremo con la lisciva e il rosmarino e venderemo alle stesse persone che hanno pagato per farselo succhiare dalle gambe a 20 dollari a saponetta sono gli unici che se lo possono permettere il grasso più ricco e più cremoso del mondo il grasso della terra per questo la nostra missione di questa notte è alla Robin Hood sul tappetino sfrigolano i fucarelli di cera mentre siamo là dobbiamo anche cercare un po' di quei germi dell'epatite capitolo 20 ora le lacrime venivano che era un piacere e un gocciolone è rotolato giù per la canna e lungo il ponticello del grillè per disfarmisi sull'indice Raymond Hassel ha chiuso entrambi gli occhi così io ho premuto la pistola forte sulla tempia perché avesse a sentirsela sempre schiacciata proprio lì e io gli ero accanto e quella era la sua vita e lui avrebbe potuto essere morto da un momento all'altro non era una scacciacani qualsiasi la pistola e io mi chiedevo se il sale potesse fotterne il meccanismo tutto era andato via così liscio pensavo avevo fatto tutto quello che aveva detto il meccanico questo è il motivo per cui ci occorreva comprare una pistola questo era il mio compito a casa quello che stavo facendo ciascuno di noi doveva portare a Tyler 12 patenti per dimostrare che ciascuno di noi aveva fatto 12 sacrifici umani stasera ho parcheggiato e ho aspettato dietro l'angolo che Raymond Hassel finisse il suo turno al corner market che resta aperto giorno e notte e verso la mezzanotte è uscito ad aspettare un autobus del servizio notturno e finalmente io mi sono avvicinato e l'ho salutato Raymond Hassel lui non ha detto niente probabilmente ha pensato che volessi i suoi soldi la sua paga minima i 14 dollari che aveva nel portafogli Raymond Hassel in tutti i suoi 23 anni quando ti sei messo a piangere con le lacrime che scendevano per la canna della mia pistola premuta sulla tua tempia no qui i soldi non c'entrano non tutto ha a che fare con i soldi non mi hai detto nemmeno ciao tu non sei il tuo misero piccolo portafogli bella nottata ti ho detto fredda ma limpida tu non mi hai detto nemmeno ciao non scappare ti ho detto o dovrò spararti nella schiena avevo tirato fuori la pistola e avevo calzato un guanto di lattice così se la pistola fosse diventata il reperto A presentato dallo stato su di essa non ci sarebbero state che le lacrime secche di Raymond Hassel razza bianca 23 anni senza segni particolari allora ho avuto la sua attenzione i tuoi occhi erano così grandi che persino nella luce dei lampioni vedevo che erano verde antigelo ogni volta che la pistola ti toccava la faccia tu ti ritiravi affannosamente indietro un po' di più come se la canna fosse troppo calda o troppo fredda finché ti ho detto smettila di indietreggiare e allora hai lasciato che la pistola ti toccasse ma lo stesso hai storto il collo e allontanato la testa dalla canna mi hai dato il tuo portafogli come ti ho chiesto il tuo nome è Raymond K. Hassel quello che c'è scritto sulla patente almeno abiti al 1320 di SE Beginning appartamento A un seminterrato deve essere di solito gli appartamenti dei seminterrati assegnano lettere invece di numeri Raymond K. 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 Hassel stavo parlando a te tu hai storto il collo e allontanato la testa dalla pistola e hai detto sì sì hai detto abitavi in un seminterrato avevi anche delle foto nel portafogli c'era c'era tua madre questa è stata dura per te hai dovuto aprire gli occhi e vedere papà e mamma che ti sorridevano e vedere allo stesso tempo la pistola ma ce l'hai fatta poi hai chiuso gli occhi e ti sei messo a piangere ti saresti raffreddato lo stupefacente prodigio della morte un momento prima sei una persona e un momento dopo sei un oggetto e papà e mamma devono chiamare il vecchio dottor chissà chi per farsi dare la tua cartella odontoiatrica perché non resterà molto della tua faccia e papà e mamma si erano sempre aspettati molto di più da te e no la vita è ingiusta e adesso guarda che cosa succede 14 dollari questa ho chiesto io questa questa è tua mamma? si tu piangevi tiravi su con il naso piangevi deglutivi si avevi una tessera della biblioteca avevi una tessera di noleggio a un negozio di video una tessera della previdenza sociale 14 dollari in contanti volevo prendere la tua tessera dell'autobus ma il meccanico ha detto di prendere solo la patente una tessera scaduta di un'associazione studentesca studiavi qualcosa all'epoca eri arrivato ad un pianto abbastanza intenso a questo punto così io ti ho schiacciato un po' più forte la pistola sulla guancia e tu hai cominciato a indietreggiare finché ti ho detto di non muoverti o t'ammazzavo lì per lì allora che cosa studiavi dove all'università ho detto qui c'è una tessera oh non ti ricordavi più singhiozzo ingoi sniffata qualcosa biologia ascolta adesso devi morire Raymond KKK Hessel questa notte tocca a te puoi morire in un secondo o in un'ora decidi tu perciò cacciami una balla raccontami la prima cosa che ti salta in mente inventati qualcosa non me ne frega un cazzo io ho la pistola così finalmente ti sei messo ad ascoltare e sei uscito da quella piccola tragedia che avevi nella testa riempi gli spazi vuoti che cosa vuole fare Raymond Hessel da grande andare a casa hai detto tu voglio solo andare a casa ti supplico potente ho detto io ma poi come avevi intenzione di passare la tua vita posto che sapessi fare qualcosa questo mondo inventatelo tu non sapevi allora sei morto seduta stante ho detto io ora gira la testa ti ho detto la morte avrà inizio fra dieci fra nove fra otto veterinaria hai detto volevi diventare veterinario vale a dire bestia per questo bisogna andare a scuola nel senso di troppa scuola hai detto tu puoi essere in qualche scuola a spaccarti il culo Raymond Hessel o puoi essere morto scegli tu ti ho infilato il portafoglio nella tasca posteriore dei jeans dunque volevi davvero diventare un dottore di bestie ti ho staccato la canna in salamoio dalla guancia e te l'ho schiacciata contro quell'altra è questo che hai sempre desiderato diventare dottor Raymond KKKK Hessel un veterinario sì non è una balla no no hai specificato sì non è una balla sì bene ho detto io e ti ho schiacciato l'estremità umida della canna al vertice del mento e poi al vertice del naso e dovunque schiacciavo con la canna lasciavo un anellino luccicante delle tue lacrime allora torna a scuola ti ho detto se domani mattina ti svegli trovi un modo di tornare a scuola ho schiacciato l'estremità bagnata della pistola sull'una e sull'altra guancia e poi sul mento e poi di nuovo sulla fronte l'ho lasciata lì in questo momento potresti tranquillamente essere morto ti ho detto ho la tua patente so chi sei so dove abiti mi tengo la tua patente e ti tengo d'occhio signor Raymond K. Hessel fra tre mesi e poi fra sei mesi e poi fra un anno se non sei tornato a scuola per studiare da veterinario sarai morto tu non hai detto niente vattene da qui e fai la tua piccola vita ma ricordati che ti sorveglio Raymond Hessel e preferisco ammazzarti che vederti fare un lavoro di merda per quei quattro soldi che ti servono per comperarti del formaggio e guardare la tele ora me ne vado e tu non ti voltare è questo che Tyler vuole che faccia queste sono le parole di Tyler quelle che mi escono dalla bocca io sono la bocca di Tyler io sono le mani di Tyler tutti nel progetto caos sono parti di Tyler Durden e viceversa Raymond K.K. Hessel la cena di questa sera avrà un sapore fantastico come nessun pasto che hai mai mangiato e domani sarà il giorno più bello di tutta la tua cazzo di vita capitolo 21 ti svegli allo Sky Harbor International punti l'orlogio due ore indietro la navetta mi porta nel centro di Phoenix e in tutti i bar dove entro ci sono quelli che hanno punti intorno all'orbita dove un cazzotto ben piazzato gli ha spappolato la carne della faccia contro la durezza dell'osso sottostante ci sono quelli con il naso storto e gli stessi negli stessi bar vedono me e la mia guancia forata e all'istante siamo una grande famiglia da qualche tempo Tyler non è più a casa io faccio il mio piccolo lavoro vado da aeroporto a aeroporto a guardare le macchine in cui è morta della gente la magia del viaggio minuscola vita saponette minuscole minuscole poltrone d'aereo dovunque vado chiedo di Tyler nel caso lo trovassi le patenti dei miei dodici sacrifici umani ce le ho in tasca in ogni bar in cui metto piede ogni singolo fottuto bar vedo i pestati in tutti i bar mi gettano un braccio intorno alle spalle e vogliono offrirmi una birra è come se già sapessi quali bar sono bar da Fight Club chiedo io non è che hanno visto uno che si chiama Tyler Durden è stupido chiedere se è sano del Fight Club la prima regola del Fight Club è che non si parla del Fight Club ma hanno visto Tyler Durden mai sentito nominare rispondono loro signore ma magari lo trova a Chicago signore deve essere per il buco che ho nella guancia che mi danno tutti del signore e mi strizzano l'occhio ti svegli all'ohar e prendi la navetta per Chicago metti l'orologio avanti di un'ora se puoi svegliarti in un luogo diverso se puoi svegliarti in un fuso diverso perché non ti puoi svegliare diverso tu stesso in tutti i bar dove entro i pestati vogliono comprarmi una birra e no signore non hanno mai conosciuto questo Tyler Durden e mi strizzano l'occhio mai sentito quel nome prima signore? chiedo del Fight Club magari c'è un Fight Club qui questa sera no signore la seconda regola del Fight Club è che non si parla del Fight Club i pestati al bar scuotono la testa mai sentito ma magari trova questo Fight Club che dice a Seattle il signore ti svegli al Magefield e chiami Marla per sentire che succede a Paper Street Marla dice che ora tutte le scimmie spaziali si rasano la testa il rasoio elettrico si surriscalda così tutta la casa puzza di capelli bruciati le scimmie spaziali usano la lisciva per bruciarsi le impronte digitali ti svegli e sei al SeaTac porti l'orologio indietro di due ore la navetta ti porta nel centro di Seattle e nel primo bar dove entri il barista ha il collo ingessato e la testa spinta tanto all'indietro che deve guardarti da sopra la melanzana ammollata e viola che ha al posto del naso se vuole sorriderti il bar è vuoto e il barista dice bentornato signore io non sono mai stato in questo bar mai e poi mai chiedo se conoscesse il nome di Tyler Durden il barista sorride con il mento che gli spunta da sopra l'ingessatura bianca e chiede è un test? sì rispondo è un test hai mai conosciuto Tyler Durden? è passato già di qui la settimana scorsa signor Durden dice lui non lo ricorda più Tyler è stato qui lei è stato qui signore ma è stato qui prima di questa sera se lo dice lei signore risponde il barista ma giovedì sera lei è entrato a chiederci quando la polizia ha intenzione di farci chiudere giovedì scorso sono stato sveglio tutta la notte per l'insonnia a chiedermi se ero sveglio o se dormivo mi sono svegliato tardi venerdì mattina sfinito e con la sensazione di non aver mai avuto gli occhi chiusi sì signore dice il barista giovedì sera lei era proprio dov'è adesso e mi chiedeva della polizia e mi chiedeva quanta gente avremmo dovuto mandare via dal fight club di mercoledì sera il barista il barista storce le spalle e l'ingessatura per spaziare con gli occhi per il bar vuoto e dice non c'è nessuno che sentirà signor Durden signore abbiamo dovuto mandare via 27 ieri sera il locale è sempre vuoto la sera dopo il fight club in tutti i bar in cui sono entrato questa settimana tutti mi hanno dato del signore in tutti i bar in cui entro i pestati del fight club cominciano a somigliarsi tra loro come fa uno sconosciuto a sapere chi sono lei ha una voglia signor Durden mi dice il barista sul piede è rosso scuro e ha la forma di un'Australia con vicino una nuova Zelanda è una cosa che sa solo Marla la sanno Marla e mio padre non lo sa nemmeno Tyler questo quando vado in spiaggia mi siedo sul piede il cancro che ho è dappertutto ormai tutti quelli del progetto Chaos lo sanno signor Durden il barista alza la mano e mostra il dorso con la bruciatura di un bacio nel mezzo il mio bacio il bacio di Tyler tutti sanno della voglia mi dice il barista è nella leggenda sta diventando una gran cazzo di leggenda sa dalla mia stanza di motel a Seattle chiamo Marla per chiederle se l'abbiamo mai fatto lo sai in interurbana Marla dice cosa? se abbiamo dormito insieme cosa? o mai come dire fatto del sesso lei è Cristo allora? allora dice lei abbiamo avuto rapporti sessuali che gran pezzo di merda che sei abbiamo avuto rapporti sessuali potrei ucciderti questo è un sì o un no sapevo che sarebbe successo dice Marla sei così scarso mi ami mi ignori mi salvi la vita poi cuoci mia madre per farne sapone mi do un pizzicotto chiedo a Marla come ci siamo conosciuti in quel posto del cancro ai testicoli dice Marla poi mi hai salvato la vita io le ho salvato la vita tu mi hai salvato la vita Tyler le ha salvato la vita tu mi hai salvato la vita mi infilo il dito nel buco della guancia e lo giro di qua e di là dovrebbe provocarmi un dolore di prima categoria da svegliarmi tu mi hai salvato la vita dice Marla al Regent Hotel avevo tentato accidentemente il suicidio ricordi oh quella notte dice Marla ho detto che volevo abortire il tuo concepito abbiamo perso pressione in cabina chiedo a Marla come mi chiamo stiamo per morire tutti quanti Marla dice Tyler Durden il tuo nome è Tyler cacca per cervello Durden divi al 5123 di Paper Street che è attualmente invasa dai tuoi piccoli discepoli che si rapano a zero e si bruciano la pelle con la lisciva devo assolutamente dormire devi tornare immediatamente qui grida Marla al telefono prima che quei piccoli troll usino me per farne sapone devo trovare Tyler la cicatrice che ha sulla mano domando a Marla come se l'è procurata tu dice Marla mi hai baciato la mano devo trovare Tyler devo dormire un po' devo devo dormire devo mettermi a dormire e do la buonanotte a Marla e le grida di Marla sono più tenue più tenue più tenue via via che allungo il braccio e riappendo il ricevitore capitolo 22 tutta notte i tuoi pensieri sono in onda sto dormendo ho mai dormito così va l'insonnia cerchi di rilassarti un po' di più ad ogni respiro ma il tuo cuore galoppa ancora i tuoi pensieri ti turbinano nella testa non c'è niente che funzioni non la meditazione guidata sei in Irlanda non la conta delle pecore conti i giorni le ore i minuti fino all'ultima volta che ricordi di esserti addormentato il tuo medico ha riso nessuno è mai morto per mancanza di sonno con quella faccia da vecchio frutto ammaccato hai l'aria di un morto alle tre di notte passate in un letto di motel a Seattle è troppo tardi per trovarti in un gruppo di sostegno di malati di cancro troppo tardi per trovare una manciata di capsuline blu di amiti al sodium o di seconda al color rossetto tutta quanta la scenografia della valle delle bambole alle tre di notte passate non puoi entrare in un fight club devi trovare Tyler devi dormire un po' poi sei sveglio e Tyler è lì nel buio vicino al letto ti svegli nel momento in cui ti stavi addormentando Tyler era lì a dire sveglia svegliati abbiamo risolto il problema con la polizia qui a Seattle svegliati il commissario voleva dare un taglio a quella che definiva un'attività da bande criminali e agli incontri pugilistici illegali dopo l'orario di chiusura ma non c'è da preoccuparsi dice Tyler il signor commissario non sarà più un problema dice Tyler ora lo teniamo per le palle chiedo a Tyler se mi pedinava buffo risponde Tyler volevo chiedere io a te la stessa cosa tu parli di me in giro stronzetto è venuto meno al giuramento Tyler si stava domandando quando lo aveva inquadrato ogni volta che ti addormenti dice Tyler io scappo a fare cose pazze qualcosa di folle qualcosa di completamente fuori di testa Tyler si inginocchia accanto al letto e bisbiglia giovedì scorso tu ti sei addormentato io ho preso un aereo e sono andato a Seattle per un piccolo sopralluogo a un fight club a controllare quanta gente era stata mandata via a cose di questo genere a cercare nuovi talenti abbiamo un progetto caos anche a Seattle la punta del dito di Tyler mi percorre la tumefazione sull'arcata sopraccigliare abbiamo il progetto caos a Los Angeles e Detroit un grosso progetto caos a Washington e a New York abbiamo un progetto caos a Chicago di quelli che non ci crederesti mai Tyler dice non riesco a credere che hai mancato al tuo giuramento la prima regola è che non si parla del fight club era a Seattle la settimana scorsa quando un barista con il collo ingessato gli ha detto che la polizia voleva chiudere il fight club ci si era messo di mezzo il commissario in persona voleva un'azione esemplare il fatto è dice Tyler che noi abbiamo poliziotti che vengono a combattere il fight club e ci provano un gran gusto abbiamo giornalisti impiegati avvocati e noi sappiamo tutto prima che avvenga volevano chiuderci almeno a Seattle dice Tyler abbiamo convocato una riunione del comitato aggressioni non ci sono più un tu e un io dice Tyler e mi pizzicotta la punta del naso credo che a questo ci sei già arrivato usiamo tutti e due lo stesso corpo ma in tempi diversi abbiamo indetto un compito speciale dice Tyler abbiamo detto portatemi i testicoli fumanti del nostro stimatissimo commissario della polizia di Seattle tal dei tali non sto sognando sì dice Tyler sì che sogni abbiamo formato una squadra di 14 scimmie spaziali e 5 di queste scimmie spaziali erano poliziotti ed eravamo noi tutte le persone presenti in giro per il parco dove questa sera il commissario va a portare a spasso il cane non temere dice Tyler il cane sta bene l'aggressione dura 3 minuti meno della nostra miglior prova generale avevamo previsto 12 minuti la prova migliore ne aveva richiesti 9 abbiamo 5 scimmie spaziali che lo bloccano questo me lo racconta Tyler ma io lo so già comunque 3 scimmie spaziali montano di guardia una scimmia spaziale gli somministra l'etere una scimmia spaziale gli ha calato gli stimati calzoni della tuta il cane è un cocker e non fa che abbaiare abbaiare e abbaiare e abbaiare e abbaiare e abbaiare una scimmia spaziale gli gira l'elastico tre volte sulla stimata saccoccia stringendogliela per bene la scimmia è tra le sue gambe con un coltello bisbiglia bisbiglia all'orecchio Tyler dalla bocca in mezzo alla faccia pestata e io bisbiglio il suo stimatissimo orecchio di commissario di polizia che è meglio che rinunci a chiudere il fight club altrimenti noi andiamo a raccontare a tutti che il nostro stimato capo della polizia non ha le palle Tyler bisbiglia fin dove pensa che potrebbe arrivare commissario l'elastico gli toglie ogni sensazione laggiù fin dove pensa di poter arrivare in politica se gli elettori sanno che è senza palle ormai il commissario ha perso ogni sensibilità cazzo che palle gelide se anche un solo fight club è costretto a chiudere spediamo le sue palle a east e a ovest una va al new york times e l'altra va al los angeles time una a ciascuno alla maniera dei comunicati stampa la scimmia spaziale gli ha staccato dalla bocca lo straccio con l'ether e il commissario ha detto di non farlo e Tyler non abbiamo niente da perdere a parte il fight club quanto al commissario lui ha da perdere tutto a noi restavano solo tutta la merda e tutte le immondizie del mondo Tyler ha fatto un cenno alla scimmia spaziale con il coltello tra le gambe del commissario Tyler ha detto pensa al resto della tua vita con la saccoccia che ti sbattacchia con dentro niente il commissario ha detto di non farlo oh no fermi mi supplico oh dio aiuto oh dio aiuto no no io dio fermo no no e la scimmia spaziale infila il coltello e fa saltare solo l'elastico sei minuti in totale ed è tutto fatto ricordati bene ha detto Tyler le persone che stai cercando di calpestare sono quelle persone da cui dipendi tu noi siamo le persone che laviamo i tuoi vestiti e cuciniamo i tuoi pasti e te li serviamo a tavola noi ti facciamo il letto noi ti proteggiamo mentre dormi noi smistiamo le tue telefonate noi siamo cuochi e tassisti e sappiamo tutto di te noi esaminiamo le tue richieste di indennizzo alle compagnie di assicurazione e gli addebiti sulla tua carta di credito noi controlliamo ogni spicchio della tua vita noi siamo i figli di mezzo della storia cresciuti dalla televisione a credere che un giorno saremo milionari e divide il cinema e il rock star ma non andrà così stiamo ora ora cominciando a capire questo fatto ha detto Tyler perciò fa poco lo stronzo con noi la scimmia spaziale ha dovuto schiacciare forte lettere sui singhiozzi del commissario per fargli perdere totalmente i sensi un'altra squadra lo ha vestito e lo ha portato a casa assieme al suo cane dopodiché toccava a lui mantenere il segreto e no non ci aspettavamo più una chiusura del fight club lo stimato commissario era a casa spaventato ma integro ogni volta che svolgiamo questi piccoli compiti dice Tyler questi uomini del fight club che non hanno niente da perdere sono un po' più coinvolti nel progetto caos inginocchiato al mio capezzale Tyler dice chiudi gli occhi e dammi la mano io chiudo gli occhi e Tyler mi prende la mano sento le labbra di Tyler sulla cicatrice del suo bacio avevo detto che se parlavi di me a mia insaputa non mi avresti più visto ha detto Tyler noi non siamo due uomini separati per farla breve quando tu sei sveglio hai il controllo e puoi chiamarmi come pare e piace ma nell'istante che ti addormenti entro in gioco io e tu diventi Tyler Durden ma abbiamo combattuto dico io la sera che abbiamo inventato il fight club non stavi veramente combattendo contro di me dice Tyler l'hai detto tu stesso stavi combattendo contro tutto quello che odi nella vita ma io ti vedo stai dormendo ma tu hai una casa in affitto hai un lavoro due lavori chiedi alla tua banca il rendiconto degli assegni che hai adesso dice Tyler ho affittato la casa a nome tuo credo che scoprirai che la scrittura sugli assegni per l'affitto corrisponde a quella dei messaggi che ti ho chiesto di battere a macchina per me Tyler ha speso i miei soldi per forza sono sempre in rosso quanto hai lavori beh chiediti perché sei sempre così stanco santo cielo non è insonnia la tua appena ti addormenti io assumo il comando e vado a lavorare o al fight club o che so io buon per te che non mi sono preso un lavoro da domatore di serpenti e Marla adora Marla ti ama Marla ama te Marla non sa distinguere tra te e me tu le hai dato il nome falso la sera che vi siete conosciuti tu non dai mai il tuo vero nome a un gruppo di sostegno merda apocrifa da quando le ho salvato la vita Marla pensa che tu ti chiami Tyler Durden ma ora che so di Tyler lui scomparirà no risponde Tyler sempre tenendomi la mano non sarei nemmeno qui se non fossi tu a volermi io vivo ancora la mia vita mentre tu dormi ma se fai il furbo con me se ti incateni a letto di notte o prendi dosi massicce di sonniferi allora saremo nemici e me la pagherai per questo ma queste sono stronzate questo è un sogno Tyler è un proiezionista è un disturbo dissociativo della personalità uno stato psicogeno di fuga Tyler Durden è la mia allucinazione tutte coglionate dice Tyler magari sei tu a essere la mia allucinazione schizofrenica io ero qui per primo Tyler dice se 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 beh allora vediamo chi è qui per ultimo questo non è reale questo è un sogno io mi sveglierò allora svegliati poi il telefono si mette a squillare e Tyler non c'è più c'è sole che attraversa le tende è la mia sveglia delle sette e quando sollevo il ricevitore la linea è muta capitolo 23 a tutta birra torno a casa ad amarla e al saponificio di Paper Street tutto sta ancora andando a pezzi a casa ho troppa paura per guardare nel frigo mi immagino decine di sacchetti di plastica con le etichette di città come Las Vegas e Chicago e Milwaukee dove Tyler ha dovuto mantenere le sue minacce nel proteggere la selezione del Fight Club in ogni sacchetto avrei trovato un paio di pezzetti raccapriccianti induriti dal congelamento in un angolo della cucina c'è una scimmia spaziale acquattata sull'inoleum screpolato a studiarsi in uno specchietto io sono la merda canterina e ballerina del mondo dice la scimmia spaziale allo specchio io sono il sottoprodotto tossico della creazione di Dio altre scimmie spaziali si aggirano per il giardino a raccogliere cose ammazzare cose con una mano sullo sportello del congelatore prendo fiato e cerco di focalizzare la mia illuminata entità spirituale pioggia su rose disney zoologia mi fanno male lo sportello del congelatore si apre di un centimetro e Marla mi sbircia da sopra la spalla e domanda che c'è per cena? la scimmia spaziale si guarda nello specchietto acquattato nell'angolo io sono la cacca e l'infetta scoria umana del creato il cerchio si chiude un mese fa avevo paura di lasciare che Marla guardasse in frigo ora ho paura di guardarci io stesso oddio Tyler Marla ama me Marla non ci distingue sono contenta che sei tornato dice Marla dobbiamo parlare oh sì dico io dobbiamo parlare non trovo la forza di aprire il congelatore io sono l'ano strizzato di tizio non toccare niente qui dentro dico a Marla non aprirlo nemmeno se mai ci trovi dentro qualcosa non lo mangiare e non darlo da mangiare al gatto o che so io la scimmia spaziale con lo specchietto in mano ci sta osservando così dico a Marla che dobbiamo andarcene dobbiamo trovare un altro posto per la nostra chiacchierata in fondo alle scale nel seminterrato c'è una scimmia spaziale che legge le altre scimmie spaziali ci sono tre modi per fabbricare napalm uno mescolare in parti uguali benzina e concentrato di succo d'arance congelato legge la scimmia spaziale nel seminterrato due mescolare in parti uguali benzina diet cola tre sciogliere ghiaia da lettiera per gatti nella benzina fino a ottenere una mistura densa io e Marla migriamo in massa dal saponificio di Paper Street a un tavolo vicino alla vetrata del pianeta Danny il pianeta arancione questa è una cosa di cui parlava Tyler dell'Inghilterra che avendo fatto tutte le sue esplorazioni e creato colonie e disegnato carte geografiche ha distribuito un po' dappertutto questa sorta di nomi inglesi di seconda mano gli inglesi hanno un nome per ogni cosa o quasi come Irlanda New London nell'Idaho New York lo stato di New York la tutta birra nel futuro così quando esploderà lo sfruttamento dello spazio profondo saranno probabilmente le mega multinazionali a scoprire tutti i grandi pianeti e a tracciarne le mappe sfera stellare IBM Galassia McDonald's pianeta Danny ogni pianeta assumerà l'identità societaria di chi lo violenta per primo mondo Budweiser il nostro cameriere ha un grosso bernoccolo sulla fronte e se ne sta dritto dritto sui tacchi uniti signore esclama il nostro cameriere vuole ordinare ora signore dice qualunque cosa ordina è offerta dalla casa signore ti figuri di sentire odore di orina in tutte le minestre due caffè grazie perché ci offre da mangiare gratis chiede Marla il cameriere crede che io sia Tyler Durden le dico in tal caso Marla ordina molluschi fritti e zuppa di frutti di mare e pesce in nassa e pollo fritto e patate al forno con tutto quello che ci sta intorno e musso al cioccolato attraverso la finestrella della cucina tre cuochi uno con il labbro superiore ricucito guardano me e Marla e bisbigliano avvicinando le tre teste ammaccate ci dia cibo pulito dico il cameriere la prego sia gentile non faccia schifezze alle cose che abbiamo ordinato in tal caso signore dice il nostro cameriere mi permetto di consigliare alla signorina di rinunciare alla zuppa di frutti di mare grazie niente zuppa di frutti di mare Marla mi guarda io le dico di fidarsi di me fidati di me attraverso la finestrella i tre cuochi mi mostrano il pollice ci sono interessanti privilegi a essere Tyler Durden commenta Marla d'ora in poi dico a Marla deve seguirmi dappertutto la sera e prendere nota di tutti i posti dove vado chi vedo se castro qualcuno di importante particolari così estrago il portafogli e mostro a Marla la mia patente con il mio vero nome non Tyler Durden ma tutti ti conoscono come Tyler Durden dice Marla tutti eccetto me nessuno al lavoro mi chiama Tyler Durden il mio capo mi chiama con il mio vero nome i miei genitori sanno chi sono allora perché sei Tyler Durden per certa gente e non per tutti vuole sapere Marla la prima volta che ho visto Tyler dormivo ero stanco e fuori di me e frenetico e ogni volta che salivo su un aereo volevo che l'aereo precipitasse invidiavo quelli che morivano di cancro detestavo la mia vita ero stanco e stufo del mio lavoro e dei miei immobili e non vedevo un modo per cambiare la situazione solo finirla mi sentivo in trappola ero troppo completo troppo ero troppo perfetto volevo una via d'uscita dalla mia vita minuscola panetti di burro da porzione singola e una stretta poltrona d'aereo per quotidianità mobilia svedese artistico funzionale mi sono preso una vacanza mi sono addormentato in spiaggia e quando mi sono svegliato lì c'era Tyler Durden nudo e sudato tutto ruvido di sabbia con i capelli bagnati e stopposi che gli pendevano dalla faccia Tyler pescava ceppi dalla risacca e li trascinava in secca quello che Tyler aveva creato era l'ombra di una mano gigantesca e Tyler si è seduto nel palmo di una perfezione di cui lui stesso era l'artefice e un momento è il massimo che puoi aspettarti dalla perfezione forse non mi sono mai veramente svegliato da quella spiaggia forse tutto questo è cominciato quando ho pisciato sulla pietra di Blarney quando mi addormento non dormo davvero agli altri tavoli del pianeta Danny conto uno due tre quattro cinque individui con gli zigomi neri e il naso appiattito che mi sorridono no dice Marla non dormi Tyler Durden è una personalità separata che ho creato io e ora minaccia di impossessarsi della mia vita intera proprio come la mamma di Tony Perkins in Psycho dice Marla fortissimo tutti hanno qualche piccolo vezzo una volta sono uscito con uno sfegatato del piercing dove voglio arrivare io le dico è che io mi addormento e Tyler se ne scappa con il mio corpo e la mia faccia appestata a commettere qualche crimine il giorno dopo mi sveglio stanco morto e tutto ammaccato e sono sicuro di non aver dormito affatto la sera dopo vado a letto più presto la sera dopo Tyler ha il sopravvento per qualche ora in più ogni sera che vado a letto prima Tyler ha più tempo a disposizione ma tu sei Tyler dice Marla no no non lo sono io io amo ogni cosa di Tyler il suo coraggio la sua astuzia il suo fegato Tyler è divertente spiritoso è forte indipendente e gli altri uomini lo ammirano e aspettano che cambi il loro mondo e Tyler è abile è libero e io e io non lo sono io non sono Tyler Durden ma lo sei Tyler dice Marla io e Tyler dividiamo lo stesso corpo e fino a poco fa io non lo sapevo tutte le volte che Tyler faceva l'amore con Marla io io dormivo Tyler camminava e parlava mentre io pensavo di dormire tutti quelli del Fight Club e del Progetto Chaos mi conoscevano come Tyler Durden e se fossi andato a dormire prima ogni sera e avessi dormito più a lungo ogni mattina alla fine sarei scomparso del tutto mi sarei addormentato e non mi sarei svegliato mai più Marla dice proprio come gli animali del centro di raccolta la valle dei cani dove anche se non ti uccidono se qualcuno ti vuole abbastanza bene da portarti a casa sua ti castrano comunque non mi sveglierei più e Tyler prenderebbe il mio posto arriva il cameriere con il caffè schiocca i tacchi e se ne va io annuso il mio caffè sa di caffè allora chiede Marla anche se dovessi credere a tutta questa storia che cosa vuoi da me perché Tyler non assuma definitivamente il controllo ho bisogno che Marla mi tenga sveglio tutto il tempo il cerchio si chiude la sera che Tyler le ha salvato la vita Marla gli ha chiesto di tenerla sveglia tutta la notte nell'attimo in cui io mi dovessi addormentare Tyler prenderebbe il mio posto e accadrebbe qualcosa di terribile e se dovesse addormentarmi lo stesso Marla deve stare dietro a Tyler dove va che cosa fa così magari durante il giorno posso correre a rimediare capitolo 24 il suo nome è Robert Paulson e ha 48 anni il suo nome è Robert Paulson e Robert Paulson avrà 48 anni per sempre dato un lasso di tempo abbastanza lungo per tutti la percentuale di sopravvivenza precipita a zero Big Bob il grosso mollaccione Buzz Adalce era impegnato in un compito regolamentare di gelo e scasso è così che Tyler si è introdotto in casa mia per farla saltare con la dinamite fabbricata in casa si prende una bomboletta spray di refrigerante R12 se lo trovi ancora con tutti i divieti per via del buco dell'ozono o R134 e lo spruzzi sul cilindro della serratura finché il meccanismo si congela in un'azione di gelo e scasso spruzzi la serratura di un telefono pubblico o di un parchimetro o di una cassetta per giornali poi usi martello e scalpello per spaccare il cilindro congelato in un'azione di gelo e scasso regolamentare si fora il telefono o la macchina di una cassa automatica poi si infila nel tubo un raccordo da ingrassaggio e si usa una pistola per grasso per pompare nell'obiettivo grasso lubrificante o crema alla vaniglia o cemento plastico non è che al progetto caos si avesse bisogno di rubare una manciata di spiccioli il saponificio di Paper Street non riusciva a stare dietro alle ordinazioni Dio ci assistesse all'arrivo della stagione delle ferie i compiti servono per consolidare la propria forza d'animo c'è bisogno di furbizia c'è da costruire il nostro investimento nel progetto caos invece di uno scalpello sul cilindro congelato si può usare un trapano elettrico funziona alla stessa maniera e fa meno rumore era un trapano elettrico a batterie che la polizia ha scambiato per una pistola quello che reggeva in mano Big Bob quando lo hanno stecchito non c'era niente che potesse legare Big Bob al progetto caos o al Fight Club o al sapone in tasca aveva solo una foto di se stesso enorme e a prima vista nudo in posa in qualche concorso da culturisti è un modo stupido di vivere aveva detto Bob e accecato dalle luci del palcoscenico e assordato dal sottofondo musicale finché il giudice non ti ordina stendi il quadricipite destro fletti e mantieni metti le mani dove possiamo vederle stendi il braccio sinistro fletti il bicipite e mantieni fermo lascia cadere la pistola questo è meglio che la vita reale sulla mano aveva la cicatrice del mio bacio il bacio di Tyler i capelli modellati di Big Bob non c'erano più rasati a zero e non c'erano più le sue impronte digitali bruciate con la lisciva gli era meglio farsi male che finire arrestati perché se sei arrestato sei fuori del progetto caos niente più compiti da svolgere eccolo lì Robert Paulson il centro caldo intorno al quale si affollava la vita del mondo e un attimo dopo ecco Robert Paulson diventato un oggetto dopo che la polizia ha sparato lo stupefacente prodigio della morte in tutti i fight club questa sera il capo sezione cammina nell'oscurità intorno agli uomini che si guardano attraverso il centro vuoto di ogni scantinato e la voce grida il suo nome è Robert Paulson e la folla grida il suo nome è Robert Paulson i capi selezioni gridano a 48 anni e la folla grida a 48 anni a 48 anni ed era un membro del fight club a 48 anni ed era un membro del progetto caos solo nella morte avremo i nostri nomi poiché solo nella morte non partecipiamo più allo sforzo collettivo nella morte diventiamo eroi e le folle gridano Robert Paulson e le folle gridano Robert Paulson e le folle gridano Robert Paulson questa sera vado al fight club a chiuderlo mi fermo sotto l'unica luce al centro della stanza e il club applaude per tutti i presenti io sono Tyler Durden intelligente forte con le palle alzo le mani per chiedere silenzio e suggerisco di chiudere qui perché non sopra sedere per questa sera andiamocene a casa per questa sera e dimentichiamoci il fight club io credo che il fight club abbia servito il proprio scopo o no il progetto caos è annullato ho sentito che c'è una bella partita di football in televisione cento uomini mi fissano in silenzio un uomo è morto dico il gioco finisce qui ora non ci si diverte più poi dall'oscurità all'esterno della gente giunge la voce anonima del capo sezione la prima regola del fight club è che non si parla del fight club a casa grido io la seconda regola del fight club è che non si parla del fight club il fight club non c'è più il progetto caos non c'è più la terza regola è due uomini per combattimento io sono tyler durden urlo e vi ordino di andarvene e nessuno mi sta guardando gli uomini si guardano l'un l'altro attraverso il centro della stanza la voce del capo sezione viaggia lenta per lo scantinato due soli uomini per ogni combattimento niente camicia niente scarpe il combattimento va avanti e va avanti e avanti finché deve immaginatevi la scena che si ripete in cento città in lingue diverse la recita del regolamento finisce e io sono ancora al centro della luce combattimento in lista numero uno presentarsi grida la voce dall'oscurità sgomberare il centro del club io non mi muovo sgomberare il centro del club io non mi muovo l'unica luce brilla nell'oscurità in cento paia di occhi tutti fissi su di me in attesa cerco di vedere ciascuno di loro nel modo in cui li vedrebbe Tyler scegliere i migliori combattenti per l'addestramento al progetto caos quali di costoro Tyler inviterebbe a lavorare al saponificio di paper street sgomberare il centro del club questa è la procedura standard del fight club dopo tre inviti da parte del capo sezione verrà espulso dal club ma io sono Tyler Durden l'ho inventato io il fight club il fight club è mio ho scritto io questo regolamento nessuno di voi sarebbe qui se non fosse per me e io dico che qui ci si ferma prepararsi a estromettere il membro in tre due uno il circolo mi piomba addosso e duecento mani mi afferrano ogni centimetro di braccia e gambe e vengo sollevato da terra e a braccia e gambe aperte vengo trasportato verso la luce prepararsi a evacuare l'anima in cinque quattro tre due uno e vengo trasferito sopra le teste da mano a mano sulla folla che ondeggia in direzione della porta galleggio volo sto gridando che il fight club è mio il progetto caos è una mia idea non potete buttarmi fuori sarò io che comando qui andatevene a casa la voce del capo sezione umbile battimento in lista numero uno prego presentarsi al centro della sala ora io non me ne vado non rinuncio posso spuntarla qui qui comando io e stromettere il membro del fight club ora evacuare l'anima ora e io volo ad agio fuori della porta e nella notte con le stelle sopra di me e l'aria fredda e atterro sul cemento del parcheggio tutte le mani si ritirano e una porta si chiude dietro di me e il meccanismo di una serratura scatta in cento città i fight club vanno avanti senza di me capitolo 25 per anni ho desiderato addormentarmi quella parte dell'addormentarsi che è spegnersi rinuncia disfacimento ora addormire è l'ultima cosa che voglio sono con Marla nella camera 8G al Regent Hotel con tutti gli vecchi e i tossici bardicati nelle loro stanzette qui in qualche modo la mia disperazione sembra normale e prevedibile qui dice Marla sedendosi a gambe incrociate sul letto e facendo saltare dal blister una mezza dozzina di pillole per rimanere svegli una volta stavo con un tizio che aveva degli incubi terribili anche lui detestava dormire che fine ha fatto quel tizio oh è è morto arresto cardiaco overdose ha preso troppe anfetamine dice Marla aveva solo 19 anni grazie tante quando siamo entrati nell'albergo al tipo nell'atrio mancavano metà capelli strappati alla radice mi ha fatto un saluto militare con quel mezzo cranio di cute rossa incrostata i vecchi che erano giù nell'atrio a guardare la tele si sono girati tutti quanti per vedere chi ero quando il tipo mi ha chiamato signore buonasera signore me lo figuro in questo istante a chiamare qualche quartier generale del progetto caos a riferire dove mi trovo avranno una cartografia gigante della città per seguire i miei movimenti con piccole puntine da disegno mi sento marcato come un'oca migratrice in wild kingdom tutti mi spiano mi registrano puoi prenderle tutte senza che ti venga mal di pancia dice marla ma devi prenderle mettendole su per il sedere oh che gradevolezza non me lo sto inventando dice marla più tardi possiamo prendere qualcosa di più forte qualche droga vera come cross top o black beauty o alligator io non mi metto queste pillole su per il culo allora prendine solo due dove andiamo? al bowling è aperto tutta la notte e lì non ti lasceranno dormire dovunque andiamo dico io quelli che mi vedono pensano che io sia Tyler Durden è per questo che l'autista ci ha fatto prendere l'autobus gratis già ed è per questo che i due in autobus ci hanno ceduto il loro posto e allora? non credo che basti a nasconderci dobbiamo fare qualcosa per liberarci di Tyler una volta uscivo con un tizio a cui piaceva mettersi i miei vestiti dice marla sai indumenti da donna cappellini con la veletta potremmo vestirti da donna per portarti in giro io non mi travesto e non mi ficco pillole nel culo c'è di peggio dice marla una volta stavo con un tizio che voleva che io fingessi una scena lesbica con la sua bambola gonfiabile mi vedevo diventare una delle storie di marla una volta stavo con un tizio che aveva una doppia personalità sono uscito con un altro che usava uno di quei meccanismi per ingrossare il pene chiedo che ore sono le quattro ancora tre ore e dovrò andare a lavorare prendi le tue pillole dice marla visto che sei Tyler Durden è probabile che ci lasciano giocare gratis ehi prima che ci sbarazziamo di Tyler perché non andiamo a fare un po' di shopping potremmo prendere una bella macchina dei bei vestiti dei cd c'è un lato positivo in tutta questa roba gratis marla ok lascia perdere capitolo 26 quel vecchio detto secondo cui uccidi sempre ciò che ami oh beh funziona in un senso o nell'altro e funziona davvero in un senso e nell'altro stamane sono andato al lavoro e c'erano le transine della polizia tra il mio palazzo e il parcheggio con i poliziotti e l'ingresso a raccogliere le deposizioni della gente con cui lavoro tutti a gironzolare non sono nemmeno sceso dall'autobus io sono il sudore freddo di tizio dall'autobus vedo le grandi vetrate al secondo piano del mio palazzo sono sfondate e dentro c'è un pompiere inimpermeabile giallo tutto sporco che sta randelando un pannello bruciacchiato nel soffitto pencolante una scrivania fumante spunta piano piano dalla finestra devastata spinta da due vigili del fuoco poi si inclina e scivola e cade in un veloce volo di due piani atterrando sul marciapiede con una sensazione più che un rumore si apre in due e fuma ancora io sono l'epigastrio di tizio è la mia scrivania so che il mio capo è morto i tre modi per fabbricare napalm sapevo che Tyler avrebbe ucciso il mio capo appena ho sentito odore di benzina sulle mani quando ho detto che volevo mollare il lavoro mi stavo dando il permesso di farlo accomodati uccidi il mio capo oh Tyler so che è saltato in aria un computer questo io lo so perché lo sa Tyler io non voglio saperlo ma si usa un trapano da gioielliere per trapanare un foro in cima al monitor di un computer è una cosa che sanno tutte le scimmie spaziali sono stato io a battere a macchina gli appunti di Tyler questa è una nuova versione della lampadina incendiaria per cui pratichi un foro in una lampadina e la riempi di benzina tappi il foro con cera o silicone e poi riabitti la lampadina nel portalampada e lasci che qualcuno entri nella stanza e accenda la luce ci sta molta più benzina in un tubo catodico in una lampadina per un tubo catodico o stacchi la gabbia di plastica che c'è intorno cosa abbastanza semplice o lavori attraverso la grata della ventola per prima cosa devi togliere la spina e isolare monitor e computer funziona alla stessa maniera con un televisore sia ben chiaro che se si verifica una scintilla anche solo l'elettricità statica prodotta dalla moquette sei fritto vai arrosto urlando un tubo catodico puoi immagazzinare fino a 300 volte di elettricità passiva perciò utilizzate un grosso cacciavite sul condensatore principale se a questo punto siate morti avete usato un cacciavite non isolato il tubo catodico è sottovuoto così nel momento in cui praticate il foro il tubo risucchierà aria come se prendesse fiato con un simbilo sottile sostituite la punta del trapano e allargate il foro due o tre volte fino a poterci infilare l'estremità di un imbuto quindi riempite il tubo con esplosivo di vostra scelta il napalm fatto in casa va benissimo benzina o benzina mescolata con succo d'arancia congelato o lettiera per gatti un esplosivo abbastanza divertente è il permanganato di potassio mescolato con zucchero a velo l'idea è di mescolare un ingrediente che brucia molto velocemente con un secondo ingrediente che fornisca abbastanza ossigeno per la combustione avviene così rapidamente che ne risulta un'esplosione perossido di bario e polvere di zinco nitrato di ammonio e alluminio in polvere la nouvelle cuisine dell'anarchia nitrato di bario in salsa di zolfo e guarnito con carbonella non c'è polvere da sparo migliore bon appetit riempite di questa sostanza il monitor del computer e quando qualcuno lo accenderà gli esploderanno in faccia due o tre chili di polvere da sparo il problema è che il mio capo mi era abbastanza simpatico se sei maschio e sei cristiano e vivi in America tuo padre è il tuo modello di dio e capita di incontrare il proprio padre sul lavoro ma a Tyler il mio capo non era simpatico la polizia cercherà me sono stato io l'ultimo a lasciare l'ufficio venerdì sera mi sono svegliato alla mia scrivania con il mio alito condensato sulla superficie e Tyler che mi diceva al telefono prendi il largo abbiamo una macchina fuori abbiamo una Cadillac ho ancora benzina sulle mani il meccanico del Fight Club mi ha chiesto che cosa desideravo di aver fatto prima di morire lasciare il mio lavoro stavo dando il permesso a Tyler accomodati ammazza il mio capo dal mio ufficio esploso continuo la corsa in autobus fino allo spiazzo ghiaioso del capolinea è dove si apre l'area lottizzata terreni edificabili che si alternano a campi arati il conducente prepara le pietanze della sua colazione al sacco e il suo termos mi guarda dal retrovisore interno sto meditando su dove i poliziotti non verrebbero a cercarmi dal fondo dell'autobus vedo una ventina di persone sedute fra me e il conducente conto 20 nucao conto 20 nucao 20 teste rasate il conducente si gira per chiamarmi signor Dorden signore sono davvero ammirato per quello che ha fatto io non l'ho mai visto prima deve scusarmi per questo dice il conducente il comitato dice che è stata un'idea tutta sua le teste rasate si voltano una dopo l'altra poi uno dopo l'altro i passeggeri si alzano uno ha uno straccio in mano e sente odore di etere etinico quello più vicino a me impugna un coltello da caccia quello con il coltello è il meccanico del Fight Club lei è un uomo coraggioso dice il conducente dell'autobus a essersi assegnato un compito da sé chiudi il becco dice il meccanico al conducente e il palo non spiccica verbo sai che c'è una delle scimmie spaziali che ha un elastico con cui stringeresti le palle si serrano davanti a me conosce le regole signor Dorden dice il meccanico lo ha detto lei stesso ha detto che se qualcuno cerca di chiudere un club fosse anche lei allora dobbiamo prenderlo per le palle gonadi gioielli di famiglia testicoli huevos immaginati la parte migliore di te congelata in un sacchetto conservato presso il saponificio di Paper Street sa che è inutile opporsi dice il meccanico il conducente mastica il suo sandwich e guarda nello specchio si sta avvicinando una sirena della polizia un trattore attraversa rumoroso un campo in lontananza uccelli un finestrino in fondo all'autobus e mezzo aperto nubi ci sono ciuffi d'erba che crescono intorno alla ghiaia nella piazzola di manovra c'è ronzio di api o mosche nell'erba siamo interessati solo a un piccolo accessorio dice il meccanico del Fight Club questa non è una minaccia questa volta no signor Durden questa volta dobbiamo tagliarle sono gli sbirri annuncia il conducente la sirena sbuca da non so dove e si ferma davanti all'autobus con che cosa dovrei oppormi un'auto di pattuglia si ferma davanti all'autobus nel parabrezza lampeggiano le luci rossa e blu qualcuno da fuori grida fermi tutti là dentro e io sono salvo super giù posso raccontare di Tyler agli sbirri dirò a loro tutto del Fight Club e forse finirò in galera e poi il progetto caos sarà problema loro e io non dovrò fissare lo sguardo su una lama di coltello i poliziotti salgono sull'autobus e il primo dice gliele avete già tagliate? il secondo poliziotto dice fate alla svelta c'è un mandato di cattura per lui poi ti toglie il berretto e a me dice niente di personale signor Durden è un piacere averla finalmente conosciuta dico io guardate che state commettendo un grosso errore ci aveva preannunciato che probabilmente avrebbe detto così io non sono Tyler Durden ci aveva avvertiti che avrebbe detto anche questo cambio le regole potete tenervi il Fight Club ma non castreremo nessuno mai più già 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 dice il meccanico è a metà del corridoio centrale con il coltello in mano ci ha avvertiti che avrebbe senz'altro detto anche questo d'accordo allora io sono Tyler Durden sono io sono Tyler Durden e detto io le regole e dico che devi mettere giù quel coltello il meccanico si gira qual è il nostro record finora per un taglia e fuggi quattro minuti risponde qualcuno qualcuno sta cronometrando domanda il meccanico ora sono saliti a bordo entrambi i poliziotti e uno guarda all'orologio e dice un momento aspetta che la lancetta dei 9 secondi arrivi sul 12 lo sbirro conta 9 8 7 mi lancio verso il finestrino urto con lo stomaco il sottile profilo di metallo e dietro di me il meccanico del Fight Club grida signor Durden così ci fa perdere il record sporgendomi dal finestrino annaspo sulla gomma nera della ruota posteriore afferro il bordo del mozzo e tiro qualcuno mi prende per i piedi mi tira dall'altra parte grido al piccolo trattore in lontananza ehi ehi la faccia mi si gonfia scotta piena di sangue sono appeso a testa in giù mi tiro fuori un po' le mani che mi tengono per le caviglie mi tirano indietro la cravatta mi dondola in faccia la fibia della cintura mi si impiglia nel finestrino con le api e le mosche e i ciuffi d'erba a pochi centimetri dalla faccia grido ehi altre mani mi afferrano per i pantaloni mi trascinano all'indietro mi fanno scivolare pantaloni e cintura sul sedere qualcuno dall'interno dell'autobus grida un minuto le scarpe si sfilano dai piedi la fibbia si libera dal finestrino le mani mi chiudono le gambe il telaio del finestrino mi taglia il ventre caldo di sole la camicia bianca si gonfia e mi avvolge testa e spalle io sono ancora aggrappato al profilo del mozzo della ruota sto ancora gridando ehi ho le gambe dritte allungate dietro di me sento i calzoni scivolarmi via il sole mi scalda il sedere il sangue mi martella la testa la pressione mi fa strabuzzare gli occhi vedo solo la camicia bianca che ho davanti alla faccia sento il trattore le api da qualche parte tutto è a un milione di miglia di distanza a un milione di miglia di distanza dietro di me qualcuno grida due minuti e una mano mi si infila tra le gambe e mi cerca non fargli male dice qualcuno le mani che mi tengono le caviglie sono a un milione di miglia le immagini in fondo a una strada lunga lunghissima meditazione guidata non pensare al finestrino come a un coltello rovente e poco affilato che ti squarcia la pancia non pensare a una squadra di uomini che giocano al tiro alla fune con le tue gambe a un milione di miglia un fantastiliardo di miglia una mano rude e calda ti afferra per le estremità e ti tira all'indietro e qualcosa ti stringe sempre di più sempre di più un elastico sei in Irlanda sei al Fight Club sei al lavoro sei in qualche posto ma non qui tre minuti qualcuno in lontananza grida conosce la regola signor Dorden lascia in pace il Fight Club la mano calda ti contiene la punta fredda del coltello un braccio di cintura alla vita contatto fisico terapeutico l'abbraccio e ti senti l'etere schiacciato sul naso e bocca con forza poi niente meno di niente oblio capitolo 27 il guscio esploso del mio appartamento carbonizzato è spazio siderale nero e devastato nella notte sopra le piccole luci della città senza le finestre un nastro giallo della polizia si arricce e svolazza sul ciglio del precipizio di quindici piani mi sveglio sulla soletta in calcestruzzo una volta c'erano assicelle di acero c'era arte appesa alle pareti prima dell'esplosione c'erano mobili svedesi prima di Tyler sono vestito mi metto una mano in tasca e tasto sono tutto intero spaventato ma integro vai in fondo al pavimento quindici piani sopra il parcheggio e guarda le luci della città e le stelle e non ci sei più è tutto così oltre noi quassù nelle migliaia di notti tra le stelle e la terra mi sento in tutto e per tutto come quegli animali spaziali cani scimmie uomini hai solo da fare il tuo piccolo lavoro tiri una leva premi un bottone fai senza capirci niente il mondo impazzisce il mio capo è morto la mia casa non c'è più il mio lavoro non c'è più e il responsabile di tutto questo sono io non resta niente sono in rosso in banca barca il ciglio il nastro della polizia sventola tra me e l'oblio barca il ciglio cos'altro c'è barca il ciglio c'è marla salta oltre il ciglio c'è marla e lei è nel mezzo di tutto quanto e non lo sa e ti vuole bene vuole bene a Tyler non riconosce la differenza qualcuno deve dirglielo via 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 salvati prendi l'ascensore per scendere nell'atrio e il portiere a cui non sei mai stato simpatico ora ti sorride con un buco di tre denti nella bocca e ti dice buonasera signor Durden vuole che le chiami un tassi si sente bene ha bisogno del telefono chiami marla al regent hotel dal regent ti rispondono immediatamente signor Durden poi c'è marla il portiere ascolta dietro la mia spalla probabilmente è in ascolto anche l'impiegato del regent marla dici dobbiamo parlare marla risponde vai a mangiare merda potresti essere in pericolo dici tu è giusto che sappia che cosa sta succedendo deve incontrarsi con te e dovete parlare dove che vada nel posto dove ci siamo conosciuti ricordi pensaci bene la bianca sfera di luce guaritrice il palazzo delle sette porte ho capito dice lei posso esserci in venti minuti mi raccomando riappendi e il portiere dice se vuole le chiama un tassi signor Durden corsa gratis per dove vuole i ragazzi del fight club ti stanno dando la caccia no rispondi è una bella nottata credo che andrò a piedi è sabato sera è la sera del cancro intestinale nello scantinato della first methodist e quando arrivi marla c'è già marla singer ti alza lo sguardo al soffitto marla singer con un occhio nero ti siedi di fronte a lei sul tappeto folto nel circolo della meditazione e cerchi di evocare il tuo animale dalla forza mentale marla ti osserva torva con il suo occhio nero tu chiudi gli occhi e mediti volto al palazzo delle sette porte e ancora ti senti addosso il cipiglio di marla prendi fra le braccia il tuo bimbo interiore marla ti fissa severa poi è il momento dell'abbraccio apri gli occhi ciascuno scelga un partner marla attraversa la stanza in tre rapidi passi e mi schiaffeggia in faccia partecipa con tutto te stesso merdoso fottuto pezzo di stronzo dice marla intorno a noi tutti ci guardano poi i pugni di marla mi si avventano addosso da tutte le direzioni hai ammazzato qualcuno strilla lei ho chiamato la polizia e saranno qui da un momento all'altro la ferro per i polsi forse la polizia verrà le dico ma probabilmente no marla si divincola e dice che la polizia si sta precipitando per legarmi alla sedia elettrica e cuocermi le palle degli occhi o praticarmi almeno un'iniezione letale sarà come una puntura di vespa una dose massiccia di feno barbiturico di sodio e poi il grande sonno stile valle dei cani marla dice che oggi mi ha visto uccidere un tale se intende il mio capo rispondo sì 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 lo so la polizia lo sa già tutti mi stanno braccando per iniettarmi letalmente ma è stato Tyler a uccidere il mio capo è per puro caso che Tyler e io abbiamo le stesse impronte digitali ma non lo capisce nessuno vai a mangiare merda dice marla e mi ficca in faccia il suo occhio nero solo perché tu e i tuoi piccoli discepoli provate gusto a farvi picchiare se ti azzarti a toccarmi di nuovo sei morto ti ho visto sparare a un uomo stasera dice marla no era una bomba dico io ed era stamattina Tyler ha fatto un buco in un monico e l'ha riempita di benzina o polvere nera tutti quelli che sono veramente malati di cancro all'intestino ci sono intorno e ci guardano no dice marla ti ho seguito al pressman hotel e tu facevi il cameriere a una di quelle feste con delitto le feste con delitto gente ricca che viene in albergo per un banchetto in una messa in scena da racconto di agatha christie certe volte tra la mousse di salmone marinato e la sella di cervo le luci si spengono per un minuto e qualcuno finge di essere vittima di un omicidio dovrebbe essere una morte solo apparente un momento di divertimento per il resto della cena gli ospiti si ubriacano e mangiano il loro consomma alla maldera e cercano gli indizi per scoprire chi tra loro è un killer psicopatico hai ucciso il consulente speciale del sindaco al riciclaggio Tyler ha ucciso il consulente speciale del sindaco a non so cosa e non hai nemmeno il cancro succede così in un lampo uno schiocco di dita tutti a guardare non hai il cancro nemmeno tu grido io sono due anni che viene qui urla Marla e non ha un bel niente sto cercando di salvarti la vita che cosa perché la mia vita avrebbe bisogno di essere salvata perché tu mi hai seguito perché mi hai seguito questa sera perché hai visto Tyler che uccideva qualcuno e Tyler uccide chiunque porti minaccia al progetto caos tutti i presenti sono strappati di incanto alle loro piccole tragedie i loro piccoli tumori persino quelli che prendono farmaci dolorosi hanno gli occhi sgranati e allerta mi dispiace dico alla folla non ho mai avuto intenzione di fare del male ora dobbiamo andare dobbiamo parlare di questo fuori e tutti no restate sentiamo io non ho ucciso nessuno dico io non sono Tyler Durden lui è l'altra metà della mia personalità sdoppiata chiedo io ma non c'è nessuno qui che abbia visto il film Sibyl allora chi dovrebbe uccidere me vuole sapere Marla Tyler tu Tyler dico io ma posso occuparmi io di Tyler tu devi solo guardarti dai membri del progetto Chaos può essere che Tyler abbia dato loro l'ordine di seguirti o di rapirti o che so io perché dovrei credere a una storia del genere succede così in un lampo perché credo di volerti bene di amarmi no chiede Marla è un momento già abbastanza complicato così dico io non pretendere troppo tutti quelli che ci guardano sorridono devo andare devo uscire da qui dico io attenzione a gente con la testa rasata o con la faccia rotta occhi neri denti mancanti gente di questo genere ma tu dove vai chiede Marla devo occuparmi di Tyler Durden capitolo 28 il suo nome era Patrick Madden consulente speciale del sindaco al riciclaggio il suo nome era Patrick Madden ed era il nemico del progetto caos esco nella notte intorno alla First Methodist e tutto ritorna tornano tutte le cose che Tyler sa Patrick Madden stava compilando una lista dei bar dove ci sono i fight club tutto a un tratto so come azionare un proiettore so come forzare le serrature e come ha fatto Tyler ad affittare la casa di Paper Street poco prima di rivelarsi a me sulla spiaggia so perché Tyler è accaduto Tyler amava Marla dalla prima sera che l'ho vista Tyler o qualche parte di me ha sentito il bisogno di raggiungere Marla non che niente di questo abbia importanza non ora ma tutti i particolari mi tornano alla mente finché attraverso la notte a piedi diretto al fight club più vicino il sabato sera c'è un fight club nello scantinato dell'armory bar lo troverete probabilmente sulla lista che stava compilando Patrick Madden povero caro Patrick Madden questa sera vado all'armory bar e la gente si apre come una cerniera lampo quando entro io per tutti io sono Tyler Dorden il grande e potente Dio e padre tutto attorno a me sento buonasera benvenuto al fight club grazie di aver scelto noi eccomi con la mia faccia da mostro che comincia a guarire solo ora il buco nella mia faccia che sorride attraverso la mia guancia un broncio nella mia bocca vera perché io sono Tyler Dorden e potete baciarmi il culo per questa sera mi metto in lista per combattere contro tutti i partecipanti al club 50 combattimenti un combattimento alla volta senza scarpe senza camicia i combattimenti andranno avanti per quanto devono e se Tyler ama Marla io amo Marla e quello che succede non succede a parole voglio soffocare tutte le spiagge della costa azzurra che non vedrò mai pensa a cacciare gli alci nelle valli boscose intorno al Rockefeller Center nel primo combattimento il mio avversario mi blocca in una Elson e mi legna la faccia mi legna la guancia mi legna il buco della guancia contro il pavimento di cemento finché mi saltano i denti dalla mandibola e le loro radici aguzze mi si conficcano nella lingua ora ricordo Patrick Madden morto per terra la sua mogliettina una ragazzina con chignon sua moglie rideva e cercava di versare champagne tra le labbra del marito morto sua moglie diceva che il sangue falso era troppo rosso proprio troppo la signora Madden ha intinto due dita nel sangue accanto al marito e si è portata le dita alla bocca con i denti piantati nella lingua sento il sapore di sangue la signora Madden ha sentito il sapore del sangue ricordo la festa con delitto io ai margini della festa con le scimmie spaziali vestite da camerieri a proteggermi nel suo vestito con il disegno a rose scure da tappeziere Marla guardava dal fondo della sala da ballo nel mio secondo combattimento l'avversario mi pianta un ginocchio tra le scapole mi tira entrambe le braccia all'indietro e mi sbatte il petto contro il pavimento di cemento su un lato sento lo schiocco della clavicola mi farei Elgin Marbles a colpi di maglio e mi pulirei il culo con la gioconda la signora Madden con due dita alzate rosse di sangue il sangue che le riempiva gli spazi tra i denti e il sangue che le scorreva lungo le dita giù per il polso sui braccialetti di diamanti fino al gomito da dove gocciolava terzo combattimento mi sveglio ed è ora del combattimento numero 3 non ci sono nomi al fight club tu non sei il tuo nome tu non sei la tua famiglia il numero 3 sembra sapere che cosa mi accorre e trattiene la mia testa nel buio e nel soffocamento c'è una presa che ti lascia giusto l'aria per restare sveglio il numero 3 mi tiene la testa nella piega del braccio come se tiene un bambino o un pallone nella piega del braccio e mi martella la faccia con il pugno stretto finché i denti non mi si affondano nell'interno della guancia finché il buco che ho nella guancia non incontra l'angolo della mia bocca e i due si uniscono in un soghigno frastagliato che mi si apre da sotto il naso fin sotto l'orecchio il numero 3 mi pesta finché ha tutta la mano sbucciata finché mi metto a piangere tutto quello che hai amato ti respinge e muore tutto quello che hai creato sarà gettato via tutto quello di cui sei orgoglioso finirà in immondizia io sono Osimandaias re dei re un altro cazzotto e i denti mi si richiudono sulla lingua mezza lingua casca per terra e una pedata la fa volare via la mogliettina si è inginocchiata accanto al corpo del marito e i ricchi quelli che chiamavano amici incombono intorno a lei ubriachi e ridono Patrick ha chiamato lei la mogliettina la pozza di sangue si è allargata sempre di più fino a lambire la sottana Patrick dice lei ora basta smettila di fare il morto il sangue le insuppa loro della sottana azione capillare trama dopo ordito su per la sottana intorno a me gli uomini del progetto caos stanno gridando poi si mette a gridare la signora Madden e nello scantinato dell'armory bar Tyler Durden si accascia a terra in un tiepido grovigno Tyler Durden il grande che è stato perfetto per un solo momento che diceva che un momento è il massimo che puoi aspettarti dalla perfezione e il combattimento va avanti perché io voglio essere morto perché solo nella morte abbiamo un nome solo nella morte facciamo più parte del progetto caos capitolo 29 Tyler è qui in piedi perfettamente bello un angelo nella sua onnibiondezza la mia volontà di vivere mi stupisce io sono un sanguinolento campione di tessuto che si va asciugando sul nudo materasso nella mia camera al saponificio di Paper Street non c'è più niente in camera mia il mio specchio con la foto del mio piede del tempo in cui ho avuto il cancro per 10 minuti peggio del cancro lo specchio non c'è più la porta dell'armadio a muro è aperta e le mie 6 camicie bianche i calzoni neri la biancheria intima le mutande e le scarpe non ci sono più Tyler dice alzati sotto e dietro e dentro tutto quello che davo per scontato è andato crescendo qualcosa di orribile tutto è andato a pezzi le scimmie spaziali hanno sgomberato tutto è stato trasferito il grasso della liposuzione le brande il denaro specialmente il denaro è rimasto solo il giardino e la casa Tyler dice l'ultima cosa che dobbiamo fare è il tuo martirio la tua morte importante non morte come qualcosa di triste e deprimente questa sarà morte come qualcosa di allegro e fortificante oh Tyler ho male uccidemi qui alzati uccidemi adesso uccidemi 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 deve essere grandioso dice Tyler pensa tu sulla cima dell'edificio più alto del mondo l'edificio intero sotto il controllo del progetto chaos il fumo che si alza dalle finestre le scrivanie che precipitano sulla folla in strada un melodramma di morte ecco cosa avrai no dico io mi hai usato abbastanza se non collabori andremo a cercare Marla fammi strada gli dico ora alzati dal letto ha detto Tyler tira su quel culo e schiaffalo in macchina è così che io e Tyler siamo sulla cima del Parker Morris building io con la pistola infilata in bocca siamo ai nostri ultimi dieci minuti fra dieci minuti il Parker Morris building non ci sarà più questo lo so perché lo sa Tyler con la canna della pistola schiacciata contro la mia faringe Tyler dice non moriremo sul serio io sposto con la lingua la canna della pistola contro la mia guancia superstite e gli dico Tyler gli dico tu stai pensando ai vampiri siamo ai nostri ultimi otto minuti la pistola è solo nel caso arrivino troppo presto gli elicotteri della polizia agli occhi di dio qui c'è solo un uomo che si tiene una pistola in bocca ma è Tyler che regge la pistola e la vita è la mia prendi una concentrazione di acido nitrico al 98% e lo unisci a un quantitativo triplo di acido solforico ottieni nitroglicerina 7 minuti mescoli la nitro con la segatura e hai dell'ottimo esplosivo plastico molte delle scimmie spaziali mescolano alla loro nitro del cotone e aggiungono sale inglesi come solfato funziona anche così certe scimmie usano paraffina da mescolare con la nitro la paraffina non ha mai e poi mai funzionato con me 4 minuti poi qualcuno grida aspetta ed è Marla che viene verso di noi sul tetto Marla che viene verso di me solo me perché Tyler non c'è più poff Tyler è la mia allucinazione non la sua pulminio come un trucco di magia Tyler è scomparso e ora io sono un uomo solo che si tiene una pistola in bocca ti abbiamo seguito grida Marla tutti quelli del gruppo di sostegno non devi farlo metti via quella pistola dietro Marla tutti i cancri intestinali i parassiti cerebrali i melanomi i tubercolotici che camminano claudicano spingono le ruote delle loro carrozzelle vengono verso di me stanno dicendo aspetta le loro voci mi giungono sul vento freddo a dirmi fermo e possiamo aiutarti noi lascia che ti aiutiamo dal cielo giugge l'op degli elicotteri della polizia via grido io via da qui questo palazzo sta per esplodere Marla grida lo sappiamo per me questo è un momento di totale epifania non mi sto uccidendo grido sto uccidendo Tyler io sono il chiodo fisso di tizio ricordo tutto non è amore o niente del genere urla Marla ma credo di volerti bene anch'io un minuto Marla vuole bene a Tyler no voglio bene a te no voglio bene a te grida Marla so la differenza e niente niente esplode con la canna della pistola affondata nella mia guancia superstite Tyler dico hai mescolato paraffina nella nitro lo so la paraffina non ha mai funzionato devo fare da me gli elicotteri della polizia e premo il grilletto capitolo 30 dentro la casa di mio padre ci sono molti palazzi naturalmente quando ho premuto il grilletto sono morto bugiardo ed è morto Tyler con gli elicotteri della polizia che ci piombano addosso e Marla e tutti quelli del gruppo di sostegno che non hanno potuto salvare se stessi con tutti loro che cercano di salvare me ho dovuto premere il grilletto è stato meglio che la vita vera e il tuo solo momento perfetto non durerà per sempre tutto in paradiso è bianco su bianco imbroglione tutto il paradiso è scarpe silenziose con la suola di para in paradiso si dorme la gente mi scrive in paradiso e mi dice che sono ricordato che sono il loro eroe migliorerò gli angeli qui sono del tipo vecchio testamento legioni e luogotenenti un ospite celeste che lavora in turni di giorno di notte cimitero ti portano i pasti su un vassoio con un bicchiere di carta pieno di medicina il servizio scenico della valle delle bambole ho incontrato Dio dietro la sua grande scrivania di noce con i diplomi appesi alla parete alle sue spalle e Dio mi chiede perché? perché ho provocato tanto dolore? non mi sono reso conto che ciascuno di noi è un sacro irripetibile fiocco di neve di speciale irripetibile specialità non vedo come siamo tutti manifestazioni di amore io guardo Dio alla sua scrivania che prende appunti su un bloc notes ma Dio non ha capito un bel niente noi non siamo speciali non siamo nemmeno merda o immondizia noi siamo noi siamo soltanto e quello che succede succede soltanto e Dio dice no non è così sì beh sia come sia a Dio non si riesce a insegnare nulla Dio mi chiede che cosa ricordo ma ricordo tutto il proiettile che parte dalla pistola di Tyler mi squarcia l'altra guancia e mi procura un sorriso frastaiato da un orecchio all'altro sì proprio come quello di una zucca di Halloween demone giapponese drago di cupidigia Marla è ancora sulla terra e mi scrive un giorno mi dice mi riporteranno giù e se ci fosse un telefono in paradiso chiamerei Marla dal paradiso e appena mi dice pronto non riattaccherei direi ciao come va raccontami tutto tutto ma io non voglio tornare giù non ancora perché 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 di tanto in tanto qualcuno mi porta il mio vassoglio con il pasto e le medicine e ha un occhio nero o un gonfiore sulla fronte con tutti i punti e mi dice sentiamo la sua mancanza signor Durden oppure passa qualcuno accanto a me spingendo uno spazzolone e sussurra fa tutto secondo i piani sussurra distruggeremo la civiltà per poter cavare qualcosa di meglio dal mondo sussurra non vediamo l'ora di riaverla con noi di riaverla di riaverla di riaverla di riaverla di riaverla la civiltà di riaverla Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.